La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente verbale della seduta del 19 dicembre 2023 numero 138 la presidenza dei vicepresidenti ronzulli castellone aperta la seduta l'ora 603 si legge si approva il processo verbale della seduta del 18 dicembre 2023 il presidente dalle comunicazioni specificate in allegato al resoconto il senato passa la discussione del disegno di legge numero 936 di conversione in legge del decreto legge 15 novembre 2023 numero 161 recante disposizione urgente per il piano mattei per lo sviluppo in stato del continente africano il relatore speranzo autorizzato dal presidente svolge la relazione orale in sede di discussione generale prendono la parola i senatori idreosto orso marso trevisi irto pellegrino schalfarotto aurora floridia paroli lorefici derri e petrucce replica il relatore speranzo sugli emendamenti ordine del giorno relativi al testo del decreto intervengono i senatori marton magni lorefici enrico borghi patuanelli giorgio spatton del rio e sull'ordine di lavori senatore zaffini nonché il relatore speranzone sottosegretario di stato la presidenza del consiglio dei ministri castiello tutti gli emendamenti di ordine al giorno posti voti sono respinti con votazione nominale elettronico ritirati o dichiarati preclusi con votazione elettronica previ interventi del relatore speranzo del sottosegretario castielli altresì respinto l'emendamento decimo 1.1 all'articolo unico del disegno di legge di conversione il presente comunica che come carta la conferenza di capigruppo per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori salditi spagnoli enrico borghi aurora floridi a zanetti marton paganelli alfieri barcaiuolo con votazione nominale elettronica e quindi approvato l'articolo unico del disegno di legge di conversione nel testo proposto della commissione il presidente comunica determinazioni assunte della conferenza di capigruppo in ordine a calendario dei lavori dell'assemblea su argomenti non è scritto e loro della giorno intervengono infine i senatori zambito e scalfarotto il presidente averte che il senato tornerà a rionese in seduta pubblica mercoledì 20 dicembre 2023 all'ora 10 con l'ordine del giorno di guida lettura l'istituto è tolta alle ore 20 21 grazie poiché non vi sono osservazioni processo verbale si intende approvato l'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal senato nonché ulteriori comunicazioni all'assemblea saranno pubblicati nell'allegato b al resoconto della seduta odierna informo che all'inizio della seduta il presidente del gruppo movimento 5 stella ha fatto pervenire ai sensi dell'articolo 113 comma 2 del regolamento la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta l'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge disposizione organiche per la valorizzazione la promozione e la tutela del made in italy approvato dalla camera dei deputati collegato alla manovra di finanza pubblica la relatrice senatrice fallucchi ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale a lei la parola senatrice grazie presidente grazie presidente colleghi membri del governo il provvedimento che ci accingiamo ad esaminare il ddl made in italy è certamente un provvedimento cardine soprattutto per la politica industriale del nostro paese un provvedimento strutturale e strategico per tutelare e valorizzare il nostro marchio nel mondo il made in italy il disegno di legge numero 958 reca disposizioni organiche per la valorizzazione la promozione e la tutela del made in italy ed è stato approvato dalla camera dei deputati il 7 dicembre 2023 trasmesso il successivo 11 dicembre e assegnato nella stessa data alla nona commissione in sede refrente il disegno di legge costa di 59 articoli l'articolo 1 chiarisce che le norme in esame sono volte a valorizzare le produzioni d'eccellenza le bellezze storico artistica e le radici culturali nazionali ai fini identitari per la crescita dell'economia nazionale nell'attuazione delle disposizioni recate dal disegno di legge ai sensi di quanto prevede l'articolo 2 le amministrazioni centrali e locali sono chiamate a orientare la propria azione e le relative misure di incentivazione ai principi del recupero delle tradizioni della valorizzazione dei mestieri alla promozione del territorio e della bellezza delle bellezze naturali e artistiche nonché del turismo le stesse amministrazioni sono tenute ad assicurare che le misure di incentivazione che caratterizzano e qualificano la loro azione siano coerenti con i principi della sostenibilità ambientale della digitalizzazione ed eco innovazione dell'inclusione sociale e della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile l'articolo 3 istituisce la giornata nazionale del made in italy per celebrare la creatività e l'eccellenza italiana l'articolo 4 modificato durante l'esame parlamentare alla camera sostituisce istituisce nello stato di previsione del meff il fondo nazionale del made in italy con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024 con finalità di sostegno alla crescita al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali anche il riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e allo sviluppo di modelli di economia circolare il fondo incrementato con risorse provenienti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ed autorizzato a investire a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di stato nel capitale di società per azioni anche quotate e anche in forma cooperativa purché aventi sede legali in italia e non operanti nel settore bancario finanziario o assicurativo il metodo di attuazione delle operazioni finanziarie del fondo le condizioni di intervento e l'individuazione del veicolo di investimento nelle relative risorse sono affidate un decreto del ministro e dell'economia delle finanze di conterto con il ministro delle imprese del made in italy l'articolo 5 istituisce un'apposita riserva per un importo di 15 milioni di euro a valere sulle disponibilità del fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del 30 novembre 2004 destinata al finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili l'articolo 6 prevede per l'anno 2024 la concessione alle start up innovative alle micro imprese dei voucher 33 d'uno investire in innovazione previsto dal decreto legge numero 34 del 2019 per l'acquisizione di servizi di consulenza utili all'ottenimento di un brevetto l'articolo 7 inserito alla camera dei deputati obbliga l'impresa titolare o licenziaria di un marchio registrato da almeno 50 anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo di almeno 50 anni che intenta cessare definitivamente l'attività svolta a notificare preventivamente al mimiti le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività e i motivi che impongono la medesima cessazione in caso di notifica al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale ed evitare la loro estinzione viene consentito al mimiti di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso per i marchi che risultano non utilizzati da almeno cinque anni il mimit può depositare a proprio nome domanda di registrazione del marchio il ministero è autorizzato ad utilizzare i marchi suddetti esclusivamente in favore di imprese anche estere che intendano investire in italia o trasferire in italia attività ubicate all'estero l'articolo 8 come modificato dalla camera dei deputati introduce alcune misure a sostegno della filiera nazionale del legno e delle imprese della filiera della prima lavorazione del legno viene previsto in primo luogo che il mimit d'intesa col masaf promuova lo sviluppo della certificazioni della gestione forestale sostenibile e sostenga la vivaistica forestale la creazione e rafforzamento di imprese boschive dell'industria della prima lavorazione del legno a tal fine autorizzando la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione nel medesimo anno di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamento a tasso agevolato per 10 milioni di euro il comma 3 come modificato dalla camera rega inoltre norme di coordinamento normativo in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione per gli interventi silviculturali l'articolo 9 introdotto dalla camera dei deputati prevede che il masaf al fine di valorizzare la filiera degli oli di oliva vergine definisca con proprio decreto non regolamentare nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale le modalità di registrazione delle consegne delle olive da olio ai frantoli oleari le predette consegne e registrazioni devono avvenire nel termine di sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori l'articolo 8 scusi l'articolo 10 modificato dalla camera dei deputati prevede che il mimic promuove e sostenga gli investimenti sul territorio nazionale la ricerca la sperimentazione la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in italia di fibre testili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo la lunghezza di vita il riutilizzo la biologicità e l'impatto ambientale l'articolo 11 inserito nel corso dell'esame alla camera stanza 5 milioni di euro nel 2023 10 milioni di euro nel 2024 per la promozione di investimenti nel territorio nazionale finalizzate la transizione ecologica e digitale del settore testile nella moda e degli accessori l'articolo 12 prevede una misura di semplificazione per la nautica da diporto disponendo la riduzione del termine di da 60 a 7 giorni per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto presso lo sportello telematico del diportista l'articolo 13 introdotto dalla camera dei deputati istituisce un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica l'articolo 14 introdotto alla camera consente di scrivere i natanti da diporto nell'archivio telematico centrale mediando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio la norma consente altresì soggetti italiani possessori di natanti in navigazioni in acque territoriali straniere di attestare il possesso la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione l'articolo 15 prevede l'articolo prevede l'individuazione con decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del mimit delle aree di interesse strategico nazionale l'articolo 16 prevede l'adozione da parte del ministro delle imprese dei made in italy di linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità l'articolo 17 istituisce presso il mimit una commissione tecnica avendo la finalità di effettuare indagini approfondimenti tecnici e ridigere linee guida l'articolo 18 il cui testo è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame presa alla camera comma 1 istituisce il percorso liceale del made in italy che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei al fine di promuovere in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro le conoscenze le abilità e le competenze connesse al made in italy l'articolo 19 dispone la costituzione della fondazione denominato denominata imprese e competenze per il made in italy la fondazione il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in italy vi comprese quelle titolari di marchi storici e licee del made in italy di diffondere la cultura di impresa del made in italy tra gli studenti nonché di favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro l'articolo 20 istituisce l'esposizione nazionale permanente del made in italy affidando nella cura e la gestione alla fondazione imprese e competenze per il made in italy l'articolo 21 al comma 1 stabilisce che il ministero della cultura in via generale il masaf nonché le altre amministrazioni per gli specifici profili di rispettiva competenza promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del paese l'articolo 22 consente agli istituti e ai luoghi della cultura di registrare marchio che li caratterizza di concederne l'uso a terzi a titolo oneroso al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento l'articolo 23 prevede al comma 1 che il ministro della cultura stipuli protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione della gestione ok vado avanti do per letti allora gli articoli e consegno alla presidenza perché non ce la faccio materialmente la ringrazio la ringrazio la ringrazio presidente grazie grazie dichiaro quindi aperta la discussione generale è scritto a parlare il senatore nave nella facoltà vale la parola grazie presidente colleghi con l'espressione esiste un'espressione in inglese quella quell'idioma tanto amato da uno dei parlamentari della maggioranza che però caratterizza uno dei ministeri del governo meloni ed è il made in italy è un'espressione presidente utilizzata dagli anni 80 che caratterizza e racchiude il patrimonio culturale la filosofia produttiva e l'impronta di qualità del nostro paese è il superpotere dell'italia presidente pensate tre persone su quattro acquistano un prodotto unicamente se conoscono la provenienza il paese di provenienza è il cosiddetto effetto si o e c'è il country of origin effect ebbene la vocazione manifatturiera del nostro paese è talmente apprezzata nel mondo da considerare il brand made in italy uno dei più importanti a livello globale ora in concreto il luogo in cui viene prodotto il l'eccellenza la delivery realizzato viene inflisce notevolmente profondamente sulla sua essenza ogni regione possiede una peculiare identità culturale e strutturale che sostanzialmente si riflette poi sul prodotto finale sotto questo profilo presidente l'italia detiene uno dei patrimoni storico culturali più importanti al mondo la sua lunga profonda storia unitamente alla peculiarità del suo settore agroalimentare la è uno dei paesi più visitati al mondo ora l'indicazione del made in italy può essere applicata ad un prodotto quando questo viene o unicamente definito all'interno dell'italia o costruito a metà c'è un pezzo viene fornito dall'esterno all'estero e poi solo quando rientra in italia quindi c'è quel famoso criterio dell'origine docanale non preferenziale c'è laddove viene prodotto l'ultimo pezzo viene apposto poi l'etichetta del paese di origine ed è qui presidente che bisogna apporre la massima attenzione perché la robustezza del made in italy risiede infatti proprio nell'originalità nella qualità e nella perfezione e nel pregio delle creazioni italiane in diversi settori tra cui moda arredamento alimentari meccanica artigianato e direi anche nella fornitura della posa in opera però presidente mi chiedo e vi chiedo se a fronte dell'incremento esponenziale dei casi di contraffazione e di plagio del nostro brand se effettivamente le risorse messe a disposizione non siano esigue ebbene sì presidente sono esigue eppure per un provvedimento in cui il made in italy ne è proprio il vessillo e lo dico senza mezzi termini non solo le risorse sono esigue ma vengono spostate da un capitolo all'altro con il classico gioco delle tre carte dove però tutti perdono eppure presidente mentre noi ci troviamo nella sagralità di quest'aula sappiamo e questo lo certificano i report della guardia di finanza che ci sono milioni migliaia di aziende nel mondo che sfruttano illecitamente il marchio del made in italy e noi per tutta risposta il governo meloni propone un testo che sta unicamente di zibaldone leopardiano dove si parla di tutto e di niente pensato male è scritto anche peggio presidente e al netto di questa sterile operazione elettorale l'ennesima per dire la verità presidente ci si trova ancora indietro rimanente totalmente inerte innanzi alle minacce che provengono dai competitor internazionali e da chi cerca poi di scipparci il nostro orgoglio nazionale c'è un tema poi che va affrontato ed è quello della competitività presidente perché al netto delle minacce truffaldine è anche vero che la nostra industria deve evolversi e per essere competitivi bisogna essere digitali presidente la digitalizzazione quella fortemente voluta e sostenuta dal governo di giuseppe conte è essenziale per rimanere ancorati a questo villaggio globale perché restarne può restarne restarne fuori anche minimamente non comporta che svantaggi sia dalla vendita che della pubblicità urge quindi un cambiamento di passo un incremento delle infrastrutture digitali e soprattutto presidente un maggior intervento dello stato per far sì che queste aziende possano attaccare la spina ai processi produttivi capaci di incrementare l'efficienza e l'efficacia del nostro tessuto imprenditoriale le aziende italiane presidente hanno la necessità di avere una un'infrastruttura di rete che permetta di essere competitivi parlare di fibra ottica presidente sembra normale per chi vive in complessi cittadini o in area industriale però andiamo a dire a chi vive invece nelle aree remote oppure a quanti dovranno chiudere i battenti della propria azienda perché con questa zess unica che avete tanto voluto di fatto verrà tagliata dal mercato migliaia di imprenditori delle aree più remote eppure sono queste presidente le tematiche totalmente in evase da questo provvedimento la domanda è per realtà che cosa bisogna compiere per far accrescere il nostro made in italy oltre che arginare le criticità beh presidente di certo non basterà istituire la giornata mondiale del made in italy quella del 15 aprile di ogni anno ad evocare il genio per eccellenza italiano leonardo da vinci non vorrei già ricordare il flop dell'utilizzo della venere di botticelli con open to meraviglia anche perché poi alla fine le nostre eccellenze verranno poi ad esaurirsi altrettanto insufficienza sarà presidente all'istituzione di questo made in italy per il 2024 e 2025 con poche risorse e tra l'altro noi con un'attività emendativa abbiamo chiesto che venisse spostato nell'anno successivo che venissero preparati, fossero preparati i professori per queste tematiche perché tra l'altro abbiamo anche chiesto che venissero spostate tutte le attenzioni per le academy, gli ITS di cui si sta parlando in questi tempi perché di certo è più importante che lo studente venga preparato con una formazione post diploma, è quello che manca alle aziende ancora leggiamo che istituirete il fondo sovrano cioè è stato, verrà istituito questo fondo sovrano con l'obiettivo di sostenere la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali, dall'altro il tessuto economico e industriale del paese ma ancora una volta presidente, le risorse messe a disposizione sono esigue, sono ridicole e tra l'altro spostate sempre da un capitolo all'altro il risultato complessivo presidente è un miscuglio di provvedimenti tutti mancanti di sostanza e soprattutto dotazione economica senza considerare che in questo provvedimento tra l'altro non abbiamo letto un solo comma capace di affrontare seriamente la problematica della contraffazione e l'aggressione alla nostra ossatura produttiva eppure presidente abbiamo fornito un bel pacchetto emendativo dove andavamo a colmare tutte queste lacune gratis per il governo ma sarebbe stata di sicuro una boccata d'ossigeno per i nostri imprenditori però come ormai accade puntualmente ad ogni provvedimento questo governo preferisce una delivery mediocre del tutto irrilevante piuttosto che ammettere che il film della propaganda che puntualmente andate proiettando non fa altro che portare l'Italia o soprattutto il made in Italy a sbattere contro il falimento grazie presidente grazie senatore Nave lascio la parola al senatore Scalfarotto grazie signor presidente grazie signor presidente ci troviamo ad affrontare un provvedimento che come quello di ieri ha un titolo molto altisonante ed è un provvedimento molto importante ma purtroppo proprio in modo simile a quello che abbiamo visto ieri sul piano Mattei anche questo provvedimento in realtà è una scatola vuota è un provvedimento che avrebbe dovuto assistere una delle colonne forse la principale colonna dell'economia italiana le nostre esportazioni hanno retto questo paese durante tutte le crisi le grandi crisi economiche che abbiamo avuto dalla fine del secolo scorso a oggi l'avanzo della nostra bilancia commerciale che si è girato sempre intorno ai 50 miliardi di euro ha equivalso ogni anno a una o due direi leggi di bilancio possiamo dire che grazie alla nostra abilità l'abilità dei nostri imprenditori di creare prodotti che sono per loro natura destinati al mondo gli imprenditori italiani non fanno cose per il mercato domestico fanno cose che per la loro qualità e la loro capacità di attrarre il cliente globale sono destinate al mondo e ovunque ci sia una classe media lì c'è una richiesta d'Italia il nostro Made in Italy che si è voluto addirittura inserire nel nome del ministero con una scelta secondo me abbastanza opinabile è comunque certamente una delle nostre colonne e ci saremmo aspettati da questo provvedimento un approccio veramente strategico cioè un approccio che fosse legato a un'analisi profonda dei punti di forza e dei punti di debolezza delle nostre aziende esportatrici che sono le aziende che hanno attraversato anche le crisi peggiori senza perdere dipendenti capaci di modificare i loro assetti organizzativi capaci di essere pronte ai grandi cambiamenti che la tecnologia e la storia ci hanno imposti e quindi poter mettere a disposizione di queste imprese degli strumenti che veramente potessero crescere e invece ci troviamo davanti a una lista di piccoli interventi mi consenta il termine vice ministro sottosegretario Valentini folcloristici diciamo così che si rivolgono all'idea del Made in Italy come il costume del Made in Italy col costume del Made in Italy che abbiamo in mente quello appunto folcloristico invece le nostre imprese esportatrici sono imprese che sono fortissimamente vocate alla tecnologia, all'innovazione alla ricerca, allo sviluppo e questo vale per tutti i settori dai settori a maggior valore aggiunto ai settori più tradizionali ma qui appunto che cosa ci troviamo davanti la giornata del Made in Italy il liceo del Made in Italy un grande volemo sebbene che secondo me non risponde alle grandi crisi di questi tempi pensiamo al Covid all'interruzione delle catene globali del valore all'aumento dei costi per l'energia tutte vicende che hanno modificato direi anzi rivoluzionato il sistema del commercio internazionale in questi anni e allora guardando a questo provvedimento mi vengono alcune riflessioni per esempio noi sappiamo che il nostro tessuto produttivo è fatto soprattutto da piccole e medie imprese sappiamo che era una piccola e medie impresa rivolgersi al mercato mondiale è più difficile le grandi imprese hanno per loro natura più facilità a esplorare opportunità all'estero con i governi Renzi, Gentiloni col ministro Calenda dell'epoca si era stabilito un fondo per il Made in Italy che erano risorse tante risorse che poi sono state anche aumentate negli anni a dire il vero ma che rispondevano per esempio a questo tipo di esigenza si erano creati gli export temporary manager erano persone che le aziende piccole potevano assumere per poter fare delle strategie per il loro arrivo all'estero si era lavorato sul fatto che ci si lamenta tanto del cosiddetto Italian Sounding ma noi sappiamo che l'Italian Sounding che esprime un'aspirazione del consumatore globale ad acquistare merce italiana è dovuto al fatto che spesso i nostri prodotti non arrivano sugli scaffali degli altri paesi e allora si erano fatti per esempio negli anni accordi con la grande distribuzione negli Stati Uniti che è uno dei paesi con i quali noi di più commerciamo perché se trovare il prodotto italiano a New York o sulla West Coast è facile se uno abita nel Midwest e vuole trovare il parmigiano reggiano è molto probabile che non lo trovi e quindi bisogna far arrivare quei prodotti lì lo si fa? No! Industria 4.0 il patent box tutte le incentivazioni alla ricerca e allo sviluppo le nostre imprese sono noi siamo un popolo soprattutto di ingegneri noi siamo un popolo che vende meccanica che vende farmaceutica, chimica che vende nautica che vende industria anche pesante in questo provvedimento non c'è un lavoro in questa direzione addirittura si tagliano i fondi per le start up che sono aziende che dovrebbero essere molto sostenute dallo Stato perché hanno una fortissima mortalità perché prevedono un grande rischio e qui si sono tagliati anche i fondi il fondo per l'innovazione per creare questo fondo sovrano che non si capisce bene che cosa sia perché un fondo sovrano dovrebbe essere un fondo come quello che hanno i norvegesi che hanno il petrolio grandissime risorse naturali che utilizzano poi per riversare questi fondi nel fondo sovrano ma qui che differenza c'è tra i fondi che sono stati già creati in precedenza non andiamo a creare nuove scatole che non abbiano nessun senso e le chiedo ancora siamo un grande paese esportatore noi dovremmo combattere sempre il protezionismo domanda la ratifica del CETA la ratifica dei trattati che consentono ai nostri esportatori di vendere in mercati dove oggi ci sono dazzi e che domani non ci saranno più che fine ha fatto il trattato col Mercosur perché il trattato di libero scambio con l'Australia passa delle giornate pessime voi nell'Unione Europea col commissario a commercio state spingendo perché l'Italia e l'Unione Europea abbiano trattati di libero scambio sempre più efficienti e soprattutto perché non ratificate il CETA che tutti noi sappiamo ha aiutato le aziende italiane a esportare di più in Canada che cosa aspettate? poi le chiedo quante missioni di sistema avete fatto? quante volte avete accompagnato le nostre imprese all'estero soprattutto su quei mercati dove non c'è un'economia di mercato dove l'economia è pianificata e quindi dove poter essere accompagnati dal proprio governo è importantissimo per poter piazzare i propri prodotti state a Roma o andate in giro accompagnare le imprese italiane e le nostre fiere perché fate la giornata del Made in Italy ma ci sono soltanto 10 milioni sulle fiere il nostro sistema fieristico è un sistema importantissimo e qui vedo poco perché le fiere servono fatte in Italia e fatte all'estero ancora a veicolare il nostro prodotto in tutto il mondo ma qui non ce n'è non ce n'è traccia c'è un liceo del Made in Italy che sembra praticamente le nostre istituti di ragioneria tecnici commerciali con una spruzzatina di qualcosa ma lo diceva già il collega che parlava prima di me gli ITS dove sono finiti perché non si guarda l'istruzione superiore e poi che fine hanno fatto filiere come la moda per esempio c'è qualcosa sul tessile ma la moda che è una branca diciamo un settore fondamentale delle nostre esportazioni anche in termini di immagine dov'è dov'è e allora l'impressione che non è nuova diciamo a chi osservi da vicino il lavoro di questo governo è che questa legge sia una legge soprattutto propagandistica cioè che si sia voluto dare un nome diciamo così attraente dal punto di vista del marketing a questo ministero ma le dico la verità l'aveste chiamato ministero del sviluppo economico come si è sempre chiamato ed è quello il suo lavoro sviluppare l'economia del paese e faceste delle leggi che servono a sviluppare l'economia del paese noi ne saremmo contentissimi ma la verità è che da questo provvedimento si capisce perfettamente che un'idea di che cosa sia il made in Italy cosa siano le nostre esportazioni e di che cosa serva alle nostre imprese esportatrici è lontanissima dall'essere nelle conoscenze di questo governo ed è un'occasione molto un'occasione perduta che davvero dispiace proprio per chi proprio perché conosciamo sappiamo quanto sia importante per la nostra economia poter esportare bene e dunque è l'ennesima occasione mancata del governo Meloni grazie senatore Scalfarotto prima di lasciare la parola alla senatrice naturale voglio salutare docenti e studenti del liceo scientifico Pio XII di Roma benvenuti in senato lascio quindi la parola alla senatrice naturale a lei la parola grazie presidente onorevoli colleghi abbiamo già ascoltato di quanto sia vuoto questo provvedimento alla fine di DL Made in Italy tutte le aziende con gli occhi su di noi tutto il Made in Italy con gli occhi su di noi e invece alla fine la montagna ha partorito il topolino quello che doveva essere la punta di diamante delle disposizioni per valorizzare e promuovere le produzioni identitarie le bellezze storico-artistiche le radici culturali dell'economia del paese si è rivelato un altro buco nell'acqua ancora una volta purtroppo il sistema imprenditoriale delle eccellenze italiane si trova con le ruote sgonfie davanti a una lunga strada da percorrere pagine e pagine piene di norme che hanno il solo effetto di uno squillo di tromba tutti attenti però non segue nessuna azione concreta per il paese Italia ed ecco quindi che viene proposta come è stato più volte ripetuto già l'istituzione della giornata del Made in Italy ne avevamo bisogno l'introduzione della fondazione imprese competente per il Made in Italy ne avevamo bisogno la costituzione di un ennesimo albo quello sulle imprese culturali e creative ne avevamo bisogno la registrazione dei marchi per i luoghi di cultura bene saranno felici tutte iniziative che hanno effetto invece di burocratizzare e ancor peggio in alcuni casi in alcuni casi foraggiare architetture normative pedanti inutili quindi soldi spesi non si sa per cosa contenuti tra l'altro che stridono fortemente con l'atto di indirizzo che definisce le priorità politiche del di Castero delle imprese del Made in Italy per il 2023 tra i sei punti prioritari infatti il quarto posto è occupato dal concetto di rimozione degli oneri burocratici che rallentano gli investimenti delle imprese un concetto che usando una formula elegante possiamo dire non sia stato correttamente recepito e probabilmente a questo punto non compreso da chi ha stilato il pacchetto di disposizioni di questo disegno di legge per di più lasciato fermo per oltre sei mesi e quindi sorge il dubbio che non era chiaro cosa veramente si volesse fare si ha l'impressione che si sceglie il titolo del provvedimento purché sia altisonante e poi lo si riempie in tutta fretta e troppo spesso purtroppo se non si fanno danni si appesantisce il quadro normativo creando farbelli e quindi caos è passato un tempo eterno da quando è stato presentato alla Camera il 27 luglio se si pensa alla trattazione Lampo inferta invece a questo ramo del Parlamento che ha la sola colpa di vedere arrivare questo provvedimento in seconda lettura allora un suggerimento per questo governo chiediamo a Babbo Natale un bello orologio così da rendervi consapevoli con le lancette in mano che non possono passare mesi per l'esame di un testo alla Camera è l'equivalente di una manciata di secondi qui in Senato l'abbiamo visto passare davanti senza poter davvero mettere mano a questo provvedimento quindi considero anche i relatori qui in Senato cosa abbiano potuto fare poi di concreto su questo provvedimento cosa inversa sta succedendo per la legge di bilancio con l'aggravio dell'affermazione del Presidente Meloni che il 28 ottobre scorso aveva ribattito confido nell'approvazione in tempi brevi e invece siamo ancora qui a parlarne il 16 ottobre sempre la nostra Premier o il nostro Premier si beava del fatto che la legge di bilancio fosse stata approvata in poco più di un'ora dimostrazione dell'unità di vedute del Consiglio dei Ministri della maggioranza che sostiene il Governo un'unità di vedute che loro malgrado si è sciolta come neve al sole anche perché il suono delle parole e esercizio provvisorio ha fatto tremare le carte su diverse scrivanie negli ultimi giorni e dunque poi di corsa siamo arrivati a concretizzare è evidente che tener fede agli impegni presi ai proclami sulle tempistiche di approvazione è una delle tante cose che non sta riuscendo affatto a questo esecutivo e veniamo dunque a noi alla nostra trattazione del disegno di legge in Senato le audizioni sono state escluse sin dalla prima seduta in sede referente sulla base del fatto che la decima commissione alla Camera aveva svolto un'indagine conoscitiva sul Made in Italy approvandone quindi un documento conclusivo e quindi noi qui in commissione non in Senato non abbiamo avuto neppure le audizioni peccato che questo documento conclusivo approntato alla Camera contenesse l'auspicio di semplificazioni delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa e di export oltre che semplificazioni burocratiche per aiutare le imprese del Made in Italy nel commercio con l'estero chi mi ha preceduto ha sottolineato questo aspetto fondamentale per il quale non si è fatto nulla quindi semplificazioni che spiccono sopra di tutte quelle che abbiamo visto sono quelle che riguardano però le autorizzazioni per gli interventi selviculturali nei boschi soccetti a vincolo qui ci sono delle semplificazioni la semplificazione per la filiera della nautica in particolare le autodichiarazioni sul possesso dei natanti da di porto anche quelli che navigano su acque straniere quindi saranno felici di questo chi possiede quindi delle imparcazioni certamente non i cittadini del ceto medio questioni che possiamo quindi dire apertamente non sono centrali nel dare nuova linfa al tessuto economico del settore dell'imprenditoria nazionale ancora l'articolo Frankenstein sul liceo del Made in Italy il cui testo è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame alla Camera e che nel vano tentativo di accordare le varie voci ha sortito l'effetto di non accontentare nessuno e poi l'esigenza che penso che nessuno avvertiva di istituire un marchio per i luoghi della cultura brandizzando e mercificando i parchi archeologici i complessi monumentali i musei le biblioteche gli archivi la conoscenza del patrimonio culturale non si incrementa trattando le nostre bellezze come fossero oggetti a cui infliggere una tacca i simboli dei luoghi delle bellezze nazionali hanno una dignità che non può essere calpestata da una mercificazione totalmente fuori luogo la nostra cultura non ha bisogno di marchi per creare valore quindi l'ultima cosa da fare è proprio introdurre marchi inutili i report sul settore turistico in questo senso parlano chiaro bisogna far sì che le persone vadano a visitare i posti della cultura perché calamitate dal fattore attrattivo e soprattutto che tornino in quei luoghi quindi dare i servizi la viabilità e tutto ciò che concerne a una vita del turista che sia facile che sia quindi motivo di un suo ritorno sui nostri territori solo in questo modo si pongono le basi per dar vita a una ricchezza circolare tesa a massimizzare il coinvolgimento e il pregio prima di tutto umano che il nostro patrimonio custodisce i nostri interventi quindi hanno avuto tutti una forte coerenza e un importante obiettivo dare effettivo risalto al cuore pulsante del sistema imprenditoriale italiano a partire da quello agroalimentare la campagna olivico-loreale a quest'anno a gran voce richiede risposte immediate per quello che è un concreto settore trainante per una filiera turistica davvero made in Italy e per questo abbiamo predisposto un pacchetto a sostegno del settore olivicolo dalla coltivazione alla tavola con una difesa a 360 gradi un rinvigorimento dei controlli anticontraffazione indispensabili per garantire qualità e dare fiducia nel consumatore che davvero può constatare la differenza nel marasma dei prodotti in commercio e nello stesso tempo il potenziamento dell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'andamento dei prezzi in capo all'autorità garante della concorrenza del mercato l'introduzione di un contributo straordinario a sostegno della filiera dell'olio extravergine di oliva di qualità a favore delle micro piccole e medie imprese agricole in forma singola e associata nonché delle cooperative sociali del settore che realizzano olio evo 100% italiano vale a dire un olio le cui singole fasi di coltivazione produzione lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio italiano un altro prodotto agroalimentare caratterizzante è quello del pane ed è per questo che abbiamo proposto l'istituzione di un fondo per sostenerne la produzione a beneficio delle aziende che usano esclusivamente ingredienti di origine italiana pensiamo al nostro grano italiano abbiamo puntato anche a un incremento del fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura e di quello sul sostegno dell'eccellenza della gastronomia e dell'agroalimentare italiano avvio alla conclusione presidente e poi abbiamo spinto per la creazione di nuovi fondi tesi a trainare dei comparti in crescita fortemente legati alle attuali esigenze di economia circolare di sostenibilità come quello della mobilità lenta agro-rurale e quello sugli allevamenti sostenibili ma la fretta di una maggioranza dedita solo a fare il pugno duro visti i suoi numeri ha impedito che su questi argomenti si potesse innescare una discussione seria e produttiva ovviamente tutto il nostro lavoro emendativo è stato rigettato amen grazie grazie senatrice senatore bergesio grazie presidente provvederò a depositare l'intervento anche per dar modo così di proseguire rapidamente con i lavori grazie presidente grazie senatore lascio la parola senatore giacobbe a lei la parola grazie presidente il made in italy è ormai un marchio proprio del nostro paese che ne identifica non solo i prodotti di eccellenza ma in un certo qual modo anche lo stile di vita il made in italy è quel complesso di sfumature che rende il nostro paese così amato imitato visitato che si pensa ad un'azione che possa rafforzare il made in italy in maniera strategica mi sembra un atto opportuno quanto doveroso come opportuno e doveroso sarebbe stato permettere al senato in commissione ed in aula di discutere nel merito di questo provvedimento e apportare miglioramenti invece ancora una volta la maggioranza ci propone una procedura monocamerale un provvedimento così importante che tratta di questioni che stanno alla base dell'export la maggiore ricchezza del nostro paese e che indubbiamente si presterebbe non solo ad essere migliorato da una riflessione comune e pagata di tutto il parlamento non chieda un potenziale consenso unanime arriva in seconda lettura al senato blindato non c'è possibilità di migliorarlo purtroppo questa non è una novità se invece ce ne fosse stata data l'opportunità signor presidente avremmo potuto ragionare insieme su quelli che riteniamo essere i quattro punti fondamentali di una legge definita made in italy e questi sono 1. proteggere e valorizzare i nostri prodotti e servizi 2. fare in modo che questi arrivino all'estero 3. valorizzare le risorse per la promozione 4. incoraggiare investimenti in Italia per quanto riguarda il primo punto proteggere e valorizzare i nostri prodotti e servizi chiedo ai colleghi di maggioranza tramite lei signor presidente di ammettere che la tanta vituperata Europa ci ha dato una mano approvando recentemente anche grazie all'impegno degli europarlamentari italiani del partito democratico la legge che prevede l'indicazione del paese di origine e del luogo di provenienza dell'ingredente primario di un alimento e per noi che vediamo nelle nostre produzioni locali l'eccellenza del made in italy questa regola rende di per sé praticamente inimitabili i nostri marchi e garantisce l'italianità con ciò che arriva sulle tavole nel mondo noi siamo favorevoli senza ombra di dubbio alle iniziative che salvaguardano le made in italy anche in materia di lavorazione e processi produttivi di qualità ma questo provvedimento presenta alcune straordinarie e qui vengo al punto numero due delle priorità fare in modo che i prodotti made in italy arrivino all'estero abbiamo bisogno di allargare i nostri mercati per far sì che i prodotti made in italy ma anche i servizi e il nostro know-how arrivano nei mercati esteri per poter crescere il provvedimento in esame però Presidente la prego di la prego di un po' di attenzione da parte dei colleghi guardi che rispetto alla media l'attenzione è alta il provvedimento in esame però manca di una visione fondamentale che avrebbe dovuto essere centrale mancano la percezione la funzione e le potenzialità che l'estero ha per il made in italy che le nostre comunità nel mondo hanno per il made in italy serviva una strategia di medio lungo termine che questo provvedimento con l'aiuto del Parlamento avrebbe potuto prevedere per uno evitare che si facesse confusione o due non si utilizzassero al meglio la grande potenzialità che già esistono e che non sono utilizzate come meriterebbero e tre che non si potesse l'accendo su aspetti peculiari del made in italy invece questo provvedimento lascia ampi e desolanti vuoti ci aspettavamo ad esempio che si affrontasse la questione di come accompagnare le piccole e medie imprese cioè l'ossatura della nostra economia e la parte più genuina del nostro made in italy verso l'obiettivo di raggiungere mercati esteri che ad oggi per loro sono proibitivi o sembrano tali se avessimo avuto l'opportunità di discutere e modificare questo provvedimento avremmo potuto studiare soluzioni su come fare ad aprire nuove strade o fornire maggiore sostegno a queste aziende magari utilizzando risorse che già esistono come le camere di commercio italiane nel mondo avremmo potuto parlare delle opzioni possibili per espandere i mercati esteri e forse saremmo riusciti a convincere il governo e la maggioranza che insegnamento e promozione della lingua e cultura italiana sono un momento fondamentale del Made in Italy sono quegli anelli che congiungono il nostro paese con monti differenti ancora prima che lì ci arrivino i nostri prodotti lingua e cultura sono due elementi essenziali alla base della chimica del Made in Italy e del suo apprezzamento mondiale proprio ieri in commissione abbiamo approvato un ordine del giorno a mia prima firma e sottoscritto dai colleghi del Partito Democratico Franceschiello e Martella che impegna il governo ad aumentare per il prossimo triennio i fondi riservati agli indigestori di corsi e lingua e cultura all'estero questa signor Presidente è la prova che anche la maggioranza forse io lo spero ha capito alcuni degli errori delle miopie di questo provvedimento che addirittura prevede che la giornata del Made in Italy sia celebrata in Italia non all'estero anche qui abbiamo cercato di rimediare in qualche modo a questa assoluta mancanza di coerenza con l'approvazione in commissione di un altro ordine del giorno sempre sottoscritto dai commissari del Partito Democratico in cui si chiede al governo di impegnare anche la rete consolare il sistema paese e le camere di commercio italiane nel mondo nelle attività che celebrano questa ricorrenza alle nostre aziende ai nostri produttori ai nostri possibili clienti non serve una giornata nazionalista del Made in Italy ma una giornata nazionale che rivolga il suo sguardo al mondo che sia sul palcoscenico del mondo come d'altronde avviene per altre ricorrenze simili come la giornata mondiale della cucina italiana la settimana della lingua la giornata del design tutto considerato però quelli di ieri sono un piccolo passo nella direzione giusta si tratta di atti di indirizzo mentre se fossero stati inclusi nel provvedimento avrebbero rappresentato un miglioramento significativo della normativa e restando in tema di miopie in questo provvedimento signor Presidente ci si è scordati dei 6 milioni di cittadini italiani che vivono al di là dei nostri confini nazionali e dei circa 80 milioni di persone di discendenza italiana si tratta di imprenditori artisti, politici rappresentanti dell'istituzione della cultura a cui non bisogna spiegare nulla su cosa sia il Made in Italy perché non solo lo conoscono bene ma contribuiscono a promuoverlo più di ogni altra legge o azione di marketing che si possa strutturare nei mercati rionali di Sydney Melbourne e Brisbane luoghi che a me che conoscono bene ci sono una miriade di giovani artigiani italiani emigranti di nuovissima generazione che vendono il Made in Italy prodotti della loro terra d'origine street food artigianato arte a turisti e locali e non solo c'è chi si impegna nella sua professione ed eccelle nel segno dell'italianità le faccio un esempio simbolico nella lista dei migliori 50 bar nel mondo nei primi 15 ne figurano solo due italiani che si trovano uno a Barcellona e l'altro a Sydney entrambi sono locali aperti da giovani emigranti italiani quegli stessi che fra l'altro con la scelta scellerata di cambiare le regole dei benefici fiscali per i rimpatriati questo governo sta chiudendo loro la porta in faccia ad un possibile ritorno in Italia eppure se il Made in Italy è un'eccellenza lo dobbiamo anche a loro questo provvedimento signor Presidente non tiene conto del fatto che sono questi imprenditori questi professionisti questi ricercatori e tanti altri che di fatto trasformano il Made in Italy da parole da marchio a parte integrante della vita quotidiana di altri popoli sono loro che aprono le porte a nuovi mercati o nuovi prodotti e di questo bisognava tenerne conto in questo provvedimento e nelle strategie del sistema paese all'estero ma per fortuna signor Presidente il Made in Italy nonostante questa legge il Made in Italy esisteva prima ed esisterà anche dopo proprio perché grazie alle nostre comunità all'estero il Made in Italy è ormai già patrimonio del mondo dispiace però aver perso un'occasione importante di compronto nella quale si sarebbe anche potuto parlare più approfonditamente del ruolo che possono giocare le camere di commercio gli endigestori che promuovono la cultura e l'insegnamento della lingua italiana i comites i CGE e le associazioni culturali e sociali italiane nel mondo questa opportunità signor Presidente mi avvio a concludere velocemente poteva essere sfruttata meglio anche per riuscire nell'intento di attrarre capitali esteri in Italia utilizzando l'appetibilità del Made in Italy che è fatto lo ripeto anche di tecnologie servizi e professionalità altamente qualificate che possono essere insegnate rafforzando un settore quello della formazione che oltre che implementare nel suo interno l'Italia può anche esportare vista l'esigenza mondiale di professionalità altamente qualificate in conclusione signor Presidente c'era tanto su cui discutere ancora di più su cui programmare eppure di nuovo il governo ha deciso di fare da soli relegando non solo noi dell'opposizione ma anche i suoi parlamentari di maggioranza ad un ruolo marginale il risultato è che a perderci sono l'Italia e gli italiani di tutto il mondo grazie grazie senatore Giacobbe lascio la parola al senatore Amidei ha la parola senatore prima di consigliare l'intervento non accende il microfono senatore guardi il microfono funziona allora prima di consegnare l'intervento anch'io come il senatore Bergesio per ottimizzare i tempi dico solo e velocissimamente due parole finalmente il DDL sul Made in Italy quindi ringrazio tutti i colleghi e anche mi piace mi pregio ricordare che in occasione dell'approvazione alla Camera di questo DDL veniva presentato l'intergruppo parlamentare che conta già 40 tra senatori e deputati del Made in Italy e innovazione di cui mi pregio presiedere grazie presidente consegno il mio intervento grazie senatore anche per la precisazione dichiaro quindi chiusa la discussione generale alla parola per la replica la relatrice senatrice Fallucchi a lei la parola senatrice la ringrazio presidente ma rinuncio alla replica grazie senatrice chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire rinuncia avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente passiamo quindi alle illustrazioni all'articolo 1 quindi senatore Nave e senatrice Liccheri parere del relatore parere contrario parere del governo conforme quindi articolo 1 1.1 nave e altri dichiaro aperta la votazione sì essendo essendo la prima votazione aspetto tutti colleghi colleghi posto posto natore l'ombardo deve votare se deve votare se no dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 1.2 liccheri e altri dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva passiamo alla votazione dell'articolo 1 dichiaro aperta la votazione chiaro chiusa la votazione il senato approva articolo 2 illustrazioni fregolent e floridia parere del govern parere del relatore parere scusi parere del relatore parere contrario parere del governo conforme perfetto quindi allora articolo 2 il 2.1 sono ritirato 2.2 floridia e altri parere contrario di relatore governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 2.3 floridia e altri dichiaro aperta la votazione parere contrario di relatore governo chiusa la votazione il senato non approva Passiamo alla votazione dell'articolo 2. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Illustrazioni all'articolo 3. Giacobbe naturale. Parere del relatore? Parere contrario per tutti gli articoli. Parere del Governo? Conforme. Quindi, articolo 3. 3.1. Giacobbe e altri. Parere contrario di relatore Governo? Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 3.2. Naturale e altri. Parere contrario di relatore Governo? Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Votazione dell'articolo 3. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo all'articolo 4. Illustrazioni all'articolo 3.4. Floridia, Martella, Nave, Fregoland, Cantalamessa, Bergesio. Parere del relatore? Parere contrario per tutti gli emendamenti. Parere del Governo? Conforme. Quindi, 4.1. Floridia e altri. Parere contrario relatore Governo? Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 4.2. Floridia e altri. Parere contrario relatore Governo? Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 4.4. Nave e altri. Parere contrario relatore Governo? Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 4.6. Fregoland. Parere contrario relatore Governo? Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 4.10. Floridia e altri. Parere contrario di relatore Governo? Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 4.7. Floridia e altri, parere contrario di relatore e Governo, si vota la prima parte. Quindi dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Quindi si è precluso il 4.8, si passa al 4.9, Nave e altri, parere contrario di relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Al relatore chiedo i pareri sugli ordini del giorno. Parere favorevole. Il G 4.100. Il 4.101 anche? Governo? Allora, il 4.101 favorevole? Li rifacciamo tutti? No, no, no. Allora, relatore, 4.100 e 4.101, parere favorevole a tutti e due? 4.101 favorevole con riformulazione. Che riformulazione? Allora, impegno il Governo a valutare la necessità di agire presso le competenti sedi europee affinché venga promossa una sospensione alla luce del complesso contesto economico europeo dell'applicazione degli orientamenti EBA emanati nell'attuazione dell'articolo 178 del regolamento europeo numero 575 2013, anche al fine di valutare la definizione di un approccio più flessibile con riguardo all'eventuale applicazione di soglie diversificate in funzione della durata del finanziamento. Grazie. Il Governo, parere del Governo? Conforme. Perfetto. Senatore Bergesio, la riformulazione? Grazie, Presidente. Ringrazio innanzitutto il relatore Governo perché questo ordine del giorno è molto molto importante. Noi segnaliamo quella che è oggi una discrasia in funzione della possibilità di rimodulare i mutui delle aziende agricole che avevamo predisposto già dal punto di vista normativo, però viene bypassato per questo limite dal punto di vista della Commissione europea nella quale non si può sforare praticamente la parte relativa all'indebitamento che ti riporta infatti ad avere la non disponibilità da parte del sistema bancario italiano a rimodulare questi debiti. Io credo che noi oggi chiediamo che venga rivisto, sicuramente non lo trasformeremo in emendamento in futuro, ma lo segnaleremo probabilmente all'unità di missione anche del Governo presso l'Unione europea perché diventa fondamentale col Ministro Fitto attivarsi affinché questa norma abbia un atteggiamento verso le imprese, verso le aziende italiane, verso il sistema bancario italiano più morbido. Accetto la riformulazione. Grazie, Presidente. Grazie, Senatore Bergesio. Quindi accetto la riformulazione da a valutare la necessità di, a valutare l'opportunità di. Perfetto. Quindi li diamo entrambi per accolti. Votiamo quindi l'articolo 4. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo all'articolo 5. Martella, Fregolent, Liccheri, Nave. Parere del relatore? Parere contrario. Per tutti gli elementamenti. Perfetto. Parere del Governo? Conforme. Grazie. Quindi passiamo al 5.1. Martella e altri. Parere contrario del relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Chiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 5.4. Liccheri e altri. Parere contrario del relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Passiamo alla votazione dell'articolo 5. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. 5.0.2. Nave e altri. Parere contrario del relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Senato non approva. Passiamo all'articolo 6. Nave naturale Floridia Fregolent Martella. Parere del relatore? Parere contrario per tutti gli elementamenti. Parere del Governo? Conforme. Quindi 6.3. Nave e altri. Parere contrario del relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 6.4. Floridia e altri. Parere contrario del relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 6.5. Nave e altri. Parere contrario del relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 6.7. Martella e altri. Parere contrario del relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Passiamo alla votazione dell'articolo 6. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo alla votazione dell'articolo 7. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo all'articolo 8. Quindi Floridia, Liccheri, naturale. Parere del relatore. Parere contrario per tutti gli emendamenti. Parere del Governo. Conforme. Quindi passiamo alla votazione. 8.1. Floridia e altri. Parere contrario relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 8.2. Liccheri e altri. Parere contrario relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 8.3. Floridia e altri. Parere contrario relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 8.4 naturale altri parere contrario relatore governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva passiamo alla votazione dell'articolo 8 dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato approva passiamo alla votazione dell'articolo 9 dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato approva passiamo all'articolo 10 liccheri naturale nave fregolent relatore parere contrario su tutti gli emendamenti parere del governo conforme quindi emendamenti dell'articolo 10 10.1 liccheri e altri parere contrario relatore governo dichiaro aperta la votazione chiaro chiusa la votazione il senato non approva 10.2 naturale altri parere contrario del relatore governo dichiaro aperta la votazione chiaro chiusa la votazione il senato non approva 10.3 nave altri parere contrario relatore governo dichiaro aperta la votazione chiaro chiusa la votazione il senato non approva 10.4 liccheri e altri parere contrario relatore governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 10.7 naturale e altri parere contrario relatore e governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 10.8 nave e altri parere contrario relatore e governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione Il Senato non approva. Passiamo agli ordini del giorno. 10.100, 10.101. Allora, parere favorevole G10.100 e parere favorevole G10.101. Perfetto. Li diamo per accolti? Governo? Conforme. Colleghi, li diamo per accolti? Se vuole intervenire, ok. Grazie, Presidente, perché ritengo importante questo ordine del giorno sulla possibilità che il Governo possa intervenire per la filiera della canapa. Una coltivazione molto importante, utile anche per il ricambio dei terreni, ma soprattutto perché le fibre vengono già utilizzate. Dare un impegno per quello che è la macchina di trasformazione della canapa diventa importante per l'utilizzo industriale per le fibre. Quindi grazie ancora al Governo per l'approvazione. Grazie. Perfetto. Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 10. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Votazione dell'articolo 11. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Votazione dell'articolo 14. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Pareri tutti i contrari. Governo. 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 Conforme. 15. Il Senato approva. Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 16. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo alla votazione dell'articolo 17. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. 17.0.2. Parere naturale e altri. Parere del relatore. Parere contrario. Parere del governo. Conforme. 17.0.3. Scusate, ho sbagliato io. Quindi, parere del relatore. Parere contrario. Parere del governo. Conforme. Quindi, 17.0.2. Naturale e altri. Parere contrario del relatore e governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 17.0.3. Martella e altri. Dichiaro aperta la votazione. Comprere contrario del relatore e governo. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Quindi, passiamo all'articolo 18. Delia, fregole, nave naturale, Floridia, Cantalamessa. Parere contrario per tutti gli emendamenti. Governo. Conforme. Quindi, 18.1. Delia e altri. Parere contrario del relatore e governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 18.8. Nave e altri. Parere contrario del relatore e governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 18.9. Nave e altri. Parere contrario del relatore e governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 18.10. Nave e altri. Parere contrario del relatore e governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 18.11. Nave e altri. Parere contrario di Relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Senato non approva. 18.12. Delia e altri. Votiamo la prima parte. Parere contrario di Relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Chiusa la votazione. Il Senato non approva. Sono preclusi i successivi 18.13 e 18.14. Passiamo al 18.15. Naturale e altri. Parere contrario di Relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Chiusa la votazione. Il Senato non approva. 18.16. Nave e altri. Parere contrario di Relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Senato non approva. 18.20. Delia e altri. Parere contrario di Relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Senato non approva. Passiamo agli ordini del giorno. L'ordine del giorno 18.100. Relatore. Allora, parere favorevole con la riformulazione del secondo impegno. Impegni il Governo a valutare l'opportunità di introdurre, dopo il primo bienio di avvio del nuovo percorso liceale, eventuali aggiornamenti delle attività formative di cui al precedente impegno, con particolare riferimento ai fenomeni economici, culturali e sociali, connessi alla valorizzazione del Made in Italy. Grazie. Grazie, Relatore. Governo? Conforme? Il Senatore Cantalamessa accetta la riformulazione. Perfetto. Lo diamo quindi per approvato. Quindi passiamo alla votazione dell'articolo 18. Dichiaro aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo all'articolo 19. Floridia Delia Liccheri. Relatore. Parere contrario. Per tutti gli emendamenti. Governo? Conforme? Quindi passiamo all'articolo 19. Perfetto. Votiamo solo il mantenimento dell'articolo 19. Quindi dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo quindi all'articolo 20. Articolo 20. Naturale Martella. Parere contrario per tutti gli emendamenti. Governo? Conforme. Quindi 20.3. Naturale e altri. Parere contrario. Relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Chiaro. Chiusa la votazione. Il Senato non approva. 20.5. Martella e altri. Parere contrario di relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Chiusa la votazione. Il Senato non approva. Passiamo alla votazione dell'articolo 20. Dichiaro aperta la votazione. Chiaro. Chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo all'articolo 21. Croatti. Martella. Bizzotto. Relatore. Parere contrario per tutti gli emendamenti. Governo? Conforme. Quindi. Passiamo al 21.1. Croatti. Con parere contrario di relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Chiusa la votazione. Il Senato non approva. 21.2. Parere contrario di relatore e Governo. Croatti. Parere contrario di relatore e Governo. Marco, mi dispiace. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Chiusa la votazione. Il Senato non approva. 21.3. Martella e altri. Parere contrario di relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Chiusa la votazione. Il Senato non approva. Ordine del giorno 21.100. Relatore. Parere favorevole. Governo? Conforme. Perfetto. Lo diamo quindi per... accolto. Votiamo quindi l'articolo 21. Dichiaro aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Senato approva. Articolo 22. Delia. Martella. Nave. Fregolent. Relatore. Parere contrario. Governo. Conforme. Quindi. 22.2. 22.1 e 22.2. Li votiamo con l'identica votazione. Delia e altri e Nave e altri. Parere contrario di relatore e governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 22.3 Martella e altri. 22.4 Fregolent. Con un'unica votazione. Parere contrario relatore e governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 22.5 Fregolent. Parere contrario relatore e governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 22. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Votiamo l'articolo 23. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo all'articolo 24. Fregolent. Relatore. Parere contrario per tutti gli emendamenti. Governo. Conforme. 24.1 Fregolent. Parere contrario relatore e governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Passiamo alla votazione dell'articolo 24. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo all'articolo 25. Nave. Martella. Delia. Fregolent. Relatore. Parere contrario per tutti gli emendamenti. Governo. Conforme. Quindi 25.1. Nave e altri. Parere contrario relatore e governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 25.2 Martella e altri. Parere contrario relatore e governo. Dichiaro aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Senato non approva. 25.3 Martella e altri. Parere contrario relatore e governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 25.4 Martella e altri. Parere contrario relatore e governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 25.5 Martella e altri. Parere contrario relatore e governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 25.6. Martella e altri. Parere contrario. Relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 25.8. Martella e altri. Parere contrario. Relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 25.10. Martella e altri. Parere contrario. Relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Senato non approva. 25.11. Martella e altri. Parere contrario al relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Senato non approva. 25.13. Delia e altri. Parere contrario al relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 25.14. Delia e altri. Parere contrario al relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 25.15. Parere contrario al relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Ordine del giorno. 25.100. Parere del relatore. Parere favorevole con la seguente riformulazione. Impegno del Governo nei limiti delle risorse disponibili. Parere del Governo. Conforme. Accettate la riformulazione. Quindi perfetto. Lo diamo per accolto. Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 25. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo all'articolo 26. Quindi Delia Liccheri. Relatore. Parere contrario. Governo. Conforme. Anche in questo caso votiamo solo il mantenimento dell'articolo 26. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Votiamo l'articolo 27. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Votiamo l'articolo 28. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Votiamo l'articolo 29. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Dell'articolo 29.02.0.3. Parere del relatore. Parere contrario. Parere del Governo. Conforme. Ok. 29.02. Naturale e altri. Parere contrario al relatore e al Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 29.02.0.3. Liccheri e altri. Parere contrario al relatore e al Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Passiamo all'articolo 30. Articolo 30. Nave Delia. Relatore. Contrario. Parere contrario. Governo. Conforme. Quindi 30.1. Nave e altri. Parere contrario al relatore e al Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 30.2. Delia e altri. Parere contrario al relatore e al Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. 30.0.2. Parere del relatore. Parere contrario. Parere del Governo. Conforme. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Dichiaro. Chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo all'articolo 32. Fregolent. Parere del relatore. Parere contrario. Parere del Governo. Conforme. Quindi 32.2. Fregolent. Parere contrario al relatore e al Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 32. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo all'articolo 33. Fregolent. Naturale. Parere del relatore. Parere contrario. Parere del Governo. Conforme. Quindi. Articolo 33.1. Fregolent. Parere contrario del relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 33.2. Naturale e altri. Parere contrario del relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Passiamo alla votazione dell'articolo 33. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo all'articolo 34. Fregolent. Parere del relatore. Parere contrario. Parere del Governo. Conforme. Anche in questo caso votiamo il mantenimento dell'articolo 34. Quindi dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo alla votazione dell'articolo 35. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo alla votazione dell'articolo 36. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo all'articolo 37. Franceschelli. Fregolent. Bergesio. Relatore. Contrario per tutti gli emendamenti. Governo. Conforme. Quindi 37. 1. Franceschelli e altri. Parere contrario. Relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 37.2. Fregolent. Parere contrario. Relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 37.3. Franceschelli e altri. Parere contrario. Relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 37.4. Franceschelli e altri. Parere contrario. Relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Ordine del giorno 37.100, Bergesio e altri. Il relatore? Parere favorevole, con la seguente riformulazione. Impegna il Governo a valutare l'opportunità nei limiti delle risorse disponibili. Governo? Conforme. Senatore Bergesio accetta la riformulazione? Sì, grazie Presidente. Vi permetto semplicemente di aggiungere che questo ordine del giorno fa seguito a un'interrogazione che è venuta in aula al Ministro dell'Agricoltura e della Solanità Alimentare che con molta attenzione ha prestato alle razze autotone del nostro Paese perché se parliamo di valorizzazione degli alpeggi, se parliamo di valorizzazione delle montagne dobbiamo proteggere, aiutare anche i nostri allevatori perché altrimenti gli allevatori che rappresentano l'8% della produzione di carne bovina che viene consumata in Italia sono razze autotone tra questi la razza piemontese che rappresenta il 70% e in questa razza piemontese oltre 1.300 allevatori svolgono attività di alpeggio perciò diamo le risorse ai comuni per valorizzare, per mantenere gli ambienti in montagna ma diamoli anche agli allevatori che presidiano il territorio. Grazie Presidente Grazie Senatore Bergesio Votiamo quindi l'articolo 37 Dichiaro aperta la votazione Dichiaro chiusa la votazione Il Senato approva Passiamo all'articolo 38 Sironi Relatore Parere contrario Governo Conforme Sironi A lei la parola Grazie Ma il mio ordine del giorno era rivolto a comprendere se era una questione interpretativa o se effettivamente l'articolo volesse escludere dalle previsioni del fondo quegli interventi sul paesaggio agricolo e rurale che non ricomprendessero i percorsi degli animali nel senso che il nostro bene culturale e tradizionale del paesaggio agricolo e rurale ricomprende anche zone in cui ci sono dei percorsi che non sono collegati al passaggio degli animali e sarebbe un peccato non dare la possibilità anche a questo tipo di territorio di usufruire del fondo al fine di valorizzare questa che è una peculiarità diversamente si rischia di perdere proprio quella tradizione agricola rurale perché non ci sono i soldi per mantenerla io penso per esempio in pianura padana ci sono grandi distese agricole che derivano dal medioevo quindi dalla gestione clericale delle abazie e che si creano tanti passaggi tra gli antichi cascinali lombardi le varie abazie sono percorsi bellissimi che in questo caso vengono esclusi e mi sembra un peccato quindi io insisto con la relatrice e con il governo per far rientrare nella previsione anche questo tipo di paesaggio rurale che ritengo altrettanto importante venga valorizzato e conservato se no va perso. Grazie il relatore mantiene la sua posizione? Parere contrario quindi 38.100 Sironi parere contrario di relatore e governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva votiamo l'articolo 38 dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato approva votiamo l'articolo 39 dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato approva 39.0.2 martella e altri relatore per tutti gli emendamenti governo conforme quindi martella e altri 39.0.2 con parere contrario relatore e governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva votiamo l'articolo 40 dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato approva a ordine del scusate articolo 41 è un ordine del giorno perfetto ok della senatrice naturale relatore parere favorevole governo conforme l'attrice naturale accetta lo diamo per accolto va bene perfetto quindi votiamo l'articolo 41 dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato approva votiamo l'articolo 42 dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato approva articolo 43 martella parere del relatore parere contrario parere del governo conforme perfetto quindi 43.1 martella e altri parere contrario relatore e governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva votiamo l'articolo 43 dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato approva votiamo l'articolo 44 dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato approva passiamo all'articolo 45 naturale parere del relatore parere contrario parere del governo conforme quindi articolo 45 emendamento 45.1 naturale e altri parere contrario relatore e governo dichiaro aperta la votazione dichiaro aperta la votazione chiusa la votazione il senato non approva 45.2 naturale e altri parere contrario relatore e governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva votiamo l'articolo 45 dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato approva votiamo l'articolo 46 dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato approva passiamo all'articolo 47 fregolent nave parere del relatore parere contrario parere del governo conforme conforme 47.1 fregolent parere contrario relatore e governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 47.2 nave e altri parere contrario relatore e governo dichiaro aperta la votazione chiaro chiusa la votazione il senato non approva votiamo l'articolo 47 dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato approva passiamo al 48 fregolent parere del relatore parere contrario parere del governo quindi 48.1 fregolent parere contrario relatore e governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva votiamo l'articolo 48 dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato approva votiamo l'articolo 49 dichiaro aperta la votazione chiaro chiusa la votazione il senato approva passiamo all'articolo 50 liccheri parere del relatore parere del governo conforme quindi 50.1 liccheri e altri parere contrario relatore e governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva votiamo l'articolo 50 dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato approva votiamo l'articolo 51 dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato approva votiamo l'articolo 52 dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato approva votiamo l'articolo 53 dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione Il Senato approva. Votiamo l'articolo 54. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo all'articolo 55. Fregolent. Relatore? Parere contrario. Governo? Conforme. Dell'articolo 55 votiamo il mantenimento dell'articolo 55. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Votiamo l'articolo 56. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo al 57. Fregolent. Parere contrario. Parere del Governo? Conforme. Settrice Paita non ho capito se voleva intervenire. Ah ok. Quindi 57.1 Fregolent. Parere contrario. Relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Votiamo l'articolo 57. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Votiamo l'articolo 58. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Votiamo l'articolo 59. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Lascio la parola alla Senatrice Biancofiore. Anche a me è venuto a spuntare. Senatrice Biancofiore aspetta. Colleghi se volete. Chi vuole uscire dall'aula lasciamola per intervenire la Senatrice Biancofiore in modo da poterla lasciare. No no abbiamo visto che non va il microfono. Senatrice. Usi la postazione in fianco. Grazie. Grazie Presidente. Signor Presidente. Le parole made in Italy evocano da sempre l'idea di unicità, autenticità, artigianalità, ingegno e orgoglio italiano. L'idea di maestria e di maestranze. La capacità di tramandare e non disperdere le tradizioni. La capacità di innovare e di spostare le sfide sempre un po' più in là. Di fare impresa. Di rimboccarsi le maniche sul solco della più nobile tradizione imprenditoriale italiana. Le parole made in Italy evocano qualcosa di pervasivo. Capace di attingere non solo alle caratteristiche fisiche, meccaniche ed estetiche di un bene o di un servizio. Ma anche alla dimensione più intima e caratteristica dell'umanità che ci sta dietro. Fatta di persone e da persone. Con tutto il suo portato di cultura, dinamiche sociali, tradizioni e capacità di innovare. Perché il made in Italy non è soltanto un modo di fare, ma soprattutto un modo di essere. Lasciatemi dire che è la cifra del governo Meloni. Il made in Italy è un marchio riconosciuto, grazie in tutto il mondo, al pari del patrimonio culturale e artistico italiano. Il made in Italy identifica le eccellenze italiane nel campo culturale, enogastronomico, del design, dell'architettura, del lusso, dell'imprenditoria. Il made in Italy è un segno distintivo, esclusivo del nostro paese. È un segno universalmente riconosciuto di bellezza e qualità. Un patrimonio, anche in termini reputazionali, costruito nei secoli, grazie anche all'impegno e al lavoro costante e creativo degli italiani in ogni settore. Chi nel mondo compra un prodotto italiano, compra una parte dell'Italia, una realtà universalmente conosciuta e riconosciuta, al punto che il made in Italy è tra i primi tre marchi al mondo come notorietà. Chi nel mondo compra un prodotto italiano, in altre parole, si affida all'eccellenza e alla qualità in termini di assoluta bellezza, design e creatività. Tutelare il made in Italy e il made by Italy and Italians, cioè tutelare gli interessi italiani, è da sempre uno dei pilastri, uno dei fondamenti del centrodestra e di questo governo. Significa per noi andare incontro alle esigenze del mondo produttivo, nel suo complesso, industria, imprese e artigianato insieme, per sostenere un patrimonio universalmente riconosciuto, inimitabile. Di questo dobbiamo andare orgogliosi, inimitabile. E vogliamo farlo ancora più oggi senza oneri eccessivi per le casse dello Stato, o peggio, contributi a pioggia, a dimostrazione che le nostre filiere sanno camminare da sole, sanno adeguatamente sostenute e dotate di nuove risorse, nuove competenze e nuove tutele. Per questo vogliamo rendere onore alle tante eccellenze che in questo Paese quotidianamente ci rendono orgogliosi di essere italiani e di esportare l'italianità nel resto del mondo. Se infatti fino ad ora l'Italia, a causa di politiche di sviluppo commerciali deboli o miopi, è stata costretta a muoversi al traino degli altri Paesi, merita di prendere la direzione opposta. I nostri prodotti, la nostra creatività e le nostre competenze devono avere il posto che meritano a livello globale. Con questo provvedimento articolato di politica industriale, fortemente voluta dal nostro Premier, abbiamo l'obiettivo ambizioso di rimediare i problemi che da sempre gravano sul nostro sistema produttivo. La burocrazia, la lunghezza dei processi amministrativi e giudiziari, la logistica, il dimensionamento delle imprese, per aumentarne il valore. Con l'altrettanto ambizioso piano di valorizzare e promuovere in Italia come all'estero le nostre eccellenze, le nostre radici, la nostra storia, il nostro patrimonio culturale, fattori da preservare e rafforzare, non solo per tutelare la nostra identità, ma anche per promuovere la crescita dell'economia nazionale, affinché tutto il sistema Paese possa stare al passo con i cambiamenti e le sfide globali. A questo obiettivo rispondono, ad esempio, lo stanziamento, già da quest'anno, di una prima tranche di 700 milioni su un miliardo per il nuovo Fondo Sovrano nazionale partecipato dal MEF e aperto anche ad altri fondi privati, che investirà nelle filiere strategiche fin dalla fase dell'approvvigionamento delle materie prime. Il Fondo Sovrano avrà anche il compito di sostenere l'imprenditorialità femminile in agricoltura, tutelare la biodiversità e promuovere i prodotti tipici italiani. E' questo il cuore e il motore finanziario del provvedimento. Ma vi sono anche, per esempio, nuovi strumenti per combattere la contraffazione dei prodotti e strumenti per tutelare il brand storici in crisi, come il subentro del MIMIT, al fine di salvaguardare la continuità. Questo vuol dire tutelare la storia e la cultura del nostro Paese e non solo gli asset economici. La formazione, però lo sappiamo, resta uno dei tasselli fondamentali quando si parla di crescita e di innovazione e la formazione, la fabbrica del futuro per tutti noi. Il tema dei giovani e dell'occupazione femminile è anche centrale in questo provvedimento. Ecco perché accogliamo con favore l'istituzione prevista dal disegno di legge del liceo del Made in Italy, più che con favore e con entusiasmo, implementato con l'insegnamento delle discipline STEM. Questo permette così alle imprese del settore di avere i professionisti che cercano e in grado di seguire l'innovazione, di stare e competere sul mercato italiano ed estero. E siamo gravemente in ritardo, ci doveva pensare il governo Meloni. Ci sono poi molte altre misure in questo disegno di legge. L'incevazione per le start-up, i voucher per l'acquisizione di servizi di consulenza utili all'ottenimento dei brevetti, il sostegno per l'imprenditeria femminile con 15 milioni di euro, la valorizzazione e la tutela del patrimonio immateriale, il contrasto alla contraffazione e al fenomeno dell'Italian Sounding, che ha un volume di affari stimato in 100 miliardi l'anno che vengono sottratti al nostro Paese, mediante l'introduzione di moderni sistemi di etichettatura e di tracciatura. Così come misure per la tutela e lo sviluppo del sistema agroalimentare, per la diffusione della cultura agroalimentare italiana nel mondo, e poi misure per le singole filiere, come quelle della ceramica, del legno, del settore termale, del turismo, della cultura, dello spettacolo e della moda, rispetto alla quale ci si è preoccupati della necessità di una maggiore sostenibilità e dell'importanza di trasferire le competenze alle nuove generazioni. Parliamo della nostra eccellenza italiana. Da tutto questo, Presidente, si comprende bene come il Made in Italy oggi sia un valore intrinseco della nostra nazione, e non soltanto il risultato della sommatoria di know-how di eccellenza in differenti segmenti economici e produttivi che storicamente caratterizzano i nostri territori. Diciamolo pure, Presidente, l'Italia ha ali più grandi del nido in cui l'hanno confinata anni di eccezione politica. Noi dobbiamo tornare ad essere un po' più orgogliosi del nostro Paese. Se andiamo all'estero, l'italiano, il sistema Italia è stimatissimo. Ecco, recuperiamo pure la nostra autostima. Noi abbiamo delle eccellenze che, se veicolate in un sistema con una visione progettuale a medio-lugo termine, non sono seconde a nessuno e possiamo essere i primi al mondo. E direi anche che ce lo meritiamo. Per tutte queste ragioni, Presidente, annuncio che il nostro gruppo voterà convintamente a favore di un provvedimento che getta le basi perché il nostro Paese possa tornare a crescere e a dispiegare tutte le proprie potenzialità sui mercati esteri. Un Paese che torna a volare sempre più in alto, come ci insegna proprio chi, quotidianamente, grazie al suo impegno e alla propria passione, ma sempre scrive quelle belle pagine dell'antica e nobile tradizione italiana del saper fare e fare bene. Un orgoglio italiano a cui diamo il nostro stimato bentornato, come abbiamo detto, ad Atreio. Grazie. Grazie, Senatrice Biancofiore. Lascio la parola al Senatore Scalfarotto. Grazie, Presidente. Io comincio questa dichiarazione di voto confessando che avrei prima di tutto una domanda da fare al Vice Ministro Valentini che è, Vice Ministro, ma come mai lei è qui quest'oggi? Perché bisogna sapere che in questo governo la competenza sulle esportazioni non appartiene al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. si chiama Made in Italy, ma già dal governo Conte II la vera competenza sulle nostre esportazioni sta in capo al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale che è il Ministero che per esempio sovrintende all'Agenzia ICE che è diretta da un diplomatico, non a caso. Fu fatta una scelta col governo Conte II di spostare la competenza al Ministero degli Esteri questa volta c'è un Ministero del Made in Italy ma gli imprenditori non sanno se devono parlare più con gli esteri se devono parlare con l'ex MISE c'è una grande confusione e già quando il governo non riesce a dare chiarezza ai suoi interlocutori che sono le imprese già abbiamo un grande problema di metodo quindi qui c'è un grande assente il Ministro Tajani già ieri sfiduciato sul piano Mattei adesso forse sfiduciato anche sulle esportazioni interessante va bene, noi ci aspettavamo dirò subito un provvedimento veramente strategico veramente strutturale perché le esportazioni per il nostro Paese sono possiamo dire la vera colonna portante della nostra economia noi abbiamo attraversato negli ultimi decenni importanti crisi economiche ma ciò che veramente ci ha assistito è stato l'avanzo della nostra bilancia commerciale noi abbiamo sempre portato a casa annualmente tra i 40 e i 60 miliardi che sono multipli di una legge di bilancio quelle nostre imprese che hanno fatto sempre dell'Italia uno dei primi dieci esportatori al mondo sono quelle che hanno resistito a ogni difficoltà che sono state al passo con gli avanzamenti tecnologici che hanno creato posti di lavoro che hanno creato valore e quindi ci aspettavamo che con la creazione di questo ministero sebbene nella confusione delle competenze sarebbe arrivato qui un provvedimento davvero strategico che avrebbe stabilito come aiutare le nostre imprese ad attraversare le grandi difficoltà che ci sono state negli ultimissimi anni pensiamo al covid e la distruzione la rottura delle catene globali del valore pensiamo alle tensioni sui mercati energetici pensiamo appunto alle guerre pensiamo al fatto che col covid addirittura il mercato interno è entrato in crisi in qualche momento pensavamo che avremmo avuto un provvedimento che avrebbe affermato in modo cristallino una posizione antiproibizionistica di questo governo perché il antiprotezionistica di questo governo perché il protezionismo è evidentemente il più grande avversario di un paese come l'Italia se noi siamo uno dei dieci paesi più grandi esportatori del mondo è evidente che noi abbiamo bisogno che non esistano dazzi che non esistano barriere tariffarie proprio per consentire ai nostri imprenditori di esportare e dovremmo avere la possibilità di aprire mercati che siano disponibili con un level playing field con pari opportunità anche per i nostri imprenditori ebbene in questo provvedimento non c'è veramente nulla questo provvedimento è una serie di interventi frazionatissimi di piccole spese di micro spese corporative che perdono completamente di vista quelle che sono le esigenze delle nostre imprese io provo a fare qualche esempio sappiamo bene che le nostre imprese sono imprese piccole e medie è evidente che rispetto a paesi dove le imprese sono molto più grandi delle nostre non voglio pensare alla Corea dove ci sono grandissimi conglomerati ma basta pensare alla Germania gli investimenti sia in ricerca e sviluppo ma anche gli investimenti nel setup di quell'organizzazione che serve per esportare sono molto più semplici allora per esempio avremmo voluto vedere qualche intervento di questo tipo come aiutare le imprese piccole e medie italiane a sbarcare su quei mercati si parla e ci sono norme monetarie diciamo c'è un mancia anche per la protezione dell'Italian Sounding ma certo va protetto anche con dei soldi però bisogna chiederci l'Italian Sounding è soltanto un problema o non è anche un'aspirazione del consumatore globale di acquistare prodotto italiano e allora la domanda è come si fa a portare prodotti italiani nella grande distribuzione in tutto il mondo fare in modo che quel consumatore che vuole acquistare il prodotto italiano lo trovi quello autentico genuino e non sia costretto a comprare limitazione perché magari vive in un paese ad alta immigrazione italiana pensiamo al prosecco in Australia al parmesan negli Stati Uniti ebbene se il consumatore trovasse sullo scaffale quel prodotto probabilmente comprebbe il prodotto italiano cosa fate per aiutare l'arrivo di questi prodotti sugli scaffali perché non state finanziando la ricerca e lo sviluppo perché perché vi dimenticate che le nostre esportazioni sono tecnologicamente sempre avanzatissime anche nei stori tradizionali dalla lettura di questo provvedimento veramente sembra un po' l'Italia del mandolino e della pizza ma anche la pizza che è importantissima ormai viene prodotta e viene pensata come tutto l'agroalimentare anche in maniera tecnologicamente avanzata allora che cosa si sta facendo in questo caso io penso a tutto quello che abbiamo fatto per un'economia manufatturiera come la nostra con i governi Renzi e Gentiloni con Industria 4.0 con il patent box con le norme sulla ricerca e lo sviluppo dove sono e soprattutto perché avete mollato avete lasciato la logica degli incentivi diretti alle imprese e siete tornati sull'idea dei bandi che non funzionano perché Industria 4.0 era una grande idea perché subito l'impresa in dichiarazione dei redditi se acquistava il macchinario aveva un'incentivazione fiscale e qui si torna all'idea dei bandi anche quando i bandi non si vorrebbero si pensi alle imprese culturali che chiedono il bonus art e invece si vedono ancora un bando che l'impresa italiana che spesso è un'impresa che fa mecenatismo ritiene essere poco utilizzabile e penso anche per esempio al nostro ruolo nel WTO al nostro ruolo nell'Unione Europea stiamo rappresentando posizioni antiprotezionistiche e aperturistiche in quelle sedi e nell'Unione Europea stiamo lavorando per allargare gli accordi di libero scambio che servono alle nostre imprese a vendere di più basti guardare l'esempio del CETA il trattato con il Canada che è in esecuzione provvisoria che l'Italia continua a non ratificare e non si capisce perché visto che non soltanto noi stiamo vendendo di più ma per la prima volta in Canada le nostre indicazioni geografiche protette vengono protette proprio dal CETA prima il prosciutto di Parma in Canada si doveva vendere come original prosciutto perché Parma era un marchio registrato oggi grazie a quel trattato noi possiamo tutelare il prosciutto di Parma allora chiedo perché non si fanno accordi con Mercosur per esempio con l'Australia con la Nuova Zelanda l'accordo di libero scambio con il Giappone è stato un successone ma non richiedeva ratifica lavoriamo in quella direzione lavoriamo per combattere contro i dazzi e contro le barriere non tariffarie missioni di sistema vi chiedo davvero di aiutare le nostre imprese a viaggiare ad accompagnarle come si è fatto in tempo diciamo al tempo dei governi Renzi e Gentiloni lo fanno i tedeschi lo fanno i francesi perché andare in paesi dove l'economia è pianificata dal governo presentarsi accompagnati dal proprio governo significa avere un accesso al mercato che altrimenti non hai non puoi fare il commercio internazionale soltanto stando seduto a Roma le nostre fiere io posso fare qualche esempio il Micam il Salone del Mobile il Mido cosa c'è per le nostre fiere perché in realtà si vede poco fate una giornata per il Made in Italy ma quel sistema fieristico richiede un sostegno vero autentico forte allora mi sembra che ancora una volta qui manchi una visione strategica di un settore della nostra economia che è fondamentale che è davvero portante avete affrontato questa vicenda che è una vicenda che necessiterebbe davvero di una visione strategica e complessiva con un approccio appunto che va a istituire la giornata del Made in Italy noi perché no però diciamoci la verità se questo è se il liceo del Made in Italy invece di insistere sulla formazione degli ITS degli istituti tecnici superiori che in Italia mancano se non c'è appunto un approccio diverso vice ministro e parlo anche ai suoi colleghi della Farnesina che purtroppo non sono qui oggi in aula io penso che non faremo quello che dobbiamo fare cioè stare davvero vicini alle imprese italiane che esportano che sono come ho detto la colonna portante di questo paese grazie senatore Scalfarotto prima di lasciare la parola alla senatrice Floridia voglio salutare studenti e docenti dell'istituto di istruzione superiore Giuseppe Solimeni di Lavello in provincia di Potenza benvenuti grazie Presidente colleghe e colleghi anche oggi senza il rispetto dei tempi minimi per svolgere un esame organico e approfondito ci troviamo a discutere l'ennesimo provvedimento ideologico di questo governo un disegno di legge complesso e caotico che pur sostenendo il sacrosanto bisogno di tutela promozione sviluppo delle filiere strategiche nazionali fiore all'occhiello del nostro paese in Europa e nel mondo è disseminato di norme pericolosamente propagandistiche nei fatti più che l'esiguo sopporto economico a settori produttivi cruciali per il made in Italy quali il legno la ceramica e le fibre naturali la cultura il turismo e la produzione agroalimentare in questo provvedimento ciò che rileva maggiormente o ciò che si rileva maggiormente la logica politica dei ricchi premi e cotio logica con cui voi della maggioranza siete abituati a distribuire confusamente risorse gettando fumo negli occhi dei cittadini e delle imprese sia ben chiaro siamo tutti nettamente consapevoli e convinti della necessità di favorire lo sviluppo sostenibile l'ammordernamento dei processi produttivi e delle attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in italy messo a dura prova dalla crisi energetica dall'inflazione e dagli effetti recessivi del mercato ciò di cui siamo certamente meno sicuri è della vostra capacità di saper gestire questi processi in modo efficace corretto e soprattutto strutturato nei quali sia possibile riconoscere una strategia un metodo un filo conduttore senza un approccio coerente e sistematico vi siete infatti limitati a fare il classico taglia e cuci scorporando ingenti risorse da fondi già esistenti è questa la super novità lo spirito innovativo di questo governo avete distribuito risorse a modi mancia un po' ovunque peraltro con buona pace di una programmazione temporale veramente idonea a garantire uno sfruttamento funzionale di tali capitali nel lungo periodo visto che nel migliore dei casi i finanziamenti per i settori fortunati arrivano solo fino al 2025 è il caso ad esempio dell'istituzione del cosiddetto fondo nazionale del made in Italy per il cui finanziamento del solo anno 2024 sono stati sottratti 300 milioni al venture capital costituito a favore delle start up e delle piccole e medie imprese innovative anche solo questo dato deve far comprendere quanto si allontana la vostra idea di sviluppo e sostenibilità dalle reali girgenze dei settori produttivi di questo paese che nell'ambito di un mercato fortemente globalizzato e sempre più digitalizzato necessita piuttosto di moderni strumenti che gli consentano di guardare al futuro in un'ottica di ricerca e sviluppo valorizzando le proprie eccellenze e promuovendo un deciso e necessario modernamento e una competitività dei propri comparti produttivi per stare al passo con i tempi e soprattutto la concorrenza la vostra preoccupazione di preservare e tramandare le radici culturali nazionali purtroppo si traduce con l'utilizzo di metodi antiquati che di certo non aiutano i nostri comparti produttivi ad affermarsi e consolidarsi sul mercato a maggior ragione in un contesto internazionale sempre più in evoluzione ed è per questo che siamo fortemente preoccupati in questo provvedimento non basta limitarsi solo a citarlo il principio della sostenibilità ambientale quello della transizione energetica e dello sviluppo di un'economia circolare all'interno dei processi produttivi delle filiere della moda e delle fibre tessili per innescare un reale cambio di rotta e raggiungere gli obiettivi europei di neutralità climatica e di decarbonizzazione previsti entro il 2050 alle parole devono seguire i fatti servono criteri ambientali per evitare il greenwashing servono disposizioni normative misure e strategie da utilizzare affinché la transizione energetica quella ecologica e la digitalizzazione non costituiscano per le imprese solo un onere ma anche una concreta opportunità di abbattimento dei costi e di riflesso di maggiori disponibilità per investimenti e sviluppo sostenibile servono incentivi alle aziende per sostenerle nel processo di transizione energetica il governo italiano purtroppo rimane nei binari di un mondo che non esiste più tanto che le parole e le intenzioni di questo provvedimento risultano limitate e vuote suonano come una presa in giro come le note stonate di un carillon che continua a incepparsi ridicole e vacue sono le norme bandierina che istituiscono la giornata nazionale del made in italy e il premio annuale di maestro del made in italy simboli della poca serietà di questo esecutivo che baratta la politica dell'impegno e dell'efficacia con quella dell'apparenza di questo passo per tutte le giornate celebrative istituite dal governo Meloni non basteranno le date presenti nell'anno solare dannoso pericoloso confusionario totalmente inutile alla risoluzione dei problemi che affliggono il nostro sistema scolastico è poi la folla idea di istituire il liceo del made in italy che di fatto fa sparire i licei economico sociali si parla di 419 scuole statali con non meno di 3000 classi senza contare i 116 istituti paritari coinvolti una decisione propagandistica incomprensibile che non curante dei terribili dati che vedono la scuola italiana con quasi due punti in più della media UE per l'abbandono scolastico precoce con una forte carenza di strutture scolastiche idonee con una grave mancanza di insegnanti che tra parentesi hanno gli stipendi più bassi in Europa istituisce un nuovo corso di studio che non si comprende come debba svolgersi dato che non sono previste ulteriori risorse economiche per il suo sviluppo una scelta scelerata che appesantisce le problematiche organizzative già esistenti nel mondo della scuola italiana e che subordina la formazione degli studenti unicamente alle esigenze e alle logiche del tessuto socio-economico scolorendo l'importante funzione interdisciplinare proveniente dall'apprendimento delle materie umanistiche la vocazione nazionalista di questo governo anche nel campo dell'istruzione ci porta indietro di un secolo e ci spaventa non poco non per ultimo è imbarazzante constatare che in questo piano di rivalutazione del settore del made in Italy manchi completamente la volontà di attuare un serio programma di valorizzazione e di promozione del comparto turistico settore di primo piano nel tessuto economico sociale e culturale del nostro paese secondo un approccio lesivo e controproducente per l'intera categoria degli operatori turistici e delle imprese che operano nel settore l'unica misura inserita in questo panicello caldo del governo per accrescere l'attrettività dell'Italia la competitività dell'intero settore turistico la promozione del patrimonio ricettivo e turistico italiano istituisce un misero comitato nazionale per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia come destinazione turistica una misura vergognosa che non rispetta minimamente le richieste di tutela di coloro che lavorano in questo settore peraltro dannosamente liberalizzato da questo governo e che mortifica i veri bisogni del settore turistico attraverso l'inutile istituzione del manager figura che non si sa come possa contribuire alla promozione dell'immagine dell'Italia nel mondo questo modus operandi conservatore e controproducente ostacola il progresso a tutti i livelli impedendo che possano concretamente realizzarsi quelle condizioni attraverso cui promuovere realmente la valorizzazione delle produzioni d'eccellenza e le bellezze storico-artistiche del nostro paese per questo e per tutti gli altri motivi elencati da senatrice componente dell'Alleanza Verdi e Sinistra dichiaro a nome del mio gruppo il voto contrario a questo provvedimento grazie grazie senatrice Floridia lascio la parola al senatore Rosso a lei la parola grazie grazie presidente il tema del Made in Italy della sua tutela e della sua promozione è uno dei punti del programma del governo del centro-destra a cui noi di Forza Italia teniamo di più siamo in presenza di un provvedimento molto articolato sia per il numero delle norme ben 59 articoli sia per la specificità dei contenuti un disegno di legge cui ha lavorato il Parlamento e che pur essendo l'iniziativa governativa nasce da un lungo lavoro di confronto con tutti gli stakeholders svolto nell'apposita indagine conoscitiva della Commissione di Attività Produttive della Camera lo scopo è quello di tutelare e accompagnare le nostre filiere produttive e renderle immediatamente riconoscibili e quindi uniche nel contesto internazionale lo scopo è quello di tutelare e far apprezzare al mondo il valore aggiunto della creatività italiana della competenza italiana delle lavorazioni italiane dei prodotti che hanno il marchio di Made in Italy un disegno di legge che intendiamo approvare entro la fine dell'anno affinché le sue misure e le risorse economiche che lo accompagnano pare un miliardo di euro siano immediatamente operative dal provvedimento emerge chiaramente la volontà di promuovere all'estero i nostri marchi e anche l'idea che a promuoverli siano le donne e quindi un articolo è dedicato all'imprenditoria femminile e all'impresa prevalente partecipazione femminile alla proprietà industriale viene dato il giusto riconoscimento attraverso norme che incentivano la conoscenza e la consapevolezza dei brevetti cioè dell'importanza di valorizzare i processi di innovazione e i risultati che spesso sono prodotti unici che vanno assolutamente tutelati troppi sono nel mondo i tentativi di imitazione e di plagio di prodotti italiani di nomi che hanno un suono che ricorda quello del prodotto unico originale prodotto in Italia pensate che gli anglosassoni hanno addirittura un termine italian sounding per significare appunto tutto ciò che suona un po' italiano facciamo degli esempi il parmesan la salsa pommarola i spagheroni il prosec ecco perché va tutelato il prodotto italiano e la sua unicità disegno di legge prevede inoltre una serie di misure che tutelano la peculiarità delle filiere produttive italiane tra queste quella del legno per arredo dell'olio vergine italiano della filiera del tessile della nautica della ceramica del pane fresco e della pasta e della moda viene inoltre istituito il liceo del made in Italy cioè un percorso di studi superiore che dovrà essere regolamentato dal ministero dell'istruzione del merito viene istituita una fondazione imprese e competenze per il made in Italy con lo scopo di creare un raccordo tra imprese che rappresentano le eccellenze italiane e gli studenti quindi l'idea di valorizzare il merito che è fondamento di ogni eccellenza italiana è alla base di queste nuove norme viene istituita inoltre l'esposizione permanente del made in Italy per promuovere in modo stabile l'eccellenza del prodotto italiano di qualità superiore si pensa anche di promuovere sia il patrimonio culturale immateriale che i luoghi di cultura ma anche rafforzare la tutela dei siti internet che promuovono il patrimonio culturale il disegno di legge contiene una serie di misure a tutela della creatività delle imprese impegnate nella creazione e divulgazione di contenuti creativi e alla loro promozione nel mondo sono presenti disposizioni per promuovere il turismo in Italia anche attraverso il potenziamento degli uffici consolari dei paesi ad alta intensità di flussi turistici altri settori da sostenere sono le filiere e i mercati rionali che possono svolgere un ruolo fondamentale nella promozione dei prodotti italiani un capitolo importante e specifici articoli sono dedicati alla cucina italiana alla certificazione di qualità della nostra ristorazione e alla sua promozione all'estero così come vengono protetti ulteriormente i prodotti che hanno una specifica indicazione geografica registrata che certifica la loro produzione in determinate parti d'Italia e il legame di quei sapori con quel territorio la loro unicità indicata dal fatto che è producibile con quel marchio solo in Italia con essi vanno potenziate le pratiche tradizionali distretti del prodotto tipico italiano e le associazioni che valorizzano le produzioni agricole di pregio una svolta alla protezione del made in Italy potrà avvenire con l'approvazione dell'apposito contrassegno per il made in Italy una sorta di brand immediatamente riconoscibile che dovrà contraddistingue l'origine italiana dei prodotti riteniamo sia profondamente innovativa anche l'idea di tutelare le filiere che producono i prodotti italiani attraverso i registri distribuiti le cosiddette blockchain infine un capitolo dedicato alla lotta alla contraffazione con disposizione che partono dalle modifiche al codice penale di procedura penale alla specifica formazione che deve avere chi si occupa in ambito giudiziario di questi temi alla introduzione di nuove sanzioni amministrative insomma una serie di norme che sono frutto di un lungo confronto con le categorie con tutti gli esperti con gli stakeholders che hanno chiesto al Parlamento gli interventi che noi abbiamo fatto nostri dando loro una logica normativa crediamo che queste norme saranno efficaci e segneranno un cambio di passo nel tutelare le eccellenze del nostro paese oggi diciamo con forza che quello che è fatto in Italia è fatto bene e va tutelato per questi motivi vi annuncio il voto favorevole di Forza Italia grazie senatore Rosso lascio la parola a senatrice Liccheri grazie presidente onorevoli senatrici e senatori membro del governo oggi l'aula del senato è chiamata ad esprimersi sul disegno di legge ed iniziativa governativa numero 958 recante disposizioni organiche per la valorizzazione la promozione e la tutela del made in Italy il nome è altistonante e se visto sotto il profilo della comunicazione politica anche accattivante intrigante suggestivo direi peccato che il senato della repubblica non sia un cartellone pubblicitario dove affiggere lo slogan o il tweet della settimana ma un ramo di quell'istituzione che dovrebbe lavorare su temi concreti e su proposte reali per cercare di migliorarlo questo paese però capisco che per il governo che ha imperniato il suo operato quotidiano sull'esautoramento delle funzioni del Parlamento e di tutti noi parlamentari l'aula di Palazzo Madama si è trasformata in un megafono propagandistico delle finte politiche perché di concreto quello che è passato qui dentro di concreto c'è veramente poco in quest'anno di lavoro parlamentare il governo ha intasato l'operato delle due camere con provvedimenti fittizi e inconsistenti passando iniziando col decreto rave carne coltivata passando per il DL asset altro provvedimento ricco di spunti comunicativi per l'estate vero la cui unica valenza sostanziale però è stata quella di promettere soluzioni immediate a problemi complessi quest'anno non avete solo calpestato il Parlamento compresi i componenti della maggioranza consapevoli e no costretti pedissequamente a ritirare gli emendamenti perché o non in linea con le vostre politiche scelerate o peggio ancora perché gli uffici del Ministero non sono stati in grado di condurre le adeguate istruttorie alle politiche scelerate di qui sopra il lavoro di questo governo si è sostanziato in continui e costanti slogan elettorali mancando completamente di rispetto a questo Parlamento ne sono un esempio la legge di bilancio l'utilizzo spropositato della fiducia per di più costantemente su decreti legge per non parlare del continuo ricorso a decreti legge omnibus un modus operandi profondamente scorretto nei confronti di quest'aula e di tutti i colleghi primi quelli della maggioranza ma pazienza l'importanza l'importante è che sui social media possiate mettere uno slogan e qualche video da 30 secondi per accaparrare tanti like ma a questo punto presidente la maggioranza poteva chiedere al signor Musk di sconsigliarvi sulla strategia digital da utilizzare magari potete anche chiedergli cosa ne pensa della GPA o della cannabis legale vedete le vostre contraddizioni politiche alla fine saltano sempre fuori tentate di nasconderle di sviare di richiamare l'attenzione su altro ma alla fine le vostre mancanze e le vostre negligenze vengono sempre a galla il provvedimento in esame tralasciando il fatto che la bozza di questo disegno di legge circolava da quasi un anno sarebbe interessante analizzare le motivazioni che vi hanno condotto ad aspettare la sessione di bilancio ma anche qui pongo una domanda retorica la risposta è chiarissima perché intasare il Parlamento significa ridurre la possibilità emendativa e quindi ribadire la vostra logica istituzionale secondo cui il Parlamento è sostanzialmente un passacarte sul contenuto del provvedimento vi devo dire però che in un primo momento ci siamo anche stupiti per la quantità di filiere e di settori interessati poi però abbiamo iniziato a leggere e lì è cascato il vostro castello di sabbia con una legge si pensava di risolvere i problemi della filiera ceramica filiera del legno transizione verde nella moda liceo del made in Italy pane, pasta giornata del made in Italy e che più ne ha più ne metta insomma più che un provvedimento di sostanza sembra la lista dei desideri e in maniera più realistica la lista dei temi da toccare secondo il piano editoriale della comunicazione sostanza poca pochissima provvedimenti estemporanei provvisori parziali una serie di toppe messe qui e lì per sopperire da un lato al fatto che vi siete dimenticati di governare un paese in crisi e dall'altro lato per porre rimedio ad una legge di bilancio inconsistente il vostro gioco è chiaro quello di fare solo comunicazione e propaganda è forse venuto il momento di mettere sempre in evidenza le vostre contraddizioni in tutti i contesti possibili a tutela di questa istituzione della serietà dei colleghi di maggioranza e opposizione che si sentono ci sentiamo mortificati da questo modo di governare e di rapportarsi con il Parlamento il nostro voto sarà contrario grazie grazie senatrice lascio la parola al senatore canta la messa a lei la parola senatore grazie presidente signor viceministro io facevo una riflessione poco fa e dicevo secondo qualche studio credo che fosse KPMG diceva che il marchio made in Italy è tra i marchi più conosciuti al mondo al terzo posto in una classifica di qualche anno fa eppure tante aziende italiane che fanno made in Italy stentano ad arrivare a fine mese o a fine anno e allora mi sono chiesto qual è il problema credo che esistano una serie di problemi perché forse negli anni passati chi ha governato non ha fatto quello che doveva e non è uno scaricabarile perché la responsabilità forse è un po' di tutti penso ai 68 governi che sono cambiati in 75 anni penso al total tax rate in Italia del 61,8 contro il 42,3 della media europea penso al mondo del lavoro ci dice Confindustria che le aziende assumerebbero se ci fossero dei profili formati 540.000 addetti oggi e abbiamo una disoccupazione ancora all'8% penso ad un aspetto fiscale perché oltre a quello che ho detto vediamo che le rimanenze fiscali in questo paese come diceva il mio collega molto bene Massimo Caravaglia nel 2018 erano di 800 miliardi sono diventate 1150 nel 2021 e quindi sono più 350 miliardi e questo si collega inscendibilmente a quello che una parte politica ha sempre ritenuto dell'impresa c'è stata un'inversione e non c'è stato più nei confronti dell'imprenditore una presunzione di innocenza ma una presunzione di colpevolezza quella presunzione di colpevolezza che ha portato ad appesantire qualsiasi attività qualsiasi processo abbia dovuto seguire un imprenditore appesantendolo inevitabilmente perché è avvenuto questo? perché forse chi ha governato in passato si è preoccupato solo del sondaggio del giorno dopo si è preoccupato solo della prossima elezione smettendo di avere una visione e cosa che questo governo invece vuole stravolgere questo governo la Lega il centrodestra hanno l'ambizione di tornare ad avere una visione del paese hanno l'ambizione di tornare ad avere due parole unite che per molti anni sembravano antitetiche una politica industriale due parole che secondo una parte ideologica degli italiani sono due parole antitetiche perché secondo qualcuno il PIL dell'Italia lo deve fare lo Stato noi riteniamo che il PIL dell'Italia lo debbano fare le imprese e lo Stato debba essere d'aiuto alle imprese e allora le prime azioni da quella di questo governo a difesa del Made in Italy che non è solo un brand ma è storia e cultura e futuro ed orgoglio è stato cambiare i nomi dei ministeri perché come dicevano i latini nome e nomen e pensare voglio dire a un ministero che esiste della sovranità alimentare piuttosto che del Made in Italy piuttosto che del Merito sono delle indicazioni così come alcuni provvedimenti che stiamo varando in questo periodo sono delle indicazioni abbiamo varato ieri il Piano Mattei e oggi il Made in Italy che cosa hanno questi due provvedimenti in comune semplice non sono dei provvedimenti finalizzati o fatti sull'emergenza i provvedimenti sull'emergenza sono fondamentali ma sono progetti di legge sono dei segni di legge sono dei provvedimenti che immaginano in Italia del 2030 e del 2040 nello specifico questo progetto questo provvedimento nasce come diceva il mio collega Alberto Cusmeroli a inizio di quest'anno abbiamo audito più di 160 associazioni rappresentanti del mondo imprenditoriale e questo vuole essere un provvedimento organico e strutturale e la difesa del Made in Italy significa inscindibilmente difesa delle comunità locali difesa delle comunità locali a vantaggio ed nell'interesse delle future generazioni nello specifico questo provvedimento prevede come già hanno detto molti altri colleghi una creazione di un fondo sovrano di un miliardo di euro una lotta a l'Italian sounding che vale dagli 80 e 100 miliardi e si traduce anche in una perdita di miliardi di euro di gettito fiscale per l'Italia l'istituzione di un liceo del Made in Italy e anche il potenziamento di una serie di strutture che noi abbiamo penso a Lice penso alla Simest penso alla Sace che potrebbero aiutare le imprese soprattutto anche le più piccole penso in questo caso all'artigianato di alta gamma che rappresenta l'orgoglio della manifattura italiana e verso la quale e verso il quale questo provvedimento si indirizza per poter essere d'aiuto e quindi credo che sia l'ennesimo provvedimento di un governo di una maggioranza e nello specifico della Lega che sta decidendo di pensare all'Italia del 2040 e non solo al prossimo sondaggio cito dicendo chiudo dicendo che sembrerà banale ma questo sfugge spesso e più Made in nel mondo hanno senso solo se la terza parola è Italy Made in in Norvegia in Belgio in altre parti non hanno lo stesso valore Made in nel mondo hanno senso solo se la terza parola è Italy per questo annuncio il voto favorevole del gruppo Lega Salvini per emere al provvedimento grazie grazie senatore canta la messa lascio la parola al senatore Martella a lei la parola senatore signor Presidente colleghi senatori colleghe senatrici scegliendo la strada del disegno di legge il governo ha rinunciato per una volta a ritoccare ulteriormente il record che gli appartiene in modo indiscusso e cioè quello dell'uso e dell'abuso dei decreti legge che da oltre un anno stanno svilendo e mortificando il ruolo del Parlamento un ricorso alla decretazione di urgenza anche quando di urgenza non c'è la traccia accompagnato pressoché sempre dalla richiesta di un voto di fiducia da parte di un governo che si dice politico che dispone di una solida maggioranza ma che è evidente e a questo punto è più di un sospetto così solida non è aver presentato però un disegno di legge non significa che si sia interrotta la prassi che ha già provocato tanti guasti alla vita parlamentare e alla coerenza con il dettato costituzionale perché anche l'iter di questo provvedimento dimostra quanto ormai siamo dentro un monocameralismo di fatto e alternato in cui la possibilità di omendare un testo è riservata solo a una delle due camere il mancato rispetto per il parlamento è testimoniato dall'assoluta ignoranza delle dinamiche parlamentari perché stanziare dei fondi tra l'altro pochi per l'anno in corso chiedendo al secondo ramo del parlamento un esame veloce e cioè di fare presto pena la perdita di questi pochi fondi significa aver già deciso che le camere non discuteranno non svolgeranno fino in fondo il proprio ruolo anche di fronte ad un provvedimento non urgente non legato al PNRR non legato a nessun tipo di scadenza costituzionale se non quelle legate alla carenza di rispetto verso il parlamento e verso i legislatori che siamo appunto noi come se non bastasse con la legge di bilancio che ha aperto altri sciagurati orizzonti considerando l'invito ordine ai colleghi della maggioranza di non presentare emendamenti lo vedremo da qui a poco anche in quest'aula per non disturbare un manovratore che peraltro non ha nemmeno una rotta precisa e non sa nemmeno bene in che direzione andare lo dimostra perfettamente il provvedimento che stiamo per votare l'ennesimo spot girato usando una scatola ben incartata ma sostanzialmente vuota l'ennesimo articolato puramente narrativo dopo che un titolo che sarebbe stato anche suggestivo e che muoverebbe curiosità e interesse dimostra che in realtà non ha nessun interesse per la valorizzazione la promozione la tutela del nostro made in Italy che pure sarebbe così importante che ha attraversato prove difficilissime come quella della pandemia e della recente guerra nel cuore dell'Europa invece scorrendo i 60 articoli 59 quasi 60 che lo compongono non si può che rimanere delusi sorpresi ma ormai conosciamo l'improvvisazione l'indiguatezza di questo governo di questa maggioranza ma delusi sì e direi anche preoccupati nel momento in cui il paese sta affrontando una serie di criticità industriali molto forti cito solamente ILVA che rischia di chiudere o Telecom o Stellantis era più lecito più doveroso aspettarsi un provvedimento che in qualche modo ponesse le basi di una strategia di difesa dei nostri asset industriali delle nostre imprese del nostro export della sua competitività nei mercati internazionali arriverei a dire che nel nostro mondo globalizzato siamo di fronte a delle sfide che sono ineludibili pensiamo a quanto accaduto la COP28 al consenso che la comunità internazionale pur tra mille difficoltà e resistenze ha raggiunto sull'abbandono dei combustibili fossili e alla necessità che ora anche l'Italia sappia governare i processi di transizione per dare un pieno e rapido contributo alla concreta attuazione di quanto deciso ma rispetto a tutto questo nulla ci troviamo di fronte ad un provvedimento che come hanno detto altri colleghi definendolo in vari modi è solamente una goccia nel mare con l'aggravante che almeno questa volta le premesse per svolgere un lavoro dignitoso c'erano tutte c'era il tempo sufficiente per ascoltare pezzi importanti del nostro paese parti sociali delle filiere e le filiere produttive quelle che si occupano di creatività di eccellenza italiano e c'era anche la piena responsabilità da parte nostra del partito democratico vorrei dire di tutte le opposizioni di fare un lavoro a tutela del nostro made in Italy specificando bene che cosa serve al manifatturiero cosa serve al turismo cosa serve alla meccanica alle automodi cioè tutto ciò che certifica l'importanza del made in Italy nel mondo ma tutto questo non si è fatto e le premesse sono state deluse e il risultato direi è veramente disarmante faccio un esempio per tutti il fondo sovrano e poi frettolosamente ribattezzato il fondo nazionale comunque lo si chiami la realtà è che non è nemmeno lontanamente sufficiente ad realizzare lo scopo per cui è stato creato la sua dotazione è ridicola 700 milioni per il 2023 300 milioni per il 2024 un miliardo in tutto mentre la Germania ne stanza circa 25 l'Irlanda e la Spagna 15 anche la Grecia 7 e mezzo ma dove volete andare con questi 700 milioni è una sorta non sono nemmeno soldi in realtà nuovi perché sono stanziamenti previsti da altri fondi quindi una sorta di partita di giro e vorrei dire anche di presa in giro che senza istituire un fondo che non è in grado di svolgere questo ruolo sistemico e che non ha obiettivi chiari che anzi rischia di intralciare altri fondi esistenti e che dire ancora dell'istituzione del liceo per il Made in Italy che non solo appare inutile ma fa confusione andando a sovrapporsi con percorsi già esistenti che funzionano da anni e indebolendo una di quelle leve principali su cui dobbiamo puntare cioè quella delle competenze in particolare di quelle tecniche scientifiche penso agli istituti tecnici superiori su cui invece registriamo ancora ritardi e differenze di genere e territoriali e la verità è che siamo come già avvenuto ieri con il piano Mattei ancora una volta all'ennesimo titolo questa volta con il titolo del Made in Italy una volta ancora a fare propaganda cercare di usare titoli e nomi come slogan avere come si dice qualche banderina da sventolare ma gli risultati sono veramente scarsi perché a scorrere bene questi articoli non si trova altro che un elenco infinito di coriandoli estemporanei e di interventi parcellizzati privi di organicità soprattutto privi di efficacia senza che ci sia una minima visione di cosa sono di dove devono andare il nostro manifatturiero il nostro artigianato di qualità la nostra filiera agroalimentare ma senza indicare cosa di cui ci sarebbe bisogno che cosa si intende fare per il comparto chimico per esempio per reggere la competizione del futuro cosa bisognerebbe fare per la nostra siderurgia per procedere lungo la strada della decarbonizzazione così come nel campo delle telecomunicazioni oppure di fronte alla sfida dell'intelligenza artificiale e su tutto questo ci dovremmo confrontare con il resto del mondo e così non avviene possiamo capire quanto sia radicata e antica la vostra visione autarchica e quanto questo sia un retaggio culturale della destra ma non potete trascinare il paese nelle sabbie mobili della vostra ideologia e della vostra avversione al futuro e d'altra parte su tutto ciò che è industria ed economia state dimostrando che così pronti non eravate a tutela dei lavoratori di cui non vi interessa nulla e però confesso che almeno sul Made in Italy almeno sulla produzione e promozione dell'Italia all'estero e ho concluso almeno sulla tutela dei prodotti italiani ci saremmo aspettati aveste un'idea diversa non dico tante idee almeno un'idea invece nulla solo propaganda e demagogia che finiranno per scontrarsi con la realtà e badate non dovete preoccuparvi solo della nostra opposizione che continuerà ad essere ferma e intransigente e appoggiare i suoi contenuti ma vi deve preoccupare io non so se di questo ve ne rendiate conto la pessima considerazione che questo provvedimento sta riscotendo lungo i gangli vitali del paese che produce e che oggigiorno si confronta con i mercati internazionali insomma avete paura di affrontare i veri nodi avete paura di affrontare le crisi industriali non avete una strategia avete paura di affrontare balneari o tassisti ogni forma di cooperazione e provate poi con queste misure spot a dare recuperando qualche messaggio e più forte di voi il problema è che rimetterci c'è il paese e anche questo disegno di legge dimostra che è un'altra occasione l'ennesima occasione che l'Italia perde grazie 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 senatore adatta ai propri elettori nel nostro programma è sempre emersa la necessità di promuovere il made in Italy il brand Italia le eccellenze italiane in campo culturale in o gastronomico del design dell'architettura e dell'imprenditoria tutta abbiamo già affrontato la tutela della proprietà intellettuale in un precedente provvedimento quello che ci impegna oggi è un ulteriore passo avanti nella direzione giusta la forza del made in Italy è la slow production è la slow manufacturing cioè produrre con i tempi giusti prodotti di grande qualità rispettando anche la persona e le sue relazioni con la società sto parlando di quell'umanesimo industriale che ha inventato Adriano Olivetti grande imprenditore del nostro paese purtroppo un po' a volte dimenticato lo conoscono di più all'estero dovremmo davvero fare qualche cosa per riproporre tutto il suo pensiero dell'umanesimo industriale ci consente di produrre prodotti di qualità spesso non seriali perché vedete la differenza della nostra filiera produttiva non è basata troppo su seriale perché il seriale è copiabile ma il nostro è il Genius Faber il prodotto italiano che viene fuori dalle nostre filiere è un prodotto unico il marchio made in Italy lo abbiamo già detto tutti è stato decretato da KPMG una delle big four è al terzo posto dopo Coca Cola e Visa ma questo non vuol dire che la sfida che noi possiamo affrontare tutti insieme è quella di fare un upgrade di fare un ramp up di questo e portarlo più in alto noi dobbiamo riuscire tutti insieme a portare la reputation del made in Italy ancora più in alto verso posizioni più interessanti ed è per questo che io credo sia necessario uso una parola ormai un po' desueta cabina di regia ma la cabina di regia serve per fare la strategia che ci serve per avviare questo percorso e noi dobbiamo riuscire perché abbiamo un made in Italy in Italia che è nascosto che è dato da quello delle micro imprese perché le micro imprese non sono tracciate però fanno dei prodotti di grandissima qualità unici queste micro imprese sono il futuro anche del nostro paese per portare ancora più in alto il made in Italy una micro impresa non ha la possibilità di fare internazionalizzazione di fare marketing ed è questo che con la cabina di regia dobbiamo aiutare a portarli avanti però sappiamo tutti che queste imprese hanno dei prodotti straordinari straordinari ma conosciuti semplicemente nel loro ambito locale il made in Italy ho sentito in questi giorni anche in commissione si diceva bisogna fare delle etichette in cui tutto sia made in Italy con tutti gli ingredienti ma io credo che sia una buona idea ma sia solo un'idea e sia qualche cosa di assolutamente irrealizzabile nessun prodotto nel mondo è fatto a meno che non sia una materia prima che diventi prodotto che è fatta solo con degli ingredienti che sia autotoni è ovvio ed evidente che gli italiani sono dei grandissimi e bravi trasformatori creano dei prodotti trasformando delle materie prime e facendone dei prodotti unici questa è la nostra forza questa è la nostra capacità io diffido un po' degli imprenditori compiacenti cioè sono quelli che dicono a un certo punto io ho un buon profitto non mi interessa perché devo investire cioè sto bene così ecco questo è il principio della fine c'è un bellissimo libro che ne spiega le ragioni noi dobbiamo avere fame di crescita gli imprenditori devono avere sempre fame di crescita l'innovazione ha detto una signora in un telegiornale intervistata gli hanno chiesto cos'è l'innovazione per lei e lei ha risposto l'innovazione quando inventano qualcosa di nuovo che cambia in meglio la vita delle persone questa è la vera innovazione qui dentro c'è tutto e quando riusciamo a migliorare la vita delle persone ora io credo Presidente che anche con le rotelle non l'abbiano francamente cambiata la vita delle persone però questo è l'imprenditore se è veramente tale ha una innata propensione a investire in ricerca e sviluppo per continuare a migliorare se stesso e la propria azienda c'è bisogno che questi capitali siano ben investiti che dall'altro lato ci siano delle persone formate in grado di sfruttare questa opportunità per questo motivo ben venga la politica che sta portando avanti il ministero dell'istruzione con la costituzione del liceo del Made in Italy e lo sviluppo degli ITS non è vero che gli ITS noi non li stiamo guardando non è assolutamente vero ricordiamoci che solo due anni fa la Germania ne aveva 800 e l'Italia ne aveva 100 oggi ne ha molti di più sta andando in questo percorso è un tipo di formazione che serve alle aziende ed è quello che stiamo facendo per cui non è vero che non li stiamo facendo e non li stiamo prendendo in considerazione insomma noi dobbiamo guardare i nostri limiti anche come delle opportunità se affrontiamo la tematica già stata affrontata dell'Italian Sounding cioè quel mercato di prodotti che presentano nomi e slogan riconducibili al nostro paese ma che nulla hanno a che fare con l'Italia è il mercato del falso italiano con l'intento evocativo del Made in Italy il nostro settore agroalimentare vale 60 miliardi quello dell'Italian Sounding ne vale quasi il doppio cioè la produzione italiana è sorpassata dal finto cibo italiano per questo motivo il confronto tra le imprese è importante che con le istruzioni per sostenere e tutelare l'economia agroalimentare i prodotti più falsificati lo abbiamo già sentito in quest'aula sono il Granapadano e il Parmigiano con i vari parmesan che superano la produzione del prodotto originale poi ci sono posciuto di palma sandaniele mortadella di Bologna olio estaveggine e conseve di pomodoro da un punto di vista legislativo non si tratta di prodotti contraffatti non ci sono violazioni del marco registrato per cui non riusciamo legalmente né a perseguirli né a punirli hanno solo una valenza evocativa che ricorda l'italianità del prodotto al fine di indurre il consumatore ad associare erroneamente questi prodotti con i made in Italy e i maggiori produttori di tutto questo sappiamo essere in America in Canada in Francia in Germania e questo fenomeno ha due aspetti negativi fondamentali colpisce i produttori italiani sottraendo grosse fette di mercato colpisce i consumatori che comprano prodotti spesso di bassa qualità credendo di comprare invece un prodotto di eccellenza facendo in questo modo anche un danno all'immagine del made in Italy ripeto il mercato dell'agroalimentare italiano oggi vale 60 miliardi e potrebbe arrivare a valerne molti di più perché di quei 100 miliardi circa di Italian Soundy nell'agroalimentare i consumatori una grossa fetta di loro credono di comprare prodotti italiani e quello è il mercato che noi dobbiamo andare a aggredire e a conquistare c'è bisogno di una riduzione della burocrazia delle barriere tarifarie e doganali per favorire il commercio dei prodotti made in Italy a discapito di quelli falsi le nostre istituzioni devono opporsi al fenomeno in modo compatto portando avanti all'estero politiche di promozione del vero cibo italiano bisogna proteggere in modo assoluto il nostro brand identificativo tracciando il prodotto lungo tutta la filiera in questo progetto è chiaro che giocano un ruolo fondamentale anche gli imprenditori perché dietro io sento sempre parlare in quest'aula di imprese non sento mai parlare di imprenditori ma dietro a ogni impresa c'è un imprenditore non è che siano dei corpi celesti che navigano da soli che spesso è un soggetto visionario e innovatore che con impegno non fa altro che dare corpo ad un sogno assieme ad altre persone che non lavorano per lui ma con lui se c'è crisi le grandi aziende licenziano i nuovi investono la parola d'ordine deve essere crescita bisogna aumentare la percentuale di occupati di donne e di laureati anche con l'aiuto di un'immigrazione di qualità che ci possa dare una mano concludo questo intervento che non credo sia stato polemico perché ho scoperto che la polemica gli imprenditori non la fanno avendo scoperto che non la fatturano per cui è poco attrattiva e non la fanno dico solo per parafrasare un intervento della senatrice naturale presidente che dice che sono solo sogni gli imprenditori i sogni li realizzano annuncio voto favorevole grazie senatore Ancorotti abbiamo terminato le dichiarazioni di voto ai sensi dell'articolo 120,3 del regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge 958 dichiaro aperta la votazione votato tutti non hanno votato tutti senatore De Carlo ci comunica che il senatore Nastri era i nastri di partenza fatto votato tutti colleghi colleghi dichiaro votato tutti dichiaro chiusa la votazione il senato approva colleghi prima di sospendere la seduta non è usanza perché prima di sospendere la seduta di solito non si fanno interventi di fine seduta però ci sono colleghi di quasi tutti i gruppi che ci hanno chiesto di intervenire sullo stesso argomento e vista la gravità e l'importanza dell'argomento permetto e do la parola di fare un intervento di fine seduta a gruppo sempre sullo stesso argomento quindi lascio la parola adesso alla senatrice Mieri sulla esecuzione capitale di Samira Sabzian in Iran allora la parola grazie signor presidente grazie colleghi senatori all'alba è stata impiccata in Iran Samira Sabzian Farda una sposa bambina che si trovava in carcere da dieci anni ed era stata condannata alla pena capitale per aver ucciso suo marito dopo anni di violenze l'ennesima notizia inaccettabile è stata impiccata da regime iraniano e dalla sua macchina omicida oggi un'altra donna è stata uccisa brutalmente calpestando la tutela dei diritti umani e confermando l'orrore del regime degli Aliato e là tutta la mia vicinanza alle coraggiose donne che si battano in Iran e nel mondo per difendere i loro diritti e la loro libertà l'Italia e tutti noi siamo al fianco delle donne per il rispetto dei diritti fondamentali e della libertà grazie grazie senatrice lascio la parola al senatore Scalfarotto sempre sullo stesso argomento sì grazie presidente questa mattina la macchina della morte del regime iraniano quello che mette queste gru spesso al centro delle città per appendere per il collo i figli dell'Iran figli che spesso combattono per la libertà per la dignità spesso donne l'Iran è il paese al mondo che non dirò giustizia perché non si tratta di giustizia che uccide per mano dello stato più donne al mondo ebbene questa mattina ha ucciso una donna che era stata una sposa bambina ed era stata messa nelle mani di un uomo molto più grande di lei che l'aveva fatto oggetto di violenze che l'aveva violentata in senso fisico e morale e che lei aveva ucciso ci sono due cose che io penso sia molto importante dire la prima è che il regime degli ayatollah iraniani deve sapere che il mondo li guarda che questa repubblica e questo parlamento hanno gli occhi aperti su quello che succede in Iran non pensino che tutto questo avviene lontano dallo sguardo del mondo io lo dico con precisione alla rappresentanza diplomatica di Teheran qui a Roma e chiedo al ministro degli esteri italiani di farsi portatore di questo messaggio del senato italiano presso l'ambasciatore dell'Iran della repubblica islamica dell'Iran a Roma e la seconda cosa che voglio dire è che la pena di morte è una cosa che ripugna alla coscienza di ogni popolo civile ma non è soltanto la pena di morte e chiudo signor presidente qui c'è stata anche una cosa spaventosa che è la privatizzazione della giustizia penale perché Samira è stata uccisa questa mattina in quanto la famiglia del marito non ha concesso il permesso ricordiamo sempre che anche nel nostro paese le sentenze penali vengono emesse e vengono pronunciate in nome del popolo italiano il diritto penale non è materia privatistica il diritto penale non serve a dare direttamente soddisfazione alle vittime il giudice penale non è l'arbitro tra due contendenti le sentenze penali vengono pronunciate in nome del popolo italiano e sempre bisogna ricordare il diritto degli imputati il diritto di vedersi riconosciuti innocenti fino a prova contraria fino a giudizio definitivo non si può pensare che la vita di questa donna sia dipesa dal mancato perdono di un'altra famiglia è una cosa intollerabile insieme all'idea che sia stata uccisa per mano dello Stato io penso che sia il doppio della barbarie grazie senatore Scalfarotto lascio la parola a senatrice Zampa grazie presidente davvero con enorme sofferenza che abbiamo appreso questa mattina è stato come un tuono guardi nelle coscienze sono convinta nelle coscienze di tutti noi di tutto il mondo di tutte le donne del mondo sentire la notizia dell'impiccagione di una giovanissima cosiddetta sposa bambina e sono tante tante troppe le spose bambine a cui viene sottratta ogni possibilità e ogni futuro e anche la propria infanzia e i diritti che porta con sé questa sposa bambina impiccata da un paese che sta calpestando i diritti umani e ahimè devo registrare con una scarsa scarsa presa di posizione delle organizzazioni internazionali a cominciare purtroppo è doloroso dirlo dall'ONU che ha permesso nelle scorse settimane una lezione addirittura di un rappresentante e io credo che noi dobbiamo dire con forza non solo qui a nome di tutto il popolo italiano io vorrei che arrivasse al al governo iraniano all'ambasciatore iraniano il segno dell'indignazione profonda nostra e nostra in quanto rappresentanti del popolo italiano e anche delle donne italiane di cui noi sentiamo in questo momento tutto il dolore certamente l'indignazione per il supplizio a cui questa ragazza è stata sottoposta a noi alziamo davvero la voce da qui nei confronti dell'Iran sappiano le autorità dell'Iran che i diritti umani fondamentali i diritti delle donne sono inalienabili sotto tutti i cieli il diritto alla vita il diritto alla libertà e sappiano anche le donne dell'Iran che noi le sosteniamo contro ogni violazione e contro la violazione della loro dignità chiediamo quindi davvero al governo italiano di mobilitarsi perché ci sia una presa di posizione del governo italiano e del governo italiano presso le organizzazioni internazionali non si può più assistere senza sentirsi profondamente tutti davvero offesi da quanto avviene in quel paese grazie senatrice Zampa lascio la parola alla senatrice Pucciarelli ha la parola grazie presidente ringrazio anche i colleghi che sono intervenuti proprio sulla notizia dell'esecuzione a morte di Samira Sapizian questa mattina abbiamo appreso appunto di questa esecuzione direi l'ennesima perché quest'anno si contano già 18 donne che sono state giustiziate Samira come è stato già illustrato è un'ex sposa bambina che ha avuto una vita bersagliata da atti di violenza commessi proprio da quell'uomo che poi di fatto lei ha ucciso questa esecuzione ha scosso l'opinione pubblica italiana ma direi l'opinione pubblica mondiale ed è motivo di grande delusione e di profondo sdegno per il fatto che i tanti appelli che si sono succeduti proprio in questo ultimo periodo per la sua salvezza sono caduti nel vuoto l'Iran pur non avendo aderito alla moratoria delle esecuzioni promossa dalle Nazioni Unite ha ratificato comunque atti internazionali importanti che si basano sul rispetto della vita umana faccio un appello tramite questa aula all'ambasciatore dell'Iran in Italia perché nella sua funzione di rappresentante di uno Stato dalla storia millenaria possa svolgere un ruolo prezioso proprio perché l'Iran attivi velocemente il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana a cominciare proprio dal diritto alla vita e noi come comunità e come rappresentanti di questa aula così importante non possiamo far finta che sia successa questa triste che sia venuta questa triste notizia che sia stata commessa questa atrocità non possiamo far finta di nulla io come presidente della commissione per la tutela e il rispetto dei diritti umani inoltre una richiesta formale all'ambasciatore qua a Roma grazie grazie senatrice Pucciarelli lascio la parola a senatrice Maiorino ma lei la parola senatrice sì grazie presidente a volte il caso sa essere davvero beffardo in un certo senso nelle stesse ore in cui ci è toccato probabilmente tirare un triste sospiro di sollievo perché abbiamo saputo che i genitori di Saman sono stati condannati all'ergastolo Saman la ragazza di origine pakistana che doveva essere destinata ad un matrimonio forzato al quale la ribellione è costata la morte qui nel nostro paese purtroppo abbiamo appreso anche della notizia dell'esecuzione barbarica sia nel metodo che nel merito avvenuta ai danni di Samira anche la sposa bambina a 15 anni che ha trascorso il resto della sua vita i passati dieci anni in carcere le è stato proibito anche di vedere quei figli avuti dal suo aguzzino quello che la società aveva imposto divenisse suo marito e non c'è stato nulla da fare nonostante gli appelli di Amnesty International di altre organizzazioni non governative e di una certa pressione probabilmente non sufficiente come è stato detto anche dagli interventi precedenti sul regime iraniano non sono bastati purtroppo a farla risparmiare dalla pena inflittale io sono orgogliosa di far parte del Parlamento che nella scorsa legislatura ha approvato delle norme più stringenti che contrastano il fenomeno dei matrimoni forzati anche qui nel nostro Paese così come sono orgogliosa e ringrazio i componenti e il presidente del gruppo interparlamentare che intende sostenere anche quella che è una resistenza in Iran perché esiste una resistenza in Iran quindi io non posso far altro che unirmi agli appelli che sono stati fatti in precedenza anche dalla collega Pucciarelli perché questo Senato che da sempre anche nel Paese è riconosciuto come un baluardo per la difesa dei diritti umani non solo in Italia ma nel mondo possa davvero farsi sentire e possa far sentire che l'attenzione dell'Italia è puntata sul comportamento del regime sanguinario e oppressivo dell'Ira grazie grazie Senatrice Maiorino lascio la parola Senatore Magni anche io Presidente non voglio aggiungere parole a quelle che già altri colleghi e colleghe hanno detto in particolare la collega Zampa il collega Scaffarotto la collega Pucciarelli vorrei chiedere però alla Presidenza cosa è possibile fare per evitare che questo tema cada il momento in cui finiamo chiudiamo questa aula oggi perché da anni ormai in particolare le donne dell'Iran stanno facendo una battaglia sulla democratizzazione quindi è necessario a mio avviso che la chiedo a lei come Presidente un impegno a fare una riflessione maggiore su questo tema e a dare una continuità diciamo al livello non di solidarietà perché la solidarietà è importante però per far sì che non è solo un messaggio all'ambasciatore bisogna che il Parlamento italiano assuma posizioni determinanti cioè dia un messaggio più forte secondo me perché in queste occasioni finisce diciamo il momento della commozione e non ha più continuità io la cosa che chiedo non ho una soluzione chiedo solo alla Presidenza di mettere all'ordine del giorno una discussione vera su questo tema in Iran come in altre occasioni ma in particolare sulla questione dell'Iran grazie grazie senatore Magni la prossima capigruppo se lo farà presente penso che ci saranno tutti i capigruppo che saranno concordi con lei prima di terminare io oltre al al dramma che abbiamo di cui abbiamo parlato io voglio ricordare e voglio permettetemelo colleghi di mandare un abbraccio alla comunità di Treviso e ai parenti di Vanessa Ballano una ragazza di 27 anni che lascia un bambino di 4 aveva un bambino nel ventre e con 7 coltellate poche ore fa è stata uccisa quindi è molto probabilmente è stata uccisa dal presunto stalker che aveva denunciato qualche mese fa e quindi oltre all'Iran dobbiamo guardare che anche nel nostro paese succedano ancora cose del genere quindi penso che in questo momento il Senato della Repubblica debba stringersi nei confronti della famiglia e soprattutto della comunità di Treviso grazie colleghi come stabilito nella conferenza dei capigruppo tenutasi ieri sospendo la seduta che riprenderà le ore 18.30 con la discussione del disegno di legge di bilancio grazie prego di prendere posto la seduta è aperta ed è ripresa oltre che aperta e l'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 il bilancio dello Stato e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 il relatore il senatore Liris a saluto senatore ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale poi ci sarà la senatrice al contrario giusto prima le senatrici e poi i senatori mi pare corretto e quindi iniziamo con la senatrice Testor che ha chiesto anche essa l'autorizzazione a svolgere la relazione orale prego senatrice grazie grazie presidente innanzitutto diciamo dopo questo lungo lavoro che è stato fatto in concerto governo Parlamento voglio iniziare dalla fase di ringraziamenti innanzitutto saluto e ringrazio il sottosegretario Savino ma parto dal ringraziamento proprio dal governo dal ministro Giorgetti e dal ministro Ciriani i sottosegretari Freni e Albano tutti i funzionari del MEF e degli altri ministeri voglio poi ringraziare il presidente Calandrini gli altri due relatori il senatore Liris e il senatore Damiani ma soprattutto i componenti della quinta commissione per il lavoro svolto anche in maniera ordinata ringrazio anche i funzionari della quinta commissione i legislativi dei gruppi parlamentari e è stato un lavoro abbastanza lungo abbiamo iniziato con le audizioni nella giornata del 7 di novembre e per questo voglio ringraziare anche tutte le parti sociali che sono intervenute a portare appunto la loro parte la loro esperienza perché questa manovra finanziaria possa uscire nel migliore dei modi da questa da quest'aula la legge di bilancio si è diciamo scritta in un contesto non facile perché soprattutto va contestualizzata usciamo da un periodo non facile del dopo covid seguite poi dalla guerra in Ucraina per poi l'ultimo conflitto che è esploso tra Israele e Palestina una legge di bilancio che ha visto appunto la difficoltà soprattutto dei nostri cittadini a affrontare tutte quelle dovute a queste urgenze tutte le difficoltà i cari prezzi il caro materie prime il caro energia il caro il caro spesa del carrello e soprattutto il caro l'aumento del costo del denaro ed è per questo che ci si è concentrati soprattutto ad aiutare le famiglie e i lavoratori e gran parte appunto di questa manovra di bilancio si rifà appunto a dare sostegno a famiglie e lavoratori soprattutto quelle dei redditi medio-bassi il disegno di legge di bilancio contiene appunto il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennare per il triennio 2024 2026 il disegno di legge è suddiviso in due sezioni secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica ed è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nade nel merito la legge di bilancio è suddivisa in titoli appunto il primo risultati differenziali del bilancio di Stato secondo misure per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie terzo riduzione della pressione fiscale misure in materia di rinnovo dei contratti del pubblico impiego disposizione in materia di entrate e misure per la lotta all'evasione lavoro famiglia pari opportunità e politiche sociali la sanità crescita investimenti misure per la difesa e la sicurezza nazionale la giustizia misure per la partecipazione dell'Italia e l'Unione Europea e organismi internazionali nonché misure in favore dell'Ucraina misure in materia di calamità naturali ed emergenze agli enti territoriali e chiaramente poi a finire le disposizioni finanziarie di revisione della spesa finale partendo appunto da alcuni articoli che ho cercato di sintetizzare per appunto dare un po' di coscienza anche chi non ha seguito nel merito i lavori all'articolo l'articolo 1 appunto fissa mediante rindio all'allegato 1 per ciascuno degli anni 2024 2025 2026 i livelli massimi del saldo netto da finanziare del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza di cassa l'articolo 2 istituisce il fondo per indigenti per acquisto di beni di prima necessità l'articolo hotel fondo di garanzia prima casa esteso anche alle famiglie numerose l'articolo 4 stanzia 200 milioni per il bonus elettrico l'articolo 5 reintroduce il taglio del cugno fiscale appunto la misura che dicevo prima che serve per sostenere i lavoratori delle fasce medio-basse all'articolo 6 vengono introdotti dei fringe benefit per i dipendenti in una disciplina più favorevole l'articolo 7 fa una riduzione da 10 a 5 punti per alcuni emulamenti dei lavoratori dei dipendenti privati c'è la riduzione del canone Rai da 90 a 70 euro poi all'articolo 9 in favore dei lavoratori del turismo e la somministrazione c'è una detassazione per il lavoro notturno e festivo il trattamento economico di alcune tipologie del personale della croce rossa è stato inserito appunto durante l'esame in commissione all'articolo 10 ci si occupa appunto dell'incremento ai fondi dello Stato per la contrattazione collettiva per il pubblico impiego e per il personale di diritto pubblico personale prefettizio amministrativo civile assunzioni all'articolo 11 c'è la riduzione questo è stato anche introdotto nel corso dell'esame parlamentare la riduzione dell'IVA per il primo bimestre dell'anno appunto dal 22 al 10 per cento e c'è anche un'interpretazione autentica per la commercializzazione dei veicoli e poi si passa appunto a tutte quelle norme oneri fiscali per alcuni prodotti di tabacco disposizione dei valori di acquisto delle partecipazioni autorizzazione dell'istituto poligrafico e zecca dello Stato a cognare monete di taglio speciale destinati ai collezionisti estende la disciplina delle partecipate con exemption ai soggetti non residenti l'interoperabilità tra l'agenzia delle entrate dell'Inps la cedolare secca per le locazioni brevi che passa appunto dal 21% per chi ha una locazione e 26% per le altre le plusvalenze delle cessioni sugli immobili con interventi del super bonus e poi ci sono tutte le norme che riguardano appunto riduzioni o articolazioni per quanto riguarda le questioni fiscali sono stati introdotti poi 13,5 milioni sempre in sede referente per la protezione civile e per alcuni comuni dei territori colpiti dal sisma in Abruzzo e poi si passa appunto è stato inserito anche in sede referente una proroga per il 2024 una disciplina transitoria già previsti per gli anni 2020 e il 2023 che consente ai lavoratori poligrafici di determinate imprese di accedere al trattamento pensionistico con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni in deroga requisito contributivo più elevato previsto a regime per la possibilità di prepensionamento questa è stata una misura introdotta proprio per salvare un comparto che in questo momento è in crisi poi c'è stato uno sgravio contributivo per l'assunzione delle donne questo diciamo è un emendamento che è stato introdotto dalle opposizioni quindi uno sgravio contributivo per l'assunzione delle donne vittime di violenza 20 milioni per le case rifugio c'è stato il fondo per le vittime dell'amianto ecco diciamo noi adesso poi passo la parola agli altri relatori per cercare insomma di essere tutti e tre a esprimere un po' di opinione sulla legge di bilancio diciamo che abbiamo cercato di soddisfare le esigenze che provenivano soprattutto dalle persone anche persone più in difficoltà cercando di dare risposta un po' su tutti quindi io adesso lascerei la parola all'altro redattore il senatore Damiani per andare avanti con la relazione grazie la ringrazio senatrice darei la parola al senatore Damiani terzo o secondo in questo caso grazie relatore prima di poi far concludere al senatore Liris presidente grazie tra i relatori potranno manifestare la propria relazione grazie presidente colleghi senatori sottosegretario governo ringraziamento lo ha già fatto la collega la senatrice Testor un ringraziamento innanzitutto a tutti i senatori componenti della commissione bilancio al presidente Nicola Calandrini e al governo e a tutti i rappresentanti del governo e dell'economia che si sono e che sono stati presenti in commissione bilancio a partire dal mese di novembre quando è stata incardinata la manovra finanziaria a partire credo dal 7 novembre e quindi abbiamo iniziato un percorso percorso possiamo dire lungo ma è il percorso che prevede la manovra e la sessione di bilancio come dicevo un ringraziamento a tutti i colleghi componenti della commissione come sempre non è facile e non lo è ancora diciamo oggi in un momento particolare economico che stiamo vivendo ancora in questi giorni di grande incertezza finalmente forse qualche dato economico comincia a mettersi al suo posto cominciamo ad avere dei segnali importanti sull'inflazione che ha caratterizzato questo periodo particolare ha caratterizzato tutte quelle misure anche di rango europee che sono state messe in campo e quindi questo governo si è dovuto anche adeguare a quella che è stata ed è oggi la situazione economica io non voglio fare passi indietro e voglio ricordare diciamo un po' le misure economiche che abbiamo messo in campo anche negli anni passati difficili perché abbiamo vissuto il periodo oscuro della pandemia della crisi economica dovuto appunto alla pandemia e poi abbiamo cominciato a vivere quelle esperienze difficili appunto della guerra dell'energia dell'approvvigionamento dei costi dell'aumento l'inflazione la guerra anche oggi qui alle porte dell'Europa non c'è un paese europeo che oggi possiamo dire sta meglio di noi siamo un po' tutti sulla stessa barca ed è su questa barca che quindi noi tutti dobbiamo poi navigare al meglio e l'Italia lo sta facendo e lo ha fatto grazie oggi innanzitutto alla stabilità politica perché io lo voglio continuare lo voglio sottolineare la grande forza oggi di questo centrodestra e del governo deve essere la stabilità politica quindi la forza oggi del nostro paese deve essere la stabilità politica e lo abbiamo dimostrato lo ha dimostrato il governo e quindi dicevo non c'è un paese oggi che tira più di noi ma siamo tutti quindi dobbiamo navigare nel migliore dei modi e come dicevo questo governo sin dalla manovra dello scorso anno fatta anche lì in pochissimi giorni ha cominciato la sua navigazione è chiaro che come dicevo il futuro è abbastanza incerto quindi dobbiamo mettere in campo oggi delle misure reali delle misure che diano risposte oggi a questi settori maggiormente anche colpiti da tutta una serie di situazioni economiche come dicevo congiunturali che ahimè voglio dire hanno attaccato in questo momento l'Italia nonostante come dicevo tutta questa situazione oggi però variamo e il governo ha messo in campo una manovra finanziaria importante imponente una manovra finanziaria diciamo anche fatta in parte con la possibilità che abbiamo di utilizzare ancora un po' di deficit ma sempre diciamo nel limite dell'utilizzo possibile consentito però lo facciamo proprio per dare respiro a dei settori che sono stati particolarmente colpiti quindi io non mi voglio prolungare ma voglio veramente oggi fare il punto della situazione o meglio elencare quelli che sono i dieci punti più importanti in maniera molto veloce e snella della manovra finanziaria e partire da una di quelle voci che tante volte in questo Parlamento tutti quanti noi diciamo citiamo interveniamo ne teniamo conto dobbiamo tenere in considerazione quindi io per primo la considero diciamo come una misura la più importante che viene messa in campo da questo governo perché anche in passato abbiamo destinato numerose risorse ed è la voce per i lavoratori perché questa manovra finanziaria come dicevo in un contesto economico difficile oggi soprattutto basato sull'inflazione fa molto nel campo e soprattutto per i lavoratori destinando dieci miliardi di euro a quella che è la riduzione del cuneo previdenziale per i lavoratori appunto con fasce di reddito fino a 35 mila euro con una platea quindi interessata oggi dalla riduzione del cuneo fiscale di 14 milioni di lavoratori che quindi avranno ecco in un busta paga un peso sicuramente maggiore la seconda misura è quella che riguarda la riduzione delle tasse e anche in questo caso abbiamo investito 4 miliardi di euro per la riduzione nella riduzione a traliquote dell'IRPEF e anche in questo caso oggi le nostre famiglie e i lavoratori avranno diciamo degli aumenti voglio dire e delle riduzioni soprattutto di tasse e quindi una maggiore capacità anche di spesa l'ampliamento anche a fino a 8.500 euro della no tax area la detassazione dei premi di risultato la detassazione del lavoro notturno per le famiglie anche in questo caso un altro miliardo di euro per sostenere i genitori con i figli e la natalità abbiamo dato all'azzeramento previsto dei contributi previdenziali per le lavoratrici a tempo indeterminato con almeno due figli il bonus asilinido il fondo di garanzia sui mutui anche per le giovani coppie per soprattutto per le famiglie oggi con figli numerose quindi anche una misura che va anche a toccare il discorso relativamente quello della natalità 600 milioni di euro ancora in più per la cosiddetta carta dedicata a te e così via anche congedi parentali e bonus elettrico per la salute anche in questo caso un'altra misura importante 3 miliardi nel 2024 due virgola di questi vanno al rinnovo anche del contratto del personale sanitario e poi abbiamo messo diciamo era nata subito dopo il varo della manovra finanziaria in consiglio dei ministri c'era stata la polemica ma anche in questo caso siamo intervenuti adesso in sede di conversione oggi e di approvazione della manovra finanziaria con la modifica dell'articolo 33 quello sui pensionamenti dei medici quindi vengono escluse dalla stretta sugli assegni pensionistici quelle di vecchiae per i medici infermieri che se vorranno potranno rimanere a lavorare fino a 70 anni i tagli assolutamente oggi non ci saranno così come erano previsti e poi abbiamo il capitolo che riguarda e l'ho messo dopo nonostante come governo di centro-destra per noi sono prioritarie anche le imprese l'investimento e l'occupazione perché dicevo per il lavoro questa manovra ha fatto tanto in questo momento particolare e quindi abbiamo tutta una serie di misure ed incentivi all'occupazione la maxi deduzione per le imprese che assumono a tempo indeterminato tra manovra finanziaria e decreto anticipi che è un collegato ci sono 150 milioni per la nuova Sabatini che riguarda investimenti strumentali misura a sostegno delle imprese esportatrici la proroga del fondo per promuovere la competitività istituito il fondo anche per l'emergenza agricola è un altro settore trainante e importante della nostra economia poi ci sono investimenti per le opere pubbliche quindi altri 475 milioni per le ferrovie dello Stato per l'infrastruttura ferroviaria 450 milioni per il piano invaso 350 per l'infrastruttura portuale il terzo valico il giubileo del 2025 il disagio abitativo anche in questo caso investimenti il Mezzogiorno d'Italia un miliardo e 800 milioni di credito d'imposta la ZES unica un altro importante traguardo per utilizzare tutti i fondi di coesione che abbiamo disponibili nel nostro Paese e rifinanziati anche e ci sono in molte aree del nostro territorio soprattutto aree interne i contratti di sviluppo altri 600 milioni un tema caro a tutti quanti noi la sicurezza e anche in questo caso è arrivato un pacchetto sicurezza molto importante per dare oggi dignità agli operatori ai lavoratori oggi nel campo e nel settore della sicurezza le forze di polizia le forze armate i vigili del fuoco quindi importanti misure per la sua pubblica amministrazione anche in questo caso abbiamo un grande investimento sui contratti dei lavoratori 3 miliardi nel 2024 e 5 miliardi nel 2025 la rivalutazione delle pensioni al 100% vogliamo ricordare un'altra misura importante oggi a vantaggio dei nostri pensionati e quindi altre misure gli enti territoriali e poi i conti pubblici dove l'occhio bisogna sempre diciamo guardare a quelle che sono oggi le misure sui conti pubblici quindi mettiamo in campo una manovra corposa una manovra possiamo sempre c'è sempre da fare di più c'è sempre quella necessità la possibilità per oggi con quelle che erano le risorse a disposizione l'utilizzo appunto dell'indebitamento a disposizione la necessità oggi di tenere ecco i conti in ordine perché abbiamo da affrontare delle sfide europee importanti questa io ritengo sia una manovra importante che il nostro paese e questo Parlamento così come ha fatto in commissione bilancio in queste settimane sicuramente diciamo ha migliorato e sarà una misura come dire importante nella speranza sicuramente che la congiuntura economica oggi ci dia un po' di respiro in più grazie la ringrazio senatore l'ultimo dei relatori Dulces in fundo il senatore Liris prego grazie presidente i due colleghi che ringrazio per l'amicizia e la collaborazione per le ore passate insieme hanno già spiegato tantissimo quindi provo ad andare anche un po' per differenza sottolineando quelle che sono le prerogative di questo tipo di legge di bilancio che si chiamava la vecchia finanziaria quando ci si ferma e si programma il destino del prossimo anno e del prossimo triennio quindi l'annuale e il triennale prossimi la legge più importante dello Stato perché disegna anche con i numeri di quelle che sono le progettualità di un governo e quello che è stato sottolineato innanzitutto proprio dai colleghi che mi hanno preceduto è quanto questa manovra abbia un aspetto di responsabilità e di autenticità anche nei confronti di quelli che sono un po' i nostri giudici esterni le agenzie di rating i paesi europei l'occhio che ci guarda da fuori per verificare quanto sia forte la tenuta del paese Italia nel contesto europeo e mondiale e partire quindi con meno 33 miliardi per poter muoverci e fare come paese un'attività di programmazione è tanto con la rata di 20 miliardi l'anno per 4 anni che dobbiamo portare e mettere da parte quindi 20 miliardi l'anno dovuti al super bonus che si sommano ai tassi BCE quindi meno 33 miliardi e chiudere una manovra di bilancio con dei saldi di bilancio in ordine con meno 33 miliardi lo dico guardando il governo e ringraziando il governo il sottosegretario Savino qui presente come tutti gli altri membri che hanno collaborato nella stesura e nel portare a casa anche voi lavori in commissione quest'eggi bilancio non è affatto semplice inflazione costi energetici incertezza internazionale sono degli elementi che hanno reso ancora più problematica una chiusura di una finanziaria di una legge di bilancio assai improba da chiudere proprio per la riduzione di 33 miliardi che vanno a sottrarsi a quella parte di manovra libera che in questo caso era assai ridotta perché confacente perché proporzionata perché riconducibile a 20-25 miliardi e immaginiamo cosa sarebbe stato in termini positivi una manovra se avesse avuto ulteriori 33 miliardi da poter spalmare su scuole su sanità sul lavoro su disabilità su sport sui giovani su tutto quello che di importante in termini di prerogative ha scelto questo governo di mettere in campo e questa è una manovra che guarda alle famiglie in particolar modo a quelle più numerose con i figli e alle fasce più deboli con la carta dedicata a te diceva il collega Damiani gli aiuti e ausili per l'acquisto della prima casa gli aiuti per il caro energia e per il bonus elettricità in particolar modo per le fasce più deboli la riduzione della pressione fiscale detassazione della produttività detassazione fringe benefit detassazione del lavoro notturno detassazione degli straordinari nei festivi per quanto riguarda il turismo l'esonio parziale dei contributi previdenziali per le categorie più deboli importanti i fondi messi da parte per rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione con 3 miliardi nel 2024 e 5 miliardi nel 2025 ma di questo parlerò di qui a pochissimo un aspetto che è stato enfatizzato stressato e ringrazio il governo e ringrazio anche tutto il senato per aver collaborato a questo punto di vista a mettere a terra questa legge di bilancio è l'attenzione nei confronti delle calamità naturali dico da Abruzzese la persona che ha visto da vicino quanto è forte l'azione distruttiva della terra o comunque degli eventi meteorologici e comunque degli eventi sismici imprese che vengono incentivate portate a stipulare polizie assicurative perché non possa essere sempre lo Stato a portare a casa poi quei miliardi a mettere a parte quei miliardi di euro che servono per coprire le disgrazie che purtroppo in questa terra così bella ma così difficile da vivere perché anche un po' sfortunata come quella della nostra Italia costretti troppo spesso e troppe volte avere a che fare ad affrontare eventi naturali negativi per il nostro territorio tragici per il nostro territorio sempre più spesso di tutti i tipi bene trovare una modalità di copertura copolizie assicurative può essere una strada da percorrere e una strada che mette a riparo anche le casse dello Stato la mitigazione della vulnerabilità degli edifici pubblici 45 milioni del 2024 e 60 milioni del 2025 la prosecuzione dell'attività amministrativa e commissariale degli uffici per la ricostruzione 2009 e 2016 un'attenzione in particolar modo per la proroga dei contratti stipulati nel cratere 2009 in deroga ai vincoli assunzionali gli aiuti per gli eventi alluvionali l'emergenza agricoltura ma due aspetti sono stati attenzionati con forza da questa manovra il lavoro e la sanità con stanziamenti ingenti importanti e qualificanti per la manovra e per una maggioranza che ha l'ambizione di disegnare appunto una programmazione di legislatura con un taglio del culo fiscale di 10 miliardi e la riduzione dell'aliquote IRPEF da 3 a 2 con 4,3 miliardi quindi un combinato disposto di 10 miliardi più 4,3 miliardi 14,3 miliardi che mettono vero denaro nelle buste paga dei dipendenti pubblici e mi consentirete l'approccio diverso il paradigma differente che ha portato questa maggioranza e questo governo a disegnare questa manovra di bilancio che passa da un sistema assistenziale a un sistema di premialità anche a livello educativo nei confronti di coloro che lavorano e non di coloro che scelgono di essere assistiti allo Stato non c'è nulla di diverso non c'è nulla di sbagliato nell'essere orgogliosamente diversi a livello politico questa è la strada scelta da questo governo e questo io immagino possa essere la strada su cui poter proseguire e poter costruire le nostre certezze anche per il futuro incentivi per l'occupazione con la deduzione del costo del lavoro del 120% che arriva al 130% per mamme giovani e disabili 1,3 miliardi a questo punto di vista gli incentivi dell'occupazione più assumi e meno paghi anche per l'opzione donna e l'indicizzazione delle pensioni sulla sanità si è fatto un gran parlare sul fatto che non ci fossero abbastanza fondi sulla sanità noi abbiamo toccato i 136 miliardi di euro nel 2024 per quanto riguarda lo stanziamento sui capitoli della sanità questo io credo che sia un messaggio importante mai uno stanziamento è stato così alto nell'ambito sanitario 3 miliardi nel 2024 4 miliardi nel 2025 4,2 miliardi nel 2026 con rinnovo dei contratti indennità per i medici per le liste attesa potenziamento del territorio gli investimenti della crescita la ZES unica per quanto riguarda il mezzogiorno i contratti di sviluppo la sicurezza nazionale ma questo è stato già spiegato con precisione con particolari ben sottolineati anche a livello numerico dai colleghi che mi hanno preceduto io vorrei sottolineare quanto lavoro importante sia stato fatto anche in commissione commissione in queste lunghe giornate che hanno visto anche delle notti di lavoro continuo abbiamo prodotto insieme maggioranza e minoranza con un'azione che ha portato i relatori a svolgere un ruolo di centralità nei rapporti con i membri della commissione ma anche col governo il fondo per l'alzheimer il fondo per il radio radicale i fondi per i segretari comunali i fondi per le malattie rare i fondi malattie oncologiche next generation sia per quanto riguarda le malattie rare sia per quanto riguarda le malattie oncologiche il riassetto organico del personale appartenente alle carriere prefettizie con la promozione vice prefetti a vice prefetti aggiunti misure per incrementare per rafforzare le forze dell'ordine con un'attenzione importante che poi anche con una particolare attenzione da parte di alcuni senatori ricordo il collega Gelmetti per quanto riguarda i poligrafici ma non soltanto anche gli amici della Lega e di Forza Italia allora io voglio sottolineare un aspetto per chiudere e per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con noi anch'io ringrazio il Presidente il nostro Presidente il mio Presidente e collega di partito il Presidente Calandrini per il lavoro svolto ormai in settimane di quasi convivenza simbiotica che abbiamo avuto tutti quanti in commissione ringrazio il Ministro Ciriani e i suoi collaboratori per l'azione di coordinamento con le altre forze rappresentate sia a livello di governo sia a livello di uffici dei governi i ministri competenti perché poi le varie materie sono state affrontate razioni materie con i ministri competenti un ringraziamento al Ministero di Economia e Finanza il Ministro Sorgetti Ministro Leo e i sottosegretari e vado a conclusione ma il ringraziamento li possiamo fare sintetici lo sa perché lo voglio dire Presidente e mi deve e tre minuti oltre il suo tempo non abbiamo una grande premura però ma lo sa perché io lo voglio dire lo dica perché negli organi di stampa sugli organi di stampa in queste ultime giornate e lo dico a beneficio di tutto il Senato non soltanto lo dica in sintesi per favore lo dico in sintesi non so che lei adesso non mi vuole far completare questo discorso ma le prego di prestare attenzione perché è qualificante per tutti quanti noi abbiamo avuto gli ultimi tre o quattro giorni in particolar modo pieni zeppi di notizie negative sui giornali che hanno disegnato un lavoro negativo in commissione tra sonni veglie pasticcini tè e feste durate anche la notte allora io voglio dire una cosa che la nostra commissione maggioranza e minoranza ha lavorato tantissimo ha lavorato in maniera molto professionale non ne dubitiamo e rivolgiamo un applauso alla commissione se non finiamo più per favore grazie grazie al relatore lo dico deve chiudere veramente adesso deve proprio chiudere lo dico sì presidente lo dico perché è fatta da gentiluomini gentildonne che non merito il trattamento grazie 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 al relatore per la sua relazione puntuale che fa da porta alla discussione generale che si apre in questo momento e tutti siamo ansiosi di sentire la senatrice daniela sbrollini prego grazie presidente e grazie governo ai relatori e in modo particolare ai colleghi alle colleghe della commissione bilancio e a tutti noi che abbiamo cercato di portare il nostro contributo ci aspettavamo lo dico subito un po' di coraggio da parte del governo rispetto a questa legge di bilancio e purtroppo invece non è così mi dispiace contraddire anche le parole dei tre relatori è una legge che noi consideriamo deludente senza una visione politica si aumentano le tasse e non ci sono nessun tipo di investimenti a partire proprio dagli investimenti in cultura ma non solo penso al tema delle aziende delle imprese non vediamo diciamo quella visione politica di prospettiva che avremmo voluto vedere pensiamo anche alla cancellazione di app 18 del governo norenzi solo per rimanere in tema di cultura togliendo una delle poche certezze ai nostri ragazzi anche sul tema della formazione e poi colleghe e colleghi mi dispiace certamente ci sono dei soldi in sanità ma sono ancora veramente pochi e sono veramente pochi perché non avete voluto prendere i soldi del mess sanitario che avrebbe rimesso a sistema il servizio sanitario pubblico nazionale insieme al tema del PNRR proprio anche riguardo alle infrastrutture sanitarie perché questo avrebbe permesso di mettere a sistema un servizio sanitario che ha bisogno di sentire delle risposte certe autorevoli lo abbiamo visto anche con lo sciopero con diciamo questo atteggiamento questo che noi sosteniamo al cento per cento da parte dei medici e delle infermieri avremmo messo in sicurezza le assunzioni più assunzioni indennità pensioni e soprattutto abbattimento delle liste d'attesa e lo dico guardate con grande dispiacere perché noi tifiamo per l'Italia noi tifiamo per il nostro paese e abbiamo cercato in tutti i modi di dare disponibilità anche in sede di commissione bilancio con un confronto un dialogo sempre pronti a collaborare e a lavorare assieme e a questo proposito voglio ringraziare la collega senatrice Paita il senatore Borghi e tutti i colleghi e le colleghe del gruppo di Italia Viva anche per il lavoro che è stato fatto e per i risultati importanti che poi dirò abbiamo portato assieme alle opposizioni sì perché guardate colleghi e colleghe di maggioranza purtroppo i risultati più importanti li ha portati questa volta proprio l'opposizione in un lavoro che abbiamo cercato di fare in maniera unitaria rispondendo anche alle priorità alle esigenze dei cittadini per esempio quello di destinare il fondo previsto il fondo parlamentare previsto per le minoranze lo abbiamo destinato tutto 40 milioni ad un tema che noi consideriamo prioritario come quello del contrasto alla violenza di genere ai femminicidi e Presidente me lo faccia dire penso anche ai due femminicidi purtroppo che hanno visto anche ieri un'altra pagina tragica con la morte di una giovane donna nel Trevigiano che era anche incinta e a Rieti con un omicidio suicidio che è avvenuto nella notte nella serata di ieri questi 40 milioni che potevano diventare 100 se anche la maggioranza avesse destinato quel fondo parlamentare che era di 60 milioni sullo stesso tema parlo in modo particolare sul reddito di libertà e lo abbiamo portato grazie al lavoro congiunto di tutte le opposizioni da 4 a 10 milioni nel prossimo triennio ai 5 milioni per la realizzazione di centri antiviolenza allo stanziamento di 4 milioni annui per finanziare i centri di riabilitazione per gli uomini maltrattanti ai 20 milioni annui per la realizzazione delle case rifugio prevedendo anche uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono donne vittime di violenza disoccupate beneficiari e del reddito di libertà stanziamo 3 milioni anni annui da qui in avanti per iniziative formative di contrasto alla violenza domestica anche attraverso attività di formazione degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e di stalking e poi c'è un altro tema altri due temi su cui abbiamo vinto una battaglia tutti assieme come gruppi di opposizione che riguarda appunto le malattie rare e l'Alzheimer istituiamo sulle malattie rare un fondo per la diagnosi avanzata stanziando un milione di euro e stanziamo un ulteriore milione per i test di profilazione genomica dei tumori insomma un risultato importante che anche questo per le poche risorse e per il poco dialogo che siamo riusciti ad instaurare con la maggioranza e con il governo abbiamo portato a casa come opposizioni rifinanziamo il fondo per l'Alzheimer e le demenze che si sarebbe esaurito quest'anno se non ci fosse stata l'approvazione di questo emendamento lo rifinanziamo con 5 milioni di euro per il 2024 e 15 anni per ciascuno degli anni 2025 2026 proprio per migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e garantire la diagnosi precoce la presa in carico tempestiva delle persone affette da questa malattia insomma presidente tutti i temi che dovrebbero essere prioritari nell'agenda del governo per i prossimi anni questo è avere lungimiranza questo è pensare al bene del paese e soprattutto pensare che nelle poche risorse che noi abbiamo dobbiamo individuare un'agenda politica fatta di priorità allora presidente vorrei terminare nei pochi minuti che mi rimangono a disposizione perché cercherò di stare dentro i dieci minuti vorrei però soffermarmi ancora di più sul tema del contrasto alla violenza di genere perché poi altri temi saranno affrontati nella discussione generale sulla legge di bilancio dagli altri miei colleghi e colleghe del gruppo d'Italia Viva il centro Renew Europe sul contrasto alla violenza di genere perché lo dico perché questa aula poche settimane fa ha votato fortunatamente all'unanimità anche l'inasprimento delle pene e il rafforzamento del codice rosso ma noi colleghi ne usciamo fuori non solo mettendo dei fondi strutturali su questo tema ma soprattutto facendo un investimento su politiche di prevenzione su un'educazione e un cambio quindi culturale profondo su un'educazione che noi dobbiamo insegnare ai nostri figli maschi prima di tutto e cercare di iniziare quell'educazione ai sentimenti quell'educazione alle affettività dopo che ne abbiamo parlato tanto in aula anche nelle settimane scorse allora vorrei che ci concentrassimo di più su questi temi perché poi quello che noi approviamo in quest'aula grazie presidente ho terminato ha delle ripercussioni positive o negative sulla vita quotidiana dei cittadini quando parliamo di questi temi guardiamo a tutto il paese se vogliamo cambiare l'agenda politica ma soprattutto se vogliamo segnare un salto culturale della nostra società dobbiamo cominciare a parlare di questi temi e parlare anche in quest'aula e chiudo con questo di amore di felicità di gentilezza significa anche saperci rispettare di più tra di noi perché noi siamo avversari politici ma non siamo nemici e dobbiamo lavorare e dobbiamo posso concludere parlare per il bene di tutto il paese della nostra comunità e allora andiamoci a rileggere in questi giorni augurando a tutti buon Natale e buone feste andiamoci a rileggere un monologo bellissimo che Roberto Benigni ha scritto qualche tempo fa sull'amore e la felicità presidente lei che è molto sensibile anche a questi temi chiudo su questo il tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da duemila anni è rimasto lo stesso amarsi affrettiamoci ad amare e soprattutto ricerchiamo la felicità ogni giorno spero che anche questo sia un tema che possa combattere realmente una società sbagliata violenta che non contrasta la violenza di genere ogni giorno grazie presidente grazie non potevo certo interromperla in questa citazione che sicuramente tutti hanno gradito e per cui lascio la poltrona alla vicepresidente ronzulli che darà la parola a chi? al senatore Lombardo grazie presidente prego senatore Lombardo la facoltà grazie presidente la legge di bilancio è la legge più importante dello Stato è la legge con quale non solo un governo decide di allocare le risorse per le necessità del paese ma è la legge con la quale si stabilisce la visione che il governo e il Parlamento vogliono dare alla società per questo si chiama manovra perché deve indicare la rotta la direzione di marcia una destinazione comune ed è proprio su questo punto che noi di azione riteniamo che questa legge arrivata in limine alla scadenza per non finire in esercizio provvisorio sia sbagliata perché prevede di indebitare i cittadini italiani facendo un taglio delle tasse solo provvisorio non investe sull'economia sull'istruzione e soprattutto sulla sanità che è la vera emergenza nazionale del paese come dimostrano le liste d'attesa del nostro servizio sanitario nazionale azione come sempre non si è limitata a dire che una legge in questo caso la manovra legge di bilancio non andava bene ma si è assunta la responsabilità per dire come noi l'avremmo fatta se fossimo stati al governo ed è per questo che abbiamo presentato la nostra contromanovra alla legge di bilancio indicando alcune priorità chiare appunto la sanità avevamo proposto un aumento delle risorse della sanità pubblica l'aumento del 30% dei salari degli infermieri e dei medici l'eliminazione del taglio delle pensioni un piano di assunzione di medici e di infermieri e l'attivazione di un piano di 2 miliardi di euro per ridurre le liste d'attesa non me ne vorrà il senatore Liris al quale mi lega una stima personale anche per l'attività professionale che svolge ma vede citare i 136 miliardi di euro del 2024 come la più alta cifra mai spesa dallo stato italiano è vero ma non ha senso se avulso dal contesto dell'aumento dei prezzi e dell'inflazione perché con 136 miliardi di euro nel 2024 si compra ciò che si comprava con 116 miliardi di euro nel 2019 allora se vogliamo dire che l'Italia investe nella sanità lo dobbiamo dire al netto del costo dell'aumento dei prezzi e dell'inflazione altrimenti non ha senso le nostre proposte avevano un costo complessivo di 10 miliardi di euro e come veniva citato precedentemente sarebbe bastato adottare il mess sanitario mess sanitario non mess nazionale sul quale so che c'è un po' di confusione per trovare le risorse per poterlo fare istruzione avremmo proposto la sperimentazione contro la dispersione scolastica nelle aree di crisi sociali e il potenziamento delle borse di studio per studenti universitario costo complessivo 2 miliardi fisco avevamo chiesto la conferma del taglio del cuneo fiscale già previsto e il taglio e le aliquote agevolate per i prodotti per l'infanzia e igiene femminile costo complessivo 10 miliardi famiglie avevamo chiesto l'attuazione del family act per il sostegno alle famiglie al lavoro femminile e una fiscalità di vantaggio per il rimborso delle spese per i figli costo complessivo 2 miliardi industria avevamo proposto di ridurre del 35% il costo dell'elettricità e del 10% il costo del gas per le imprese in ercivore costo complessivo 500 milioni e reintrodurre industria 4.0 utilizzando i fondi non spesi del PNRR dentro il Repower EU misure precise realizzabili dal costo complessivo di 24,4 miliardi di euro tutto questo non è stato accolto senza nemmeno una discussione politica e qui arriviamo a un errore di metodo che per noi è un errore grave di cultura politica continuare a svilire le prerogative di tutto il Parlamento questo governo dimostra ancora una volta di avere paura del Parlamento ma ciò che colpisce di più è che abbia paura della sua maggioranza è un vero peccato perché molti emendamenti come azioni ne avevamo proposti 92 ma erano 2700 tutti gli emendamenti delle opposizioni miravano a migliorare la manovra e sarebbero potuti essere recepiti dai relatori della maggioranza e permettetemi di ringraziare i senatori Testor Liris e Damiani il presidente della commissione bilancio Calandrini tutto il personale della quarta commissione per il lavoro svolto tutti i componenti hanno cercato di fare del loro meglio ma che senso ha discutere fino a tarda notte in commissione se il governo toglie la possibilità di svolgere la mediazione il dialogo l'ascolto che sono l'essenza dell'arte della politica e della dialettica parlamentare che senso ha discutere di tutti gli emendamenti alcuni dei quali sarebbero potuti essere accolti anche dai relatori di maggioranza se non c'è la disponibilità da parte del governo e perché non c'è la disponibilità perché la paura non è tanto del Parlamento in quanto tale ma è della maggioranza parlamentare e questo svilisce le prerogative di tutti è un vero peccato perché penso agli emendamenti che avremmo potuto portare a casa tutti insieme come vittorie comuni penso agli emendamenti sulla disabilità per le indennità per i sordocechi penso agli emendamenti per favorire l'acquisto di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone disabili penso agli emendamenti sui fondi per i piccoli comuni delle aree interne o dei comuni montani sotto i 3.000 abitanti che devono trasferire la quota IMU seconde case al fondo di solidarietà nazionale e non possono utilizzarle come risorse proprie per finanziare i servizi penso all'emendamento delle gare Consip per la sanità digitale al rimbolso delle spese per favorire il voto dei fuorisede e poi non lamentiamoci del fatto che ogni volta l'indice della partecipazione al voto scende penso all'inquadramento di 4.000 volontari del servizio civile universale per la ricostruzione post alluvione dell'Emilia Romagna una nota positiva lo voglio dire riguarda l'atteggiamento che le opposizioni tutte le opposizioni hanno avuto nell'idea di usare le risorse del fondo parlamentare 40 milioni di euro 20 in spesa corrente in 20 in conto capitale non per mancette elettorali ma per scegliere di dare una priorità che voleva essere un messaggio anche chiaro al Paese destinare tutte queste risorse contro la violenza di genere per il finanziamento delle case rifugio i centri antiviolenza il reddito di libertà offrendo al Paese un gesto di serietà responsabilità e unità e su questo sono convinto che sia un successo non solo delle opposizioni ma di tutto il Parlamento perché so che questi emendamenti sono condivisi anche dalla maggioranza e quindi arrivo in conclusione a riconclusioni Presidente per restare nei termini la nostra contrarietà è nel metodo è nel merito rischiamo di approvare una legge di bilancio senza visione senza rotta senza manovra e ciò che è più preoccupante con un metodo che continua purtroppo a svilire le prerogative di tutto il Parlamento grazie senatore Lombardo anche per aver risparmiato quasi due minuti lascio la parola al senatore occhiuto prego senatore grazie caro presidente senatori in quest'aula discutiamo di una legge di bilancio che si presenta come un punto di equilibrio nel delicato compito di sostenere la crescita economica le famiglie e il settore pubblico pur mantenendo la sostenibilità finanziaria in questi tempi turbolenti ci troviamo a bilanciare la prudenza finanziaria con l'audace necessità di promuovere la crescita e il benessere del nostro paese al di là di quelle che possono essere le narrazioni di parte la legge testimonia un percorso difficile gravato da situazioni precedenti difficili diceva prima il collega Damiani che ringrazio come relatore insieme agli altri relatori alla commissione al presidente Calandrini e da precedenti decisioni che seguivano proprio quelle situazioni difficili in particolare i crediti in bosta dei bonus edilizi e maggiori interessi passivi sul debito pubblico bonus edilizi che adesso non sono concluci viene meno il super bonus che regalava tutto anzi adesso sta vedendo come prorogarlo di qualche mese per chiudere i lavori che sono già in corso per evitare problemi ai condomini alle embrese ma comunque continuano i bonus ai rizi continuano il sisma bonus continua l'eco bonus continuano i bonus sugli elettrodomestici gli altri bonus dal 70 al 50% quindi dicevo un momento che è difficile che è stato difficile e che tuttavia questo non è appunto solo un momento di austerità paralizzante ma ci vuole un coraggio visionario la spesa aumenta ma in modo che rinvigorisca l'economia e sostenga le famiglie e il settore pubblico questa legge con saggezza e precisione dirotta le risorse dalla spesa improduttiva alla spesa sociale riduce le tasse come è nel DNA e nella politica di Forza Italia stimolando la crescita e sostenendo le famiglie italiane viene dimostrato un impegno concreto nei confronti dei nostri lavoratori della sanità e dell'intera pubblica amministrazione si equilibria il sistema pensionistico con la protezione dei diritti dei lavoratori si sostengono le madri lavoratrici le misure di sostegno introdotte proprio per le madri lavoratrici sono un basso significativo nell'affrontare il problema enorme la sfida demografica del nostro paese e nell'offrire anche un aiuto concreto alle donne e alle famiglie si prendono provvedimenti significativi per il rilancio del mezzogiorno dalla riduzione del cuneo previdenziale alla revisione dell'IRPEM ogni misura è stata ponderata per massimizzare il beneficio per i lavoratori del sud la manovra dimostra quindi un impegno concreto la volontà di rinnovare i contratti della pubblica amministrazione con particolare riguardo al personale medico sanitario la destinazione di risorse aggiuntive per il finanziamento della spesa sanitaria è un passo fondamentale per garantire servizi pubblici efficienti in particolare proprio nelle regioni del sud dove questa necessità si fa più pressante permettetemi ancora di più di focalizzare la mia attenzione sugli effetti positivi che questa manovra avrà per il sud del nostro paese il mezzogiorno nel suo complesso si erge come il principale beneficiario di tale manovra i 10 miliardi di euro destinati al cuneo previdenziale per i redditi fino a 25 mila euro con la riduzione di 7 punti percentuali di 6 punti per i redditi tra 25 e 35 mila euro rappresentano un miglioramento significativo per molti redditi dei lavoratori del sud anche la revisione dell'aliquota IRPEF avrà un impatto notevole sui redditi bassi quindi ne beneficerà direttamente il mezzogiorno la legge di bilancio stanzia fondi significativi lo dicevano per il credito di imposta sui beni strumentali nella ZES unica del mezzogiorno questa è stata una svolta per il rilancio economico del sud un'idea del ministro Fitto la ZES unica è destinata a crescere la produzione delle imprese meridionali contribuendo all'aumento dell'occupazione così come anche i fondi stanziati con la Sabatini che daranno alle imprese la possibilità di dotarsi di nuove attrezzature di nuove tecnologie anche per implementare i processi nuovi produttivi e non dimentichiamoci gli investimenti infrastrutturali in particolare i 780 milioni destinati al Ponte sullo Stretto un'opera che promette di generare migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti quindi è giusto che ci sia un contributo da parte delle regioni direttamente interessate inoltre accolgo con favore il rifinanziamento dei contratti di sviluppo le norme che incidono direttamente sui territori sono orgoglioso il finanziamento all'Università della Calabria 3 milioni e mezzo di euro in tre anni per lo sviluppo di personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazione sanitaria del servizio sanitario regionale contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi e poi quella al comune di Caevano destinando un importo fino a 15 milioni di euro in favore di una nuova area di crisi industriale in fine l'integrazione dell'agenda sud e il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni meridionali attraverso assunzioni intero sono passi fondamentali per promuovere lo sviluppo e l'efficienza amministrativa del sud Italia sempre in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali viene estesa a tutte le amministrazioni pubbliche avendo i sedi nel territorio della regione Calabria alla disposizione che autorizza le amministrazioni interessate da fenomeni migratori anche intero ad inquadrare nelle relative piante organiche anche in sovrannumero interoccinanti rientrati nei percorsi di inclusione e poi si prevede la proroga al 31 dicembre 2025 dell'autorizzazione della regione siciliana che consente la prosecuzione dell'investimento straniero nell'istituto mediterraneo per i trappianti e terapie e l'alta specializzazione di Palermo sono misure che dimostrano l'attenzione continua di questo governo verso le problematiche del mezzogiorno quindi consentitemi dire che questa legge di bilancio non è solo un documento finanziario è un documento di intenti un manifesto di speranza e progresso per il nostro paese è una dichiarazione delle nostre priorità e dei nostri valori per quanto ci riguarda come maggioranza come Forza Italia che pon al centro del benessere dei cittadini la prosperità del mezzogiorno con questa legge proclamiamo oggi che il nostro impegno per una nazione più giusta più forte e più unita grazie grazie senatore Chiuto grazie anche a lei che ha risparmiato tre minuti lascio la parola al senatore Turco prego mia facoltà sì grazie presidente la legge di bilancio 2024 è l'ennesimo provvedimento vuoto di contenuti e soprattutto di soluzioni negli interventi che mi hanno preceduto abbiamo risentito la solita cantilena e il solito piagnisteo delle risorse che erano scarse di guerre di tassi alti e di incertezze ora io vorrei ricordare e fare un paragone quando abbiamo affrontato l'emergenza pandemica che è stata devastante che ha fermato l'economia ha fermato il mondo ha fermato la vita di tutti ma noi siamo venuti in Parlamento a dare soluzioni alle emergenze non a piangere miseria a dare soluzioni al paese ora presidente l'economia è una cosa seria fatta di numeri e si valuta l'economia in base agli impatti che quelle misure che oggi il governo ci propone che il Parlamento dovrà provare avranno sulla vita delle imprese e sulla vita dei cittadini gli impatti sono devastanti sono devastanti i bollettini economici che stiamo leggendo in queste settimane Istat Oxe Banca d'Italia fotografano una realtà diversa da quella che sentiamo ogni giorno in tv e leggiamo sui giornali e sentiamo la cantilena anche qui in Parlamento io cercherò in questi brevi minuti che mi sono concessi di spiegare economicamente cosa non va in questa legge di bilancio innanzitutto è una legge di bilancio costruita nel solco ideologico dell'austerità e le crisi dell'ultimo decennio non vi hanno insegnato nulla perché oggi come allora la spesa la considerate solo un costo da contenere da tagliare a prescindere senza considerare il possibile ruolo di motore della crescita Keynes per voi continua ad essere un perfetto sconosciuto la vostra posizione sul super bonus è proprio la riprova di quello che sto dicendo evidenziate la spesa con riferimento al super bonus ma non considerate l'effetto moltiplicatore di quella spesa lo avete anche voi questa misura utilizzata prorogata più volte e adesso la utilizzate per nascondere solo le vostre incapacità il debito pubblico per voi è solo una passività da ridurre solo non solo con cioè non con la crescita economica quindi il debito pubblico per voi è solo una passività da ridurre non con la crescita economica ma con i tagli e le privatizzazioni ignorando gli effetti che poi producono quei tagli e quelle privatizzazioni il ritorno del surplus primario il ritorno della flessibilità della precarizzazione del lavoro sono peraltro l'esatta conferma del peggior neoliberismo austeritario i cui risultati sono evidenti come dicevo una produttività stagnante una crescita dello zero virgola tagli alla spesa pubblica riduzione degli investimenti e della spesa sociale il mancato sostegno alla domanda la rinuncia a sostenere i salari divorati dall'inflazione e la decisione di non contrastare la povertà e di non salvare il servizio sanitario nazionale stanno ulteriormente indebolendo l'economia lo stato sociale e stanno indebolendo la sostenibilità del paese state anche sottovalutando le implicazioni che il calo della domanda ma soprattutto dei consumi delle famiglie ma aggiungo anche la possibilità di accesso al mercato del credito sia delle imprese che delle famiglie può avere effetti devastanti in un paese come il nostro ad alto debito avete programmato un avanzo primario strutturale del 3,2% che equivalgono a circa 50 miliardi di tagli che dovete fare nei prossimi anni altro che i ritori ci richiami alla crescita quando la crescita è dello zero o ai proclami di rafforzare il sistema sanitario e sostenere la transizione ecologica dimenticate che le regole di bilancio sono un mezzo per raggiungere un fine e non un fine in sé se il fine è promuovere la crescita occorre questa crescita sostenerla sostenerla con gli investimenti tracciando una politica industriale orientata all'innovazione soprattutto e il caso ILVA è l'emblema del falimento della politica economica del nulla che state portando avanti dove avete rinunciato a tracciare un percorso verso l'innovazione verso la riconversione di quell'impianto e soprattutto verso la diversificazione industriale di quel territorio oltre che di quella economica sociale e culturale per mantenere il debito pubblico su un sentiero sostenibile quindi è necessario tracciare delle nuove rotte razionalizzando eventualmente la spesa o sostenendo nuove spese produttive ad alto valore aggiunto l'assenza di una politica economica ed una crescita utopistica dell'1,2% del PIL che avete programmato quando oggi sappiamo benissimo che sarà massimo dello 0,7% per il 2024 è l'esatto contrario di quello che state dicendo sulla crescita economica del Paese questo produrrà un vuoto di bilancio questo differenziale che vi costringerà a partire da giugno ad approvare una manovra correttiva ve lo stiamo già dicendo avete per mesi portato avanti la politica quindi del piagnisseo che risorse non ce n'erano noi abbiamo avuto il coraggio di presentarvi una contro manovra dove abbiamo detto dove andare a prendere circa 35 miliardi vi sintetizzo alcune di queste misure la tassazione sugli extraprofitti bancari annunciati in pompa magna conferenza stampa e poi ritrattata il recupero in questo caso del vero buco di bilancio generato da quella falsa tassazione sugli extraprofitti energetici che non avete recuperato che ha lasciato draghi e voi non avete recuperati la rinuncia ad estendere il contributo di solidarietà anche ai settori farmaceutici assicurativo e bellico non avete razionalizzato i sussidi ambientalmente dannosi dove lì ci sono oltre 22 miliardi su cui si poteva agire non avete aumentato la tassazione sulle transazioni finanziarie oltre poi non avete aumentato la tassazione sull'economia digitale per non parlare poi della lotta allevazione fiscale che avete completamente rinunciato introducendo uno strumento il concordato preventivo biennale che sarà un fallimento così come voi stessi lo avete certificato dove avete stimato di poter riscuotere oltre 200 milioni di euro ora presidente è sempre più commovente la superficialità del governo ma soprattutto vorrei richiamare le ultime affermazioni che la presidente Meloni ha fatto proprio qui in quest'aula vestendo gli improbabili panni dell'economista quando ha fatto riferimento al rimbalzo del gatto morto ora presidente peccato che il salto della nostra economia è stato più alto degli altri paesi europei e la presidente Meloni questo lo ha dimenticato è peccato che la crescita economica che noi abbiamo realizzato ci ha permesso di essere la locomotiva d'Europa quindi mi rivolgo alla presidente Meloni il gatto non era affatto morto è stato vivo vegeto ed è saltato più degli altri adesso invece secondo gli ultimi dati economici che non sto qui a sintetizzarvi voi il gatto nero lo avete stecchito su un binario morto presidente concludo con una citazione di francesco etrarca che dice vana è la gloria di chi cerca la fama solo nel luccicare delle parole grazie presidente grazie senatore turco ha chiesto di intervenire la senatrice minasi per cinque minuti prego senatrice a facoltà grazie presidente governo colleghi con questa legge di bilancio che stiamo per votare si conferma ancora una volta la grande unità di intenti e di azione che caratterizza la nostra maggioranza e che ovviamente ci rendiamo conto che questo causa non poche preoccupazioni e malumori espressi in polemiche sterili e in maldestri tentativi di generare disaccordi da parte delle opposizioni ma questa nostra unità rappresenta uno dei principali punti di forza di questo governo che prosegue anche con questo fondamentale strumento di programmazione economica sulla strada segnata fin dall'inizio della nostra registratura ovvero il sostegno alle famiglie ai redditi medio-bassi e alle imprese ancora una volta dimostrando come ciò che conta per noi sono solo le esigenze del paese reale senza menzionare poi gli ingenti investimenti in termini di infrastrutture perché e nonostante il momento e la prudenza della manovra perché una finanziaria senza investimenti è una finanziaria che non ha visione e uno dei nostri fronti principali su cui agiamo è appunto quello del lavoro attraverso un pacchetto di misure che prevede interventi variegati utili a offrire nuove opportunità e liberare nuove risorse in un mercato che finora è stato soffogato da tassazione da burocrazia da decisioni politiche miope e vessatorie nei confronti degli operatori siano essi datori di lavoro o lavoratori che hanno appunto finora avuto solo l'effetto di contrarre l'occupazione e accrescere la povertà certo anziché limitarci a distribuire sussidi improduttivi che sarebbe stato molto più facile anche per noi noi stiamo costruendo le basi migliori per creare sviluppo e posti di lavoro che è quello che abbiamo promesso fin dal nostro insediamento e su cui stiamo puntando già da tempo ed ecco allora che le misure varate già nei mesi scorsi questa manovra ne aggiunge adesso altre altrettanto importanti e parto dal bonus assunzioni un provvedimento voluto in particolare dalla Lega per il quale le agevolazioni per le assunzioni non consistono più in una semplice decontribuzione impis come è stato finora ma in una max deduzione del costo del lavoro del 120% che aumenta e può arrivare fino al 130% per i nuovi assunti nel caso di categorie svantaggiate come gli under 30 i percettori di reddito di cittadinanza o le persone con disabilità strumento che siamo certi riuscirà a moltiplicare gli occupati offrendo appunto nuove opportunità alle imprese di poter creare lavoro e ai lavoratori di trovare un impiego e sempre nell'ottica di aiutare il lavoro manteniamo il taglio del cuneo fiscale del 7 e del 6% rispettivamente per i dipendenti fino a 25 a 35 mila euro destinando a questa misura 10 miliardi con aumenti dunque in buste paga che vanno dagli 80 ai 100 euro al mese e che ovviamente per i nostri avversari evidentemente abituati ad introiti ben più ghiotti sono briciole ma che invece per milioni di lavoratori che ne continueranno a verificiare rappresentano un aiuto importante per poter arrivare a fine mese con un po' più di serenità continuiamo poi a detassare i premi aziendali i fringe benefit fino a 2.000 euro per chi ha figli a carico alzando da 258 a 1.000 euro la soglia esentasse per tutti gli altri beneficio che si è usato in maniera intelligente da aziende lavoratori investendo sul welfare aziendale può appunto dare un ulteriore respiro sia al tessuto imprenditoriale che alle famiglie dei lavoratori rendiamo poi strutturare inoltre un'altra misura particolarmente utile al popolo delle partite IVA il cosiddetto bonus 800 cioè l'indenità di continuità redditoriale per gli autonomi che come sappiamo agisce da ammortizzatore sociale per chi registra forte calo di fatturato entro i 12.000 euro di reddito e grazie al quale le partite IVA accedono ad una sorta di cassa di integrazione fra i 258 e gli 800 euro a secondo dei casi e diventa in alcune condizioni fondamentali per il proprio sostentamento in un momento poi critico come quello attuale che stiamo vivendo e poi come intervento di grandissimo impatto dopo anni di immobilismo mettiamo finalmente mano ai contratti del pubblico impiego con un rinnovo da 5 miliardi per la pubblica amministrazione e di 2,5 miliardi per il personale medico sanitario fondi che in buona parte confliorà i ramenti retributivi e credo che questo può essere un grande successo per il governo che interviene dove gli altri fino ad ora non avevano nulla fatto sorvolo sulle pensioni su cui interverremo ovviamente in maniera più incisiva prossimamente ma qui voglio soltanto dire che le critiche arrivate da più parti e gli scioperi orditi dai sindacati erano ancora una volta solo strumentale opposizione politica perché nulla di quello paventato è accaduto abbiamo mantenuto opzione donna quota 103 lape sociale abbiamo rinnovato e confermato la rivolutazione al 100% per gli assendi fino a 4 volte il minimo mi voglio soffermare sulle tante misure di finisco subito di valenza di valenza sociale cioè manteniamo la social card prevediamo il bonus per le mamme lavoratrici con almeno due figli che vedranno aumentata la busta paga al netto diamo un respiro alle donne sulla conciliazione vita lavoro con il cogito parentale il bonus per gli asili nido istituiamo il fondo per il contrasto al disagio abitativo aumentiamo di 282 milioni di euro il fondo per la prima casa ovviamente un pacchetto di provvedimenti che andranno a incidere positivamente sulla vita delle famiglie voglio chiudere con le misure previste per il sud in particolare il bonus macchinari per l'acquisto di beni strumentali per gli stabilimenti produttivi collocati nel mezzogiorno misura che va ad aggiungersi all'importantissimo quadro di provvedimenti introdotto dal decreto sud e poi ovviamente il finanziamento per il ponte il finanziamento per il ponte sullo stretto che consentirà quindi l'approvazione da parte del CIPES del progetto definitivo e quindi consentirà di poter avviare ovviamente nei tempi previsti e voluti dal ministro Salvini e cioè entro il 2024 l'avvio dell'opera quindi alla luce di questa sintesi peraltro non complessa credo che il governo raggiungerà ottimi risultati e per questo io voglio nonostante il momento e la prudenza del caso quindi voglio ringraziare il presidente Meloni i vicepresidenti Salvini e Tajani il ministro Giorgetti e tutti i ministri e ovviamente tutta la commissione per il lavoro straordinario compiuto fino a ora e che ovviamente non si ferma qui grazie 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 senatrice Minasi ha chiesto di intervenire per nove minuti il senatore Verducci prego a facoltà grazie presidente presidente noi pensiamo che la manovra di bilancio che il governo Meloni ha imposto faccia male al nostro paese è una manovra cinica senza anima fatta di tagli fatta di inganni e di mance di giochi di prestigio e di sotterfugi a danno di tutti ma soprattutto a danno di chi è più debole di chi è senza difesa non c'è protezione in questa manovra per chi è in difficoltà questa presidente è la legge di una destra che non ha nulla di sociale ma è una destra delle diseguaglianze e il cui sottotesto è ognuno si arrangi da solo non è questa signori del governo la nostra idea di società e per questo abbiamo contrastato questa legge e per questo continueremo a farlo con tutta la forza e la determinazione necessaria avete imposto una legge di bilancio senza discussione mortificando il Parlamento annunciando tempi record e invece poi arrivando sull'orlo dell'esercizio provvisorio che è come dire sull'orlo del dissesto e ci avete condotto a questo perché siete divisi anche se non lo date a vedere perché siete arroganti e questo si comincia a vedere e perché siete sotto scacco dei mercati e delle agenzie di rating e questo si vede benissimo la vostra ossessione è stata non sfigurare davanti alla finanza internazionale avete fatto una manovra che forse potrà piacere a qualche circuito d'elite ma che sicuramente non potrà piacere agli italiani in questa manovra non ci sono investimenti è una manovra cieca senza un'idea di futuro non c'è niente per il lavoro quello da difendere e quello da creare non c'è niente per le imprese che sono la nostra spina dorsale altro che la vostra retorica sul made in Italy non c'è nulla per la crescita mentre il paese è fermo è in stagnazione è una visione d'Italia distorta che ingigantisce disparità e discriminazioni con questa manovra voi mettete a rischio il servizio sanitario pubblico nazionale continuate a riempirvi la bocca dicendo di aver aumentato i fondi ma è solo propaganda e lo sapete bene perché i vostri stanziamenti per la sanità non riescono a compensare né l'aumento dell'inflazione né il crollo del prodotto interno lordo e questo significa che la sanità pubblica sarà tagliata voi lo sapete ma non siete intervenuti continuate a raccontare la favola del record di risorse e invece lasciate che venga colpita che venga smantellata la sanità pubblica eppure e lo sapete nel nostro paese ci sono migliaia e migliaia di persone che non riescono a curarsi che non possono curarsi perché i tempi di attesa sono troppo lunghi anche per visite urgenti anche per gli esami oncologici quelli che sono indispensabili quelli che significano la vita e allora tante persone che rinunciano a curarsi perché non hanno i soldi necessari per andare dal privato per saltare la fila ecco presidente noi rifiutiamo questa idea di società dove chi ha i soldi può curarsi e dove chi invece non li ha è lasciato solo in un'attesa senza possibilità presidente non si può accettare che in questa legge non ci sia nulla sulle grandi sfide del nostro tempo innanzitutto la tutela del lavoro e dei lavoratori dentro la grande trasformazione digitale ecologica tecnologica che viviamo e che rischia di scaricarsi sui più deboli in Italia ci sono milioni di lavoratrici e di lavoratori poveri che si spaccano la schiena e l'anima che fanno più occupazioni contemporaneamente per arrivare alla fine del mese per provare a mettere qualcosa da parte ma in questa legge per loro non c'è nulla non c'è nulla perché questa destra ha voluto affossare la nostra battaglia di civiltà per il salario minimo tradendo l'attesa di oltre 3 milioni e mezzo di lavoratori poveri perché presidente sotto i 9 euro l'ora non è lavoro ma è sfruttamento e oggi c'è in Italia una miriade di persone costrette a lavorare per 4 o 5 euro l'ora che non riesce non può riuscire a pagare bollette affitti un mutuo e in questa legge non c'è niente contro il caro vita ci sono però molti soldi molti soldi miliardi per un'opera che tutti sanno che non si farà mai e dei cui appalti miliardari saremo costretti un domani a pagare penali miliardarie come ai tempi del governo Berlusconi e mi riferisco tutti lo sapete al ponte sullo stretto un'opera sbagliata che impatta su un ecosistema fragilissimo e che nessuno effettivamente vuole all'infuori del capriccio del vicepremier Salvini tanto che ci sono manifestazioni anche con la presenza di sindaci siciliani che chiedono di fermarsi e invece no la propaganda del governo non si ferma e dove prende il governo i soldi per far partire gli appalti del ponte per alzare gli stipendi ai manager del ponte come avete già fatto prende i soldi da chi è più debole voi togliete miliardi di risorse già stanziate dal fondo per lo sviluppo e la coesione sono risorse per la lotta la povertà per l'inclusione sociale per la casa per l'acqua per l'edilizia popolare per le infrastrutture territoriali per i lavori pubblici per il lavoro da oggi quelle risorse non ci sono più e questo è pazzesco Presidente non c'è nulla in questa legge sulle calamità naturali non c'è praticamente nulla sui crateri sismici voi voltate le spalle a intere comunità di un'entroterra senza servizi a cui avete negato la ZES la zona economica speciale a cui state negando la possibilità di una ripartenza non c'è futuro in questa manovra non c'è nulla per le nuove generazioni nulla per la scuola per l'infanzia nulla per gli asili nido tranne in realtà Presidente per uno un unico asilo nido uno soltanto quello del comune di Monte Reale Valcellina vicino Pordenone e io lo dico Presidente con tutto il rispetto di Monte Reale ma tutto questo un unico asilo nido e zero fondi per gli asili nido in tutta Italia dice quanto sia grottesca inquietante questa manovra non c'è nulla contro la povertà educativa nulla per l'indennità di discontinuità ai lavoratori della cultura tra i più precari che noi avevamo pensato come strumento di welfare universale e voi avete mortificato a mancia offensiva per pochi a fronte di molti tagliati fuori nulla per l'università la ricerca il diritto allo studio nulla per dare attuazione al contratto di ricerca che è stata una conquista storica contro il precariato nulla per il reclutamento di nuovi ricercatori nulla per permettere alle ragazze e ai ragazzi delle famiglie che non sono agiate di continuare a studiare di scommettere sul proprio talento di inseguire i propri sogni di quale merito parlate allora voi che avete inserito la parola merito nel titolo di un ministero e poi permettete solo ai ricchi di studiare la vostra è una gara truccata non avete rifinanziato il fondo per gli affitti eppure sapete che ci sono studenti in tenda da mesi negli atenei di tutta Italia che protestano perché è diventato impossibile riuscire a pagare le spese di un posto letto quelle della mensa dei libri dei trasporti in un paese il nostro dove le tasse universitarie sono tra le più alte d'Europa e dove non esiste un welfare studentesco concludo presidente un paese dove i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi lo dice la nostra costituzione devono poter andare avanti e invece si vedono preclusa la possibilità di una borsa di studio per mancanza di risorse dove la dispersione e l'abbandono scolastico e universitario sono un macigno troppo grande per troppi ragazzi non c'è niente in questa legge che parli di emancipazione di studiare niente che parli ai bisogni e alle aspettative che sono fuori da quest'aula fuori di qui c'è un mondo che avete tradito avevate promesso in campagna elettorale più pensioni e invece attaccate le pensioni in particolare quelle delle donne e dei dipendenti pubblici non c'è nulla per la non autosufficienza e questo è tremendo alzate l'iva sui beni di prima necessità come gli assorbenti o i pannolini per i neonati mentre le avevate abbassate sulla chirurgia estetica il vostro è un mondo fuori dalla realtà Presidente ho concluso propaganda fasulla carta straccia avete bocciato tutti i nostri emendamenti senza nemmeno discuterli ma noi continueremo a batterci per un'idea di paese alternativa alla vostra dove nessuno sia lasciato solo dove tutti abbiano la possibilità di realizzare il proprio progetto di vita grazie grazie senatore verduci ha chiesto di parlare del senatore gelmetti prego a facoltà grazie signor presidente come membro della commissione bilancio mi sembra doveroso ringraziare tutti i rappresentanti dei partiti che ne fanno parte quindi sia opposizione che minoranza in particolar modo i tre relatori e un ringraziamento speciale va al presidente Calandrini che ha saputo in modo ordinato condurre la commissione vi assicuro in un provvedimento ovviamente non semplice sia nella forma che nella modalità però purtroppo vorrei segnalare un fatto increscioso che prima il senatore Liris ha tentato di accennare perché alcuni giornali alcuni quotidiani hanno voluto fare un attacco diretto al vicepresidente della commissione pensando di essere spiritosi ma hanno mancato di rispetto ad una commissione hanno mancato di rispetto a tutti i commissari hanno mancato di rispetto all'istituzione che è la commissione bilancio e questo secondo me è un fatto molto grave che non deve più verificarsi qualcuno dei banchi dell'opposizione diceva che il governo lavorava col favore delle tenebre per scrivere questa manovra però io sommessamente vorrei ricordare che negli anni in cui noi eravamo l'opposizione e qualcun altro penso al partito democratico ma soprattutto ai 5 stelle eravate al governo le leggi di bilancio non è che eccellessero per organizzazione e tempistiche perché se dobbiamo guardare la legge bilancio del 2021 la legge di bilancio arriva al senato il 29 dicembre praticamente a un giorno dalla scadenza e proprio ad un passo dall'esercizio provvisorio che da sempre quando stiamo trattando il tema della manovra il senatore Patonelli minaccia come uno spauracchio continuo e permanente sempre nella legge di bilancio del 2021 il presidente della commissione pentastellato si diceva mortificato per il fatto che non sono riusciti a dare il mandato al relatore quindi anche questo per tempistiche e modalità sicuramente non per grande efficienza nella gestione della legge di bilancio e potrei continuare con tanti altri esempi quindi io non vorrei parlare di questo avere un confronto tra maggioranza e opposizione su questi temi perché secondo me non ne uscite bene però se vogliamo fare un discorso serio e costruttivo sulle fragilità dei regolamenti parlamentari sulle carenze di ammodernare la macchina dello Stato portandola verso l'efficienza la semplificazione sperando di superando un il monocameralismo alternato noi di fratelli d'Italia siamo pronti a discutere di questi temi perché noi abbiamo il senso dello Stato il governo sta mettendo in campo degli interventi costituzionali per migliorare la macchina organizzativa cambiare il bicameranismo paritario rafforzare la stabilità del governo e il sistema delle garanzie può aiutare l'Italia ad essere più libera più forte e più prospera ed è su questa direzione che il presidente Giorgia Meloni sta guidando il governo dell'Italia il provvedimento che stiamo di cui stiamo disquisendo e che ci accenderemo a votare in questi giorni è un provvedimento che ha subito poche pochissime variazioni rispetto all'approvazione fatta il 16 ottobre dal Consiglio dei Ministri e i principali temi i principali punti di riferimento che hanno scritto questa manovra sono la prudenza la responsabilità e soprattutto il senso di realtà di cui stiamo vivendo e c'è stata una completa discontinuità rispetto al passato è una questione di mentalità di un approccio diverso che abbiamo noi nell'affrontare i temi che riguardano tutti che riguardano i cittadini italiani però in questo anno se dobbiamo analizzare un po' l'andamento dell'economia della macroeconomia l'Italia sta andando bene perché la borsa affari sta facendo risultati che non faceva da anni il PIL italiano cresce di più di quello tedesco e francese che devono essere i nostri punti di riferimento come benchmark nella legge di bilancio come promesso dagli italiani e per noi le promesse vanno mantenute abbiamo ridotto il cuneo fiscale perché noi riteniamo che il fisco deve essere equo e quindi sono stati messi 10 miliardi in manovra il tutto sempre in un contesto difficile è inutile che ci dite che noi ci aggrappiamo alle solite congiunture internazionali ma queste congiunture ci sono e con le congiunture noi dobbiamo fare i conti perché sì ci sono due guerre l'aumento dei costi delle materie prime e tutto ma esistono anche delle problematiche interne sui quali noi dobbiamo fare i costi cioè fare i conti perché è inutile che continui il Movimento 5 Stelle presidente a decantare il super bonus il super bonus per noi oggi è una zavorra indicibile una una un super bonus che è costato 120 miliardi la nazione e che per i prossimi 5 anni noi dovremo accantonare 20 miliardi all'anno quindi cifre importanti in una manovra pensate che gira attorno ai 28 miliardi vuol dire che se 20 miliardi accantoniamo è una percentuale importante di quella che potrebbe essere una manovra finanziaria quindi un'eredità pesantissima che i governi precedenti giallorossi ci hanno lasciato fa specie poi leggere che l'Inps di recente ha chiarito che il provvedimento del super bonus ha attivato solo 1500 contratti di lavoro quindi se noi facessimo una semplice e banale divisione vorrebbe dire che avremmo speso 22 milioni e 600 mila euro per contratto una cosa fallimentare credo quindi parlo al senatore turco che non vedo tramite la presidente che io non citerei tanto Keynes ma chiederei alla guardia di finanza quanti sono i miliardi di truffe che il super bonus purtroppo ha certificato sono 12 miliardi 12 miliardi certificati vuol dire che potrebbero essere più del doppio senatrice Pirro poi dai sempre dei banchi dell'opposizione presidente ci viene detto che noi non abbiamo una visione che questa manovra non sostiene l'economia bisogna bisogna avere una visione complessiva non possiamo analizzare solo la manovra del 2024 perché la manovra poi ha dei collegati ad esempio abbiamo appena votato il decreto fiscale e poi grazie anche al governo Meloni cara opposizione siamo riusciti ad andare a ridiscutere quelli che erano i parametri e gli obiettivi del PNRR che voi ci avevate detto che era una cosa impossibile da fare li abbiamo ridiscussi li abbiamo li abbiamo si rivolga alla presidente senatore le abbiamo portati a casa e quindi per le imprese grazie al PNRR ridiscusso il governo e quindi il ministero delle imprese e il ministero dell'agricoltura potranno utilizzare per il rilancio dell'economia più di 12 miliardi quindi caro presidente la manovra non va vista solamente con i conti legati alla legge di bilancio 2024 ma va analizzata nel suo complesso perché un governo e uno stato che è stratega deve saper muovere su più livelli poi ci tengo i relatori hanno raccontato e elencato tutti gli obiettivi che questa manovra ha raggiunto ma ci tengo a raccontare un obiettivo che ho seguito io personalmente insieme al collega Anocco insieme al collega Tosato e Pirovano che è l'obiettivo di non far passare un terribile Natale a centinaia di famiglie che lavorano nei poligrafici perché siamo riusciti a trovare le risorse risorse importanti per portare al pensionamento diverse centinaia di lavoratori nel settore dei poligrafici e questo l'abbiamo raggiunto con un lavoro di squadra nel centro-destra con l'aiuto anche dell'UGL che ci ha sopportati supportati venendo però a non cioè mancando qualche attore importante nel settore sindacale perché la CGL ad esempio su questo settore non vedo non si è stracciata le vesti non ha fatto attività di moral suasion forse era più intenta a firmare contratti di lavoro che sono ben al di sotto i 9 euro piuttosto che sostenere lavoratori che erano in difficoltà e che rischiavano di passare un Natale terribile sulla sanità prima il collega Lombardo ha parlato del fatto che noi ci vantiamo di aver raggiunto il reco storico in valore assoluto e giustamente ci ha fatto notare che esiste l'inflazione tanto c'è da dire che l'inflazione col governo Meloni si è ridotta e di gran lunga quindi vuol dire che l'attività fatta paga e quindi i cittadini italiani possono stare più sereni ma non possiamo analizzare quanto detto dal collega Lombardo presidente in modo così generale generalista perché dire che i 14 miliardi di differenza che il governo Meloni ha messo rispetto ai 119 che veniva messo dal ministro della sanità nei precedenti governi penso al 2019 quando c'era un ministro che si chiamava Speranza i 14 miliardi sono ben oltre quello che è l'inflazione quindi rassicuro rassicuro il collega Lombardo che quello che ha fatto lei attraverso senatore ha un minuto finisco finisco quindi questa legge di bilancio getta le basi per rilanciare la nostra nazione noi di Fratelli d'Italia siamo molto ottimisti che questo sarà una sarà una legge di bilancio che letta come dicevo prima nel suo complesso avrà la possibilità di riportare l'Italia protagonista sugli scenari internazionali come lo è protagonista il nostro premier grazie a tutti grazie senatore gelmetti ha chiesto di intervenire per nove minuti la senatrice camusso questo è l'ultimo intervento in discussione generale per questa sera prego facoltà grazie presidente mi sono molto grazie colleghi se non volete ascoltare vi invito a uscire dall'aula grazie grazie presidente mi sono interrogata su il valore e il senso che ha questa discussione che dovrebbe essere una delle discussioni più alte del Parlamento perché stiamo discutendo della legge di bilancio e quindi delle scelte che si fanno per il Paese e sono abituata per la mia storia personale a ragionare sempre su che cosa si prospetta per il Paese a partire da un tema che si chiama il lavoro se dalle scelte che si fanno i lavoratori le lavoratrici ma da questo punto di vista anche la qualità delle imprese avrà degli effetti positivi oppure no e allora vorrei partire da una cosa su cui come aula non molto tempo fa ci siamo tutti insieme impegnati discutevamo di un'ennesima strage sul lavoro abbiamo detto che quella era una priorità per il nostro Paese e per il Parlamento perché quasi tre morti al giorno sul lavoro non sono sopportabili vorrei dire a tutti noi che gli infortuni quest'anno hanno già raggiunto il mezzo milione e allora forse uno si aspetta che nella legge di bilancio ci siano delle risposte non emergenziali perché la legge di bilancio non è l'ennesima emergenza su cui decretate ogni giorno ma è che prospettiva ti dai e allora mi sovviene che c'era un emendamento che proponeva sulla base delle risorse già esistenti all'INAIL quindi senza neanche pretendere come dire che ci fossero chissà quali investimenti di provare a costruire una relazione con quelle imprese che occupandosi di digitale di strategie della robotica e di nuova transizione digitale investissero sul fatto che il digitale fosse utilizzato per garantire la sicurezza dei lavoratori una piccola cosa di prospettiva che però ci aveva al centro il fatto che per noi per il Parlamento italiano difendere la vita dei lavoratori dovrebbe essere un obiettivo quotidiano eppure avete detto di no guardate ho anche il sospetto che non l'abbiate neanche letto che non abbiate neanche provato a capire che cosa c'era dentro quella proposta e se era forse ragionevole dedicare un afflato unitario a dei lavoratori che non sanno se torneranno a casa la sera dal lavoro anche perché confesso che mi stupisce ma ho avuto la sensazione che la parola del Ministero del Lavoro non fosse una parola importante in questa discussione sulla legge di bilancio perché forse se no avrebbe dato delle motivazioni per non farlo ho sentito molto discutere in questo periodo di un tema giustissimo per il nostro paese che si chiama natalità che si chiama anche la tenuta del sistema di welfare e del sistema previdenziale in ragione del fatto che il paese per fortuna ha una maggiore aspettativa di vita ma ha pochissime nascite eppure ho visto solo provvedimenti che riguardano famiglie che hanno già dei figli ma forse se dobbiamo occuparci di natalità dobbiamo occuparci di costruire le condizioni perché altre famiglie provino a fare dei figli perché se no la situazione è una situazione che non si muove allora vorrei ricordare a tutti noi che qualche giorno fa abbiamo analizzato anzi analizzato l'istituto le ragioni delle dimissioni volontarie e siamo di nuovo al fatto che ci sono più di 40.000 lavoratrici che hanno dato alle dimissioni perché non potevano conciliare la loro vita personale e il rapporto di lavoro anche qui c'è una piccola cosina che vi abbiamo proposto perché non diciamo che per quelle lavoratrici quando denunciano il fatto che non sono in grado di conciliare possano avere una sede che sono le sedi degli uffici regionali del lavoro in cui provare a costruire con le aziende delle forme di flessibilità che gli permettano di continuare a lavorare perché se no quella lavoratrice dovrà scegliere un minuto dopo se potrà fare un altro figlio oppure se non potrà più farlo ed è così che ammazziamo la prospettiva e la volontà delle lavoratrici e delle donne di essere madri e lo stesso vale per i congedi paritari ci avete provato a dedicare un occhio avete provato a ragionare se dentro quella scelta c'era anche una risposta positiva che provava anche a ridistribuire un carico del lavoro di cura che se non si ridistribuisce rende sempre più difficile il nostro welfare l'abbiamo provato a ragionare e lo diciamo molte volte rispetto a questa manovra sul fatto che guardare la prospettiva vuol dire anche guardare che cosa facciamo di un sistema produttivo industriale che è in grande difficoltà il va di Taranto Stellantis oggi un call center di quasi 500 dipendenti in Calabria ci sono migliaia di crisi aziendali ci sono settori che sono stati strategici per il nostro paese che oggi non hanno una risposta e non c'è una scelta dal punto di vista degli investimenti ma non c'è una scelta neanche dal punto di vista della protezione di quei lavoratori di fronte ai processi di ristrutturazione e alle preoccupazioni che ci sono io capisco che ci sia un giusto entusiasmo perché finalmente abbiamo dato una risposta ai lavoratori poligrafici vorrei dire che c'era un nostro emendamento che diceva quella cosa quindi non capisco perché venga rinfacciata all'opposizione ma non ci sono soli i lavoratori poligrafici in questo paese quando si danno risposte solo per alcuni settori e per altri non si danno in realtà si determinano delle diseguaglianze non delle risposte positive ed è la cosa che vi dico sui lavoratori fragili io capisco che volete far finta che il covid non ci sia che volete far finta che siamo tutti in salute che non ci sono più problemi ma in me ci dicono delle altre cose gli ospedali e le terapie intensive e allora davvero mi domando qual è la crudeltà che vi porta a pensare che quei lavoratori dobbiamo esporli al fatto che possano ammalarsi ma anche qual è il risparmio che pensate di avere da tutto questo perché certo non spenderete per fargli avere le condizioni di lavoro agile le condizioni per poter rimanere a casa e non contagiarsi ma le spenderete in sanità rendendo ancora più difficile un sistema sanitario di cui continuate a tagliare le risorse ci sono delle cose che davvero io non mi riesco a spiegare non mi riesco a spiegare perché non sono delle domande che richiedono chissà quale ammontare di risorse molto meno di quello che richiede il sogno del ponte sullo stretto di Messina che non è necessario e che invece distoglie tante risorse ma che farebbero tanto bene a tante persone avete detto ci sono grandi risposte per il lavoro vorrei dirvi che per un lavoratore italiano la busta paga di dicembre la busta paga di gennaio saranno uguali un lavoratore italiano nel 2024 non avrà un euro in più di quello che ha avuto nel 2023 per vivere non gli avete aumentato la retribuzione avete solo scelto che il cuneo continuasse a essere una norma che viene prorogata di tempo in tempo per rivendervela ogni volta ma non aumentate le retribuzioni dei lavoratori e lo dico anche rispetto al modo in cui state utilizzando i contratti nella pubblica amministrazione dove non contrastate la precarietà per carità perché è bene che le amministrazioni locali non siano nelle condizioni di lavorare bene per il PNRR ma nello stesso tempo quei contratti sono dovuti non è una vostra libera iniziativa di soddisfare le condizioni dei lavoratori i contratti sono dovuti e voi dovreste saperlo visto che avete esattamente usato i contratti di lavoro come arma per dire no al salario minimo e allora aumentate quei contratti di lavoro quando dite che ci sono organizzazioni sindacali che firmano contratti troppo bassi vorrei dirvi date uno sguardo alle pubbliche amministrazioni e date uno sguardo a quali appalti hanno e a quanto pagano per quelle retribuzioni vado a concludere presidente non parlo delle pensioni ci sarebbero molte cose da dire una cosa però credo sia necessaria ci avete raccontato che voi sì che aveste mandato i lavoratori e le lavoratrici in pensione con 41 anni di contributi i medici vi ringraziano perché sono a 46 con il vostro provvedimento ma vorrei chiudere su una cosa perché oggi è una giornata strana è una giornata in cui non si risponde ai lavoratori dell'ILVA di Taranto ma in un tribunale di Roma arriva la sentenza dopo l'assalto alla sede della CGL dell'ottobre del 2021 noi siamo contenti siamo contenti che ci sia stata giustizia esattamente perché un giudice c'è ma vorremmo dire al governo tramite lei Presidente e a tutto il Senato che troviamo un po' sconvolgente che in un anno in cui abbiamo trovato nuovi reati pene aumentate in cui sembrava che ci sarebbe stata qualunque forma d'ordine necessario si possa salutare con il saluto romano in un'aula di tribunale per contestare una sentenza io mi auguro che si apra un'indagine su quello che è successo grazie Senatrice Camusso questo era l'ultimo intervento come stabilito dalla conferenza dei capigruppo la discussione generale del disegno di legge proseguirà nella seduta di domani alle ore 10 passiamo ora agli interventi di fine seduta do la parola per tre minuti alla Senatrice Naturale Gisella Naturale prego Senatrice grazie Presidente continuo questa giornata fiume di interventi delusi per quanto è stato fatto sia nel disegno di legge Made in Italy e sia adesso che si è aperta la discussione generale sulla legge di bilancio parlare di turismo parlare di promozione significa parlare di infrastrutture parlare di sicurezza parlare di viabilità utile quindi significa parlare di strade e invece ci troviamo di continuo davanti ad interruzioni di quella che è una normale viabilità di quella che è una sana viabilità non siete riusciti a ridurre le accise sul garburante e non siete riusciti nemmeno a ridurre quelli che sono i tempi di manutenzione delle strade strade autostrade sono una continua interruzione che rende insicuro il transito e anche oneroso perché si è costretti in deviazioni che oltre a richiedere più tempo richiedono anche più carburante ovviamente pendolari costretti a questi giri di fortuna anche improvvisati quindi a trovarsi in situazioni davvero pericolose quindi si viene meno a quello che è risparmio si viene meno a quella che è la sicurezza voglio attenzionare una manutenzione della galleria passo del lupo tra la Puglia e il Molise che va avanti da quest'estate non si sa se riaprirà entro quest'anno i pendolari sono davvero allo stremo perché sono costretti a prendere o l'autostrada quindi aumentando i costi o una strada provinciale interna zone di montagna che questo inverno sarà anche doppiamente pericolosa vista la possibilità di neve e ghiaccio allora io voglio sollecitare il governo e tutti i miei colleghi ad attenzionare quella che è una velocizzazione dei lavori di manutenzione perché è impossibile continuare con continue interruzioni le autostrade sono impercorribili i tempi sono davvero troppo lunghi e allora i fondi stanziamoli per la manutenzione delle strade perché questo significa davvero parlare di promozione territoriale di made in Italy di turismo e quindi di benessere per tutti i cittadini italiani grazie grazie senatrice do lettura dell'ordine del giorno giovedì 21 dicembre 2023 alle ore 10 centoquarantesima seduta pubblica seguito della discussione del disegno di legge bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 bilancio pluriannale per il triennio 2024 2026 voto finale con la presenza del numero legale relatori Damiani Liris e Testor la seduta è tolta grazie a tutti Grazie a tutti.